preludio chi dice hollywood pensa subito a marylyn morrow ma è inutile che cerchiate in questo libretto un ritrattino o un'intervista con marylyn morrow non c'è sono stata hollywood più di una volta vi sono rimasta una lunga insopportabile estate sono entrata nelle case dei divi ho mangiato con loro ho fatto il bagno nelle loro piscine ho subito le loro lacrime le loro bugie e la loro boria ma non ho mai dico mai parlato a quattro occhi con la signorina jean mortenson in arte marylyn morrow e tutto sommato non mi dispiace sebbene siano molti gli ingenui che mi compiangono per questo infatti la mia avventura con la morrow che dura ormai da tre anni come una specie di scommessa o di maledizione è la più assurda che possa capitare a una giornalista la mia avventura cominciò a hollywood la mattina del 9 gennaio 1956 quando mi recai dal regista jean negulesco con una valigia piena di camice da uomo era la prima volta che andavo in america mi sarei trattenuta pochissimi giorni a hollywood e a new york e c'era solo un argomento che volevo affrontare da vicino marylyn morrow sapevo che da alcuni mesi incontrare l'attrice era diventato misteriosamente impossibile ma non me ne preoccupavo ero riuscita a intervistare soraya nella sua reggia di teheran nei giorni di maggiore tensione avevo parlato con townsend a bruxelles nel periodo in cui egli sfuggiva ai giornalisti come un gatto arrabbiato e pensavo che dopo tutto marylyn era soltanto una diva qualcosa di meno cioè di una imperatrice e di un pretendente alla mano di una principessa d'inghilterra la mia fiducia era alimentata inoltre da 12 camice da uomo che pepi lenzi un attore italo americano mi aveva consegnato a roma perché le portassi a jean negulesco l'attore le giudicava più potenti di una lettera di credito io ero convinta le avevo sistemate nella valigia con divozione e durante tutto il viaggio mentre gli altri si beavano a guardare l'atlantico e le isole azzorre il problema del loro trasporto mi aveva angosciato mi preoccupavo che non si sguaccessero dalla maggiore o minore freschezza dei colletti dedicati al signor negulesco mi sembrava che dipendesse il successo dell'intervista estrarle intatte dalla valigia dopo 30 ore di volo fu motivo di esaltante sollievo telefonai immediatamente al regista la parola camice ebbe un magico effetto disse che era ansioso di vedermi mi invitò subito a colazione nel suo bungalow della 20 century fox la mezz'ora che impiegai per arrivarci percorrendo l'interminabile sunset boulevard mi sembrò più lunga del viaggio in aereo negulesco mi aspettava sull'uscio di casa con un sorriso ansioso sul volto sanguigno mi ringraziò con effusione mi offrì vino francese non chiese neppure che cosa volessi mangiando parlò della sua vita dei quadri che faceva quando era un pittore affamato dei suoi vestiti delle sue scarpe delle quattro mogli che si era procurato non appena raggiunta la ricchezza e sembrava talmente convinto che mi fossi recata a hollywood per intervistare lui che fino al formaggio non ebbe il coraggio di deluderlo solo alla frutta portai il discorso su merlin morrow negulesco l'aveva diretta nel film come sposare un milionario cominciai col chiedergli che tipo fosse una ventinovenne carina rispose certo non si merita il successo che ha ma è terribilmente ambiziosa e lavora con impegno non è neppure un'oca come dicono è una timida piena di complessi di inferiorità quando gli altri parlano li ascolta a bocca aperta come se dicessero cose meravigliose quando la interrogano resta zitta per paura di dire sciocchezze talvolta balbetta non risponde mai a una domanda senza chiedere consiglio a un amico una volta un reporter le chiese che colore preferisse lei disse aspetti un momento venne da me chiese jean qual è il colore che preferisco bene osservai non te lo sei mai domandato e lei no dimmelo tu che sei un pittore bene dissi sceglierei il rosso bene disse lei e perché mi piace il rosso bene dissi perché è violento da nell'occhio come te bene disse lei e rispose al reporter che preferiva il rosso perché era violento come lei parlava tanto volentieri di merlin morro che alla fine decisi di dirgli la verità volevo intervistarla ed ero andata da lui con le camicie sperando che mi potesse aiutare di colpo negulesco si irrigitì mi guardò con odio non è a hollywood rispose secco lo so replicai da undici mesi infatti merlin aveva rotto con la 20 century fox alla quale la legava un contratto di sette anni ed era andata a vivere a new york si riteneva mal pagata voleva centomila dollari per film una somma pari a 65 milioni di lire e non era stato difficile per milton green la sua anima nera convincerla a fare quest'atto di rivolta a quel tempo la diva e il fotografo erano amici lei gli obbediva come a un padrone lo so che non è a hollywood insistetti ma lei può aiutarmi lo stesso se vuole negulesco scosse la testa si sbaglia rispose non ci posso far nulla nessuno può farci nulla lo sguardo gli cadde sulla valigia delle camicie arrossì un poco mi dispiace tanto aggiunse anche a me dissi ce la farò lo stesso di nuovo negulesco scosse la testa senta disse l'america è forse il paese più democratico del mondo può vedere chi vuole ma ci sono due persone alle quali non riuscirà mai a parlare a quattro occhi eisenhower e merlin morrow non ci credo dissi vedrà disse lui il viaggio a new york fu agitato la frase di negulesco e l'espressione quasi dispettosa del suo viso mi pesavano addosso come una minaccia era la prima volta che andavo a new york all'arrivo l'aereo si era fermato solo mezz'ora di notte e della metropoli avevo visto solo una fornace di luci abbaglianti eppure la signorina norma jean mortenson in arte merlin morrow ebbe il potere di rovinare il mio incontro con la città più seducente del mondo new york era davvero splendida coi suoi grattacieli camminare lungo wall street che alle due del pomeriggio è già buia faceva certo impressione la folla dei negri nel quartiere di harlem era davvero impressionante e così times square al centro di broadway alle nove di sera ma io vedevo tutto questo attraverso una nebbia e non lo gustavo perché solo una cosa mi premeva ormai l'intervista con merlin morrow ci pensavo mangiando lavandomi camminando per la città e l'ira mi chiudeva la gula non avevo nemmeno una camicia in cui sperare e la gente rideva quando confessavo il progetto vedere la morrow esclamò il corrispondente di un quotidiano di roma toglitelo dalla testa io la cerco inutilmente da sei mesi nessuno conosceva il suo indirizzo perfino la 20 century fox lo ignorava le saremmo grati se volesse darcelo quando lo avrà trovato dissero erano scettici e insopportabilmente ironici da un mese aggiunsero il saturday evening post stava cercando la stessa intervista e ancora non l'aveva ottenuta era come cercare la garbo dissero ai tempi della regina cristina telefonai ad alcuni amici del new york times il giornale più potente del mondo mi risposero che si trovavano nel medesimo impaccio telefonai a life a look a colliers mi risposero come se avessi detto che volevo invitare a colazione rockfeller ogni 20 giorni spiegarono miss morrow cambiava appartamento per non essere rintracciata giù di maggio il suo ex marito aveva aspettato tre giorni una sua telefonata chiuso in una camera di albergo la telefonata non era venuta milton green aveva nascosto a mary che joe la cercava joe era ripartito con l'esaurimento nervoso eravamo arrivati a new york la mattina di giovedì la sera di venerdì mi mancava ancora la più piccola indicazione i colleghi italiani partecipavano alle ricerche col mio stesso furore come se l'intervista avessero dovuto farla loro eravamo indispettiti indignati accettavamo ogni suggerimento con ostinazione infantile le piace il jazz ci dicevano provate ad andare dove suonano il jazz ci ricavamo nei night club famosi per complessi di jazz e per ore e ore ci facevamo assordare dai tamburi dei negri o sopportavamo i miagolì delle cantanti di blues scurtando la penombra alla ricerca di una testa platinata che assomigliasse a quella di marylin le piacciono i locali eleganti perché non andate al morocco ed eccoci al morocco assonnati negli abiti da sera a interrogare i camerieri per avere notizie talvolta ci dividevamo le indagini uno andava al teatro uno al cinema uno al ristorante dove la si poteva trovare visitammo in sole due sere 12 ristoranti 18 night club 8 cinema 14 teatri gin govoni salvadore un'amica romana che a new york conosce gente importante sembrava impazzita dopo le inutili escursioni il suo bel volto bianco incorniciato dai capelli rosso fiamma sembrava quello di una malata mi toccava consolarla dicendola di farsi coraggio ci saremmo riuscite fu gin alla fine ad avere l'idea di telefonare a irving hoffman colui che avrebbe messo a suo quadro new york e mi avrebbe procurato un isperato quarto d'ora di pubblicità irving è uno dei publicity man più noti d'america non c'è personaggio al mondo che irving non conosca fu lui ad accompagnare la regina elisabetta a mangiare gli hot dog in un drugstore quando non ancora salita al trono essa venne con filippo negli stati uniti conosceva marylin come le tasche della sua giacca non c'è cosa al mondo che non farei per hoffman aveva detto un giorno la diva gli chiedemmo aiuto con lo stesso tono di voce con cui si telefona a un medico nel cuore della notte è semplicissimo disse irving ho perfino il suo indirizzo 60 sat on place ora le mando un telegramma quella sera mangiamo tutti con appetito e andammo a letto senza visitare nemmeno un nightclub ci addormentammo sognando irving hoffman ma l'indomani egli telefonò e la sua voce era triste l'indirizzo era sbagliato da un mese marylin non abitava più lì il telegramma era tornato al mittente bisognava avere fiducia ora telefonava a mitch miller il celebre suonatore di oboe miller conosceva marylin ma non il suo recapito era necessario rivolgersi ad arthur jacobs disse che era il suo agente pubblicitario e però viveva in california irving spedì un telegramma ad arthur jacobs il quale rispose di ignorare l'indirizzo ma conosceva uno che poteva averlo ed era earl wilson famoso columnist earl wilson era nell'arizzona e rispose che non sapeva nulla però c'era uno che poteva saperlo steven kaufman uno degli uomini più ricchi di new york ammiratore di marylin steven era in città ci ricevette nel suo lussuoso appartamento ci dette un bicchiere di whisky e disse please now relax per favore ora calmatevi e ci consigliò di rivolgerci al giornalista leonard lyons che certo sapeva telefonamo a leonard lyons ma la moglie silvia rispose che leonard era partito per mosca col suo tacquino di indirizzi e bisognava rivolgersi a earl blackwell quello che gli americani chiamano mister celebrity perché ha l'indirizzo di tutte le celebrità earl blackwell era a chicago rispose mortificato che l'indirizzo di marylin era l'unico che non avesse aggiornato bisognava interrogare frank farrell altro famoso giornalista che conosceva delani l'avvocato di merlin morrow il quale forse ci avrebbe aiutato perché aveva la moglie italiana delani risultò irreperibile ormai tutta new york sapeva che una giornalista italiana stava cercando di intervistare la morrow e non ci riusciva così dopo tre giorni cominciarono a telefonare giornalisti che volevano intervistare me vorrei fare un articolo su questa storia dicevano e stupivano che io stupissi qualcuno mi aspettava nella hall dell'albergo per farmi la fotografia volevano il mio curriculum vite si interessavano a qualsiasi cosa facessi quando io e jean restammo chiuse per sbaglio in un teatro della quarantottesima strada e fummo costretti a dormire quasi tutta la notte su due poltrone della platea il columnist louis sobol raccontò l'incidente da allora ci muovemmo con cautela impaurite quasi fossimo osservate ogni momento da migliaia di occhi basta così poco in america per acquistare un momento di celebrità io e jean ci eravamo riuscite nostro malgrado ed eravamo atterrite non avevo più voglia di intervistare merlin morrow ma per nessuna ragione ora avrei potuto confessarlo e abbandonare le ricerche sarebbe stato una specie di scandalo ero ormai la giornalista che è venuta per trovare la morrow e dovevo a ogni costo recitare la mia parte decine di persone cercavano di aiutarmi a new york e in altre città d'america in una gara di gentilezza nazionale e non mi era concesso di deluderle ogni ora della mia giornata doveva essere dedicata alle indagini quando volevo andare a spasso o fare gli acquisti dovevo uscire di nascosto e lo facevo con un senso di colpa come se imbrogliassi l'intera città la morrow era ormai un personaggio secondario in un gioco che diventava sempre più impegnativo irving offman non lavorava più per cercare l'indirizzo e la sua faccia diventava sempre più bianca i suoi occhi miopi dietro le lenti avevano un sguardo sempre più spento quasi doloroso aveva trovato l'indirizzo di milton green e gli aveva scritto una lunga lettera alla quale l'ex fotografo non si era degnato di rispondere presto la notizia giunse fino a luella parsons luella non conosceva l'indirizzo di marylin ma promise di aiutarci e di descrivere i nostri sforzi sulla colonna giornaliera che pubblica contemporaneamente su 300 quotidiani intanto suggeriva a irving di parlare a sam show altro fotografo di marylin irving telefonò a sam show e subito dopo venne a cercarmi con voce rotta dall'emozione marylin abitava al numero 2 di saturn place nello stesso edificio di milton green bene dissi andiamo mi guardò annichilito siamo in america credi di poter aggredire un personaggio come la morro senza preavviso nessun portiere ti farebbe varcare la porta prima le scriveremo una lettera la lettera venne spedita la sera stessa e poche ore dopo tutta new york lo sapeva ricominciavano le telefonate dei reporter le loro attese nella hall del mio albergo luella parsons richiamò da hollywood jean aveva l'emicrania io avevo mal di stomaco non potevamo andare a un cocktail senza essere subito individuate accerchiate interrogate volavano le scommesse riuscirà la giornalista italiana a intervistare la morro molti giuravano di sì altri sostenevano che milton green non lo avrebbe permesso l'ha ipnotizzata capisci ne fa quel che vuole e la tiene nascosta per renderla più interessante capirai quella povera ragazza è la banca d'inghilterra certi sostenevano che marylin non leggeva nemmeno le lettere e i telegrammi qualcuno le leggeva prima di lei e gli elideva solo se lo riteneva opportuno la diva sapeva e subiva era torturata dall'idea di essere stupida e aveva bisogno di qualcuno che decidesse al suo posto per questo leggeva dostoevsky cercava di istruirsi e studiava recitazione all'art laboratory di elia kazan per questo era fuggita da hollywood città che odia e restava new york città che ama perché ci si nasconde facilmente in pubblico si faceva vedere solo quando milton green lo riteneva opportuno e allora era capace anche di recitare la parte della ragazza soddisfatta e vivace indossando gli abiti che un famoso industriale le fabbricava gratuitamente per poi lanciarli come i modelli di merlin morrow e fingendo di bere grossi bicchieri di whisky che invece come qualcuno aveva avuto modo di constatare nient'altro erano che tè ghiacciato spesso poi spariva di circolazione o andava nel connecticut a passare le giornate insieme con la moglie di milton green emi brunetta sottile e attraente per la quale si diceva che merlin avesse una esagerata amicizia quando era via l'ex fotografo controllava la sua casa aveva le chiavi dell'appartamento e vi girava da padrone fu infatti milton green che al quarto giorno rispose alla telefonata di irving offman il fatto che irving avesse il suo numero lo irritò rispose che merlin non c'era e semmai l'avrebbe avvertita fu un grave colpo per irving e anch'io quando vidi la sua faccia dolente cercai di mostrarmi molto dispiaciuta bene dissi a questo punto non c'è proprio più nulla da fare tanto vale che prenda l'aereo e torni a casa mia rinunciavo volentieri a new york pur di uscire da quell'incubo ma irving disse di no che non potevo partire le decine di persone che avevano lavorato per me erano riuscite a rintracciare lois beber press agent e amica di merlin e lois beber aveva telefonato promettendo in ogni modo di avvertire merlin mi avrebbe chiamata non appena avuto l'appuntamento era dunque necessario che restassi in albergo e non mi muovessi da lì questo era davvero noioso ma non potevo offendere la cortesia di tante persone e fu così che dovetti rassegnarmi a passare in una camera al diciottesimo piano del park sheraton hotel dinnanzi all'apparecchio della tv le mie ultime 48 ore a new york fu la più insopportabile indigestione televisiva che avessi mai fatto dopo un giorno e una notte di reclusione avevo visto 14 film cinque incontri di pugilato otto partite di rugby dieci notiziari tre opere cinque operette sette programmi per bambini due spettacoli a beneficio dei poliomilitici 18 programmi musicali due lezioni di cucito quattro di pediatria un centinaio di annunci potevo ormai cucinare ogni soufflé di formaggio fasciare il più bizzoso dei neonati cantare qualsiasi canzonetta da cowboy descrivere con perizia il colpo che aveva fatto vincere sugar robinson su bob olson raccontare gli avvenimenti dell'indocina spiegare al più ignaro perché il succo di pomodoro fabbricato nel tennessee è migliore di quello fabbricato nell'oklaoma tutto questo mentre rispondevo al maggior numero di telefonate della mia vita mi telefonò anche guido orlando un oriundo abruzzese che si fa passare per un amico di d'annunzio e si è battezzato da solo il re della pubblicità orlando che godette da noi qualche attimo di fama nel 48 quando piantato all'escelsior di roma sembrava più indaffarato di de gasperi alle elezioni è un modesto public relationist provoca dietro pagamento ricevimenti notiziole articoli su un prodotto o su un personaggio ometto da nulla di scarsa educazione e cultura è abilissimo soltanto nel vendere le fandonie della pubblicità e nel raccogliere pettegolezzi utili dopo aver definito la mia storia sensazionale mi offrì di tenere una conferenza stampa ed innalzare la mia fama a quella di elsa maxwell respinsi l'invito spiegando che ero ammalata mi dolevano gli occhi la schiena gli orecchi che aveva un principio di esaurimento nervoso fra l'altro non era nemmeno una bugia orlando non rimase convento telefonò a igor cassini che col nome di cholly knickerbocker tiene la rubrica più letta d'america mi fece parlare con lui cassini disse che era una storia squisita che mi ringraziava per avergliela raccontata che l'indomani avrei potuto leggerla sul journal american una intervista con knickerbocker era il massimo con cui una persona desiderosa di pubblicità potesse aspirare straordinario diceva orlando straordinario si infuriava quando io gli dicevo che non avrei considerato meno importante se avessi intervistato io il signor knickerbocker detestavo marylin con tutte le sue curve e le sue paure e i suoi riccioli d'oro sognavo soltanto di partire dopo tutto l'avevo vista ebbene in un negozio di times square dove le famose fotografie in cui appare nuda distesa su un tappeto rosso erano esposte in vetrina e si vendevano liberamente a 25 cents l'una 5 per un dollaro inutilmente la buona miss mi telefonava affermando che marylin sarebbe stata felicissima di incontrarmi tutto stava nel rintracciarla perché non era tornata più a casa il martedì pomeriggio giorno in cui avevo prenotato il mio posto in aereo giunse come un dono divino feci in fretta i bagagli mi precipitai all'aeroporto cantando l'aereo stava in mezzo al campo di idle wild lucido immenso l'avrei accarezzato mi dispiaceva che jean fosse così triste mentre mi sentivo così sollevata e che irving ci accompagnasse con le lacrime agli occhi mancavano dieci minuti alla partenza quando mi chiamarono al telefono era lois weber e aveva la voce trionfante mi disse che finalmente tutto era a posto avrei potuto incontrarmi con marylin uno dei prossimi giorni forse l'indomani stesso grazie risposi il mio aereo sta per decollare i miei bagagli sono già a bordo mi saluti marylin e le dica che non le porto rancore se viene in italia sarò felice di vederla può telefonarmi a milano in qualsiasi momento l'altoparlante ora chiamava i passeggeri corsi a mettermi in fila chi era chiese irving con un lampo di sospetto dietro gli occhiali un'amica risposi voleva salutarmi le ho detto che venga in italia oh disse irving deluso invece io uscivo liberata da un incubo mentre l'aereo decollava guardavo i grattacieli senza rimpianto la notte sopra l'atlantico dormi come un angelo giunta a milano scrissi un articolo che mi fu pagato il doppio degli altri alcuni lettori mi mandarono mazzi di rose per consolarmi di ciò che avevo sofferto altri lettere di simpatia per due mesi continuai a ricevere i ritagli che irving offman mi spediva ostinato erano piccole cronache dove si parlava più di me che di marylin ma dove il mio nome risultava dolorosamente storpiato sicché non potevo esibirle per dimostrare quanto fossi famosa negli usa in un solo ritaglio il mio nome era esatto quello con la cronaca di igor cassini che aveva dedicato metà della sua rubrica a me e metà al re baldovino si concludeva così marylin how precious you are ma marylin quanto sei preziosa lo attaccai al muro di redazione frenando l'orgoglio certo mi scottava un poco pensare che ero andata in america con l'intenzione di intervistare la morro e non l'avevo incontrata nemmeno di striscio quando leggevo un articolo di un collega che era stato più bravo di me arrossevo di vergogna e nascondevo il giornale in redazione mi burlavano ci sono due cose dicevano i perfidi che in america tutti vedono senza fatica l'empire state building e la morro sei sicura di aver visto l'empire state building poi irving offman si stancò di inviarmi i ritagli i colleghi smisero di torturarmi misi l'animo in pace volle dimenticare la morro passarono quasi due anni in questo oblio delizioso marylin aveva nel frattempo liquidato milton green e sposato arthur miller decine di giornalisti in quell'occasione avevano parlato con lei a pochi centimetri di distanza una intervista con lei non era più un colpo sensazionale con ipocrita serietà ripetevo a me stessa che non mi sarebbe importato vederla ormai se l'avessi incontrata in un bar avrei distolto lo sguardo annoiata ero sempre in europa o poco più in là marylin viveva a new york e non c'era pericolo che un simile incontro avvenisse ma giunse inesorabile il giorno in cui mi spedirono nuovamente in america per fare questa inchiesta su hollywood e il mio aereo diretto a los angeles si fermava a new york amo new york ma il ricordo di ciò che vi avevo sofferto mi toglieva ogni voglia di andarci io non esco nemmeno dall'aeroporto di idlewild dissi con falsa non curanza al giornale cambio l'aereo e vo subito a hollywood i perfidi furono di parere diverso no no facci una scappatina magari un giorno soltanto potrebbe servire scesi a new york dopo tutto non dovevo mica vedere marylin morrow o scrivere qualcosa su di lei era un'alba bagnata di sole mi sentivo quasi leggera com'è bella questa città senza l'incubo di marylin morrow i grattacieli sembravano più alti i negri più neri il rombo della sotterranea aveva la dolcezza di una canzone d'amore sì sì ogni complesso era svanito marylin poteva abitare a new york senza turbarmi potevo perfino telefonare a irving hoffman senza il pericolo di dargli fastidio irving venne ed era sempre palido e miope col suo cappello sulla nuca e quell'aria eccitata dio com'era buono il whisky senza parlarmi di marylin com'era simpatico irving a non fare il suo nome parlava delle elezioni parlava del mio vestito a sacco che in america ancora non era di moda e sembrava ridicolo parlava dell'ungheria dove avevo fatto capolino durante la rivoluzione come ti invidio erano così eroici i partigiani ungheresi sorrideva affettuoso e non mi accorgevo che rimandava un discorso infatti all'improvviso il sorriso gli sparì dalle labbra e cupo quasi mi annunciasse una catastrofe familiare irving disse darling sarebbe disonesto se io tacessi darling dovresti farci un articolo darling non mi guardare così darling marylin aspetta un bambino oh no 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 gridai rovesciando il whisky un sudore ghiaccio mi bagnava la fronte bisogna sapere cosa sono i giornali per capire quanto sia importante per loro la notizia che marylin aspetta un bambino è importante per loro come una guerra come la morte di un papa come il matrimonio di un re e un giornalista che non dà al suo giornale una notizia importante sapendola è considerato alla stregua di un traditore mi alzai barcollando accompagnami irving dissi sto male facciamo la strada fino all'albergo in silenzio mentre io meditavo il mio tradimento no non avrei permesso a marylin morrow di rovinarmi anche queste poche ore a new york non avrei ricominciato quella stupida caccia per lei non avrei scritto l'articolo dopotutto il mio lavoro era ad hollywood presi la chiave della mia camera e dissi a irving guardandolo bene negli occhi io non so nulla tu non mi hai detto nulla intesi intesi rispose irving c'è un telegramma per lei disse il portiere lo aprì mentre un brivido mi correva lungo la schiena diceva prego ti urgenza inviare duemila parole voci monroe aspetta bambino stop europeo fu la risata di irving a non farmi svenire irving rideva come non ho mai visto ridere un uomo selvaggiamente dolorosamente bagnando gli occhiali di lacrime rischiando di soffocare quando si calmò paunazzo come una fragola il mio shock era superato mi sentivo disposta a tutto ed eroica bene dissi come uno che va a morire credi di potermi aiutare stavolta a vedere la morrow non so come accadde qualsiasi legge fisica conferma certi fenomeni come impossibili al momento in cui cominciai la frase irving era davanti a me vivo lo potevo vedere e toccare quando l'ebbi finita non c'era più non posso insistere neanche su questo secondo episodio perché il mio medico dice che nuoce al mio sistema nervoso la sera stessa c'era la prima de il principe e la ballerina il film girato con lores olivier mary morrow sarebbe intervenuta non avevo tempo di cercare un colloquio con lei ma potevo almeno vederla come migliaia di altre persone all'ingresso del cinema tutto sommato avevo abbastanza fortuna così raccolsi le notizie su quella importantissima gravidanza visitai l'ospedale dove marylin aveva prenotato la camera cominciai a scrivere le mie duemila parole mi diressi al radio city music hall dove si dava la prima del film era un poco in ritardo ma anche marylin è sempre in ritardo e il mio tassista era molto veloce subito raggiunse la quinta avenue per attraversarla ma quasi all'angolo fra la 54esima strada est e la quinta avenue fermò che succede domandai con un senso di presagio una parata rispose il tassista una parata giri da un'altra parte mi lamentai ci provi le cedo il volante disse masticando chewing gum infatti eravamo circondati pressati imbottigliati dentro decine e decine di automobili solo chi ha guidato un'automobile nel centro di new york può capire che cosa significhi trovarsi bloccati nel traffico ma io ho fretta singhiozzai vado a piedi disse lui scesi sbatacchiando lo sportello senza dargli la mancia mi insinuai spiaccicandomi tutta fra gli invisibili corridoi che ancora restavano fra automobili e automobile raggiunsi la quinta avenue precedute dalle trombe e dai tamburi passavano le belle ragazze in gonnellino gli studenti delle scuole superiori le madri di famiglia con le bandiere i mutilati di guerra nella più lunga parata che avessi mai visto non so che parata fosse non lo chiesi e non me ne importa patapum zanzà facevano i tamburi mi lasci attraversare la supplico patapum zanzà al di là della quinta avenue c'era broadway e in broadway c'era il radio city musical dove arrivava marylin dove va honey non si può attraversare urlò un poliziotto afferrandomi un braccio please ripetevo è urgentissimo patapum zanzà patapum zanzà mi scaventò contro il muro minacciò di arrestarmi se avessi ancora tentato di disubbedire do you have to go to the court lentamente con l'animo rassegnato di chi non può fare nulla contro il destino cominciai a percorrere il marciapiede destro della quinta avenue cercando un punto dove si potesse attraversare per raggiungere broadway lo trovai finalmente dopo 12 blocchi entra in broadway sì arrivai a radio city sì ma ero in ritardo di 40 minuti sul ritardo di marylin marylin non c'era più che pupa diceva la folla l'avevano vista tutti naturalmente che zigzag sembra che avesse i capelli spettinati e fosse vestita di raso color crema completai le mie 2000 parole senza aver visto l'amour raw poi proseguì il mio viaggio per hollywood poi tornai in italia e quattro mesi dopo mi rimandarono spietati in america sembra che i corrispondenti dei giornali abbiano tanto da fare e che si debba aiutarli ogni tanto sembra che anche la faccenda della lingua sia molto importante se uno parla bene il francese lo mandano in germania se uno parla bene il tedesco lo mandano in francia se uno parla bene tutte le lingue lo tengono a casa se uno parla bene l'inglese lo mandano in russia io parlo l'inglese e mi mandano in america e tornai per la terza volta a new york ma stavolta ero rassegnata sapevo già quello che mi aspettava avevo con me la lista degli argomenti che avrei dovuto trattare qualcosa su elisabetta d'inghilterra che si recava negli stati uniti in forma ufficiale per rafforzare dice i buoni rapporti fra i due paesi qualcosa sui gangster qualcosa su mickey spillane una inchiesta su broadway una sul natale e un articolo sui coniugi miller voglio dire marilyn e arthur miller voglio dire arthur miller e marilyn morrow sì sì non c'è bisogno di raccontare che riservai quell'argomento proprio per ultimo per un mese e mezzo non ne parlai a nessuno tanto mi nauseava irving non voleva nemmeno vedermi ogni tanto gli telefonavo ma prudente diceva che aveva raffreddore che suo fratello era all'ospedale suo padre in fin di vita e io fingevo di crederci con ci vediamo che lo rendeva freddissimo ma a un certo punto dovetti affrontare il problema o lo feci senza entusiasmo sapete anzi lo feci sperando che i coniugi miller rispondessero no tanto se non lo avessi scritto quell'articolo chi si sarebbe stupito lo sapevano tutti al giornale che una specie di maledizione gravava su di me quando dovevo incontrare marilyn morrow non feci nemmeno il nome di marilyn sapete il medico dice che nuoce al mio sistema nervoso feci solo il nome di miller lo feci a un press agent che lavorava con regista manchevich e che si chiama mike mindlin glielo feci con la maggiore indifferenza possibile dovrei incontrare artur miller dissi due giorni dopo partivo quando si dice sfortuna mike è ebreo e miller è ebreo mike si definisce radicale sapete quegli americani all'opposizione che predicano il liberalismo ma guardano i comunisti così e così e miller si definisce radicale specialmente dopo il processo mike è amico di amici di miller che sono anche amici della morrow ebbi l'appuntamento in mezz'ora ci sarà anche marilyn domandai delusa ci sarà anche marilyn disse mike trionfante aggiunse che marilyn conosceva la mia storia perché gliel'aveva raccontata irving hoffman e sarà molto divertita desiderava conoscermi sicché a un certo punto dell'intervista con miller sarebbe entrata nella stanza per darmi il caffè bene mi lamentai e partì per l'ultimo capitolo della mia avventura con marilyn morrow l'appuntamento era proprio a casa dei coniugi miller nella 54esima strada est un quartiere delizioso ed elegante poco lontano da madison avenue warren fisher press agent di marilyn mi accompagnava io ero contenta l'idea di incontrare la morrow senza averla cercata dopo tutto mi piaceva un portiere sospettoso ci portò al tredicesimo piano suonò con cautela arthur miller venne ad aprire e il vano della porta lo inquadrò come un franco bollo inquadra la testa di un re indossava un paio di pantaloni grigi senza la piega e un golf di lana blu inchiostro sul volto magro e abbronzato reso più pensoso dagli occhiali a stanghetta c'era un'espressione timida e gentile mi sembrò incredibilmente alto incredibilmente forte e bellissimo forse perché era inquadrato come un franco bollo pensai che gli americani avrebbero dovuto eleggerlo presidente anziché condannarlo a un mese di prigione sarebbe stato un presidente così decorativo lo salutai stringendo una mano larga e nodosa da falegname nell'ingresso proprio di faccia alla porta c'erano due ritratti di lincoln se lincoln non avesse portato le basette li avrei detti due ritratti di miller gli assomiglia davvero come dicono esclamai miller ebbe un sorriso impacciato e ficcò le mani in tasca dondolandosi sui larghissimi piedi quasi a nascondere l'imbarazzo un tempo disse questa storia mi dava fastidio ho troppo rispetto per lincoln e non ci credevo ma un giorno mia figlia jane trovò una moneta con la testa di lincoln e si mise a gridare che avevano stampato sui soldi papà così mi rassegnai e decisi che c'era qualcosa di vero gli assomiglio soprattutto nella parte sinistra disse coprendo metà del ritratto e avvicinandoci la faccia parlava a voce bassa e lenta con una sfumatura di ironia e un'infinita pazienza come se ripetesse un discorso venuto a noia gli domandai se i ritratti fossero suoi e se li avesse sistemati in quel punto per prendersi in giro no no disse miller appartengono a marylin li aveva prima di conoscere me credo di esserle piaciuto soprattutto per questo quello sopra lo teneva a capo del letto ma quando ci sposammo la pregai di spostarlo non potevamo dormire con lincoln che ci fissava in quel modo severo mi metteva a disagio entrammo nella stanza di soggiorno miller esitava sembrava volesse dirmi qualcosa poi non la disse nella stanza c'era un pianoforte un divano qualche poltrona un bar pieno di bottiglie intatte marylin e arthur sono a stemi abbiamo affittato questo appartamento da molto tempo ma l'anno è stato troppo movimentato prima il film in inghilterra poi il processo poi la gravidanza interrotta solo ora cominciamo ad arredarlo con mobili nuovi disse miller la lampada illuminava suggestivamente le sue guance scavate il naso imperioso i grandi occhi in nocciola che scrutano la gente con inaspettata bontà e l'incipiente calvizie ma guardavo in direzione dell'uscio in attesa che marylin arrivasse col caffè marylin tiene molto alla casa anche perché passiamo in casa la maggior parte delle giornate disse miller le nostre amicizie sono limitate a spasso andiamo pochissimo sapete che cosa succede con marylin blocca il traffico per la strada e non basta che si nasconda dietro un fularo gli occhiali da sole la riconoscono dal modo di camminare ci ho fatto ormai l'abitudine ma in un certo senso mi dà un po fastidio guardavo verso la porta sarebbe entrata di lì o dalla stanza che si intravedeva dalla mia destra evidentemente aspettava che l'intervista col marito fosse meglio avviata miller si accorse del mio sguardo un po ansioso di nuovo sembrò sul punto di dirmi qualcosa ma non lo disse abbiamo solo un'automobile che ci servirebbe averne due guida sempre lei perché sono distratto e non ho il senso della direzione non ci teniamo all'eleganza quanto al personale di servizio c'è solo una cameriera negra di 50 anni che spesso non fa nemmeno da mangiare disse miller marylin è una brava cuoca sa fare bene gli spaghetti e il pane chissà perché parlava tanto di lei non gli chiedevo di parlarmi di lei l'argomento che volevo affrontare era il processo ce lo portai con fatica è evidente che me lo avrebbero fatto con meno entusiasmo se non avessi sposato la morro disse miller il comitato per le attività anti americane aveva bisogno di nomi squillanti e non a caso la prima lista nera era stata fatta a hollywood e la seconda alla tv broadway che raccoglie una elite di persone poco conosciute al grosso pubblico non ha mai avuto una lista nera parlò a lungo del processo fatto nel 1948 agli hollywood ten i dieci scrittori di hollywood che si rifiutarono di fare nomi dei comunisti e vennero condannati per questo il regista elia kazan il regista robert rossan e il clarinettista erti show invece fecero i nomi per non distruggere la propria carriera così questi lavorano e fanno quattrini gli altri non possono scrivere per hollywood nemmeno una cartolina di auguri qualche volta lavorano con nome falso per guadagnare guardai ancora verso la porta ma perché non ci portava il caffè il caffè non si fa mica aspettare due ore che strana ragazza vuole un bicchiere di latte chiese miller grazie gradirei un po di caffè dissi con decisione glielo faccio fare subito disse miller si alzò andò in cucina lo sentì per lottare con una voce di donna un po acuta yes yes diceva credevo che marylin avesse una voce più roca ora arriva il caffè disse miller gentile sì che dicevo che fu un brutto processo proprio perché ero il marito di marylin il fatto che non volessero darmi il passaporto per seguire marylin a londra mi dette molto fastidio e mi infastidì anche la battuta di winchell gli americani stanno confondendo marx e lenin con giulietta e romeo che sciocchezza diceva cose assai interessanti era una bella intervista eppure lo seguivo con meno attenzione uno strano nervosismo mi impediva di prendere appunti volevo il caffè stupida ragazza perché non portava il caffè marylin disse miller alzai la testa di scatto sì marylin mi fu di grandissimo aiuto e gli continuò sono molto cambiato da quando conosco lei da qui un poco cercando le parole ho più intolleranza e più indignazione ma perché non veniva questo caffè a 41 anni sono un uomo nuovo attraverso marylin ho capito molte cose e solo dopo il mio matrimonio ho cominciato a vivere sa disse arthur miller io la stimo molto è una grandissima attrice potrebbe essere una insuperabile tragica come la duse solo le creature che hanno il senso dell'umorismo possono ridere sulle tragedie della vita ma io non prendevo appunti e mi sentivo ormai fuoribonda l'intervista si abbiava alla fine e marylin non era ancora venuta una linea antipatica odiosa quando sarebbe arrivata non le avrei rivolto mezza parola miller comprese aspetti un momento disse voglio fare una telefonata e si allontanò nello stesso momento vedi arrivare dalla porta che conduce alla cucina un vassoio con tre tazzine e una caffettiera esclamai rivolta a warren si è decisa mi sentivo improvvisamente buona felice le avrei parlato senz'altro ma dietro il vassoio con le tazzine la caffettiera non c'era marylin c'era la cuoca negra non bevi il caffè non mi andava mi alzai per partire perché mi sentivo offesa in ogni mia fibra porsi la mano a miller lo ringraziai miller era assai imbarazzato ho telefonato a marylin disse speravo che potesse venire invece è impossibile ecco non volevo dirglielo sapevo che le avrei fatto un dispetto marylin è all'ospedale ieri ha comprato un coltello da cucina e affettando il salame si è tagliata il dito fino all'osso le è venuta una gran febbre forse per via dell'infezione tornerà a casa fra tre o quattro giorni per ora neppure io posso andare a vederla deve dormire tacque un poco buffo no marylin ci teneva tanto a incontrarla è molto curiosa e anche buona voleva farle fare un articolo che la consolasse dell'ira subita due anni fa eravamo insieme in connecticut quando lei la cercò ma nessuno lo sapeva perché bisognava tenerlo nascosto ci abbiamo verso l'uscita nell'ingresso c'era un armadio spalancato si vedevano due pellicce di visone e il vestito di raso color crema che marylin indossava la sera in cui ero arrivata tardi a radio city per quella parata che bloccava la quinta avenue accanto a un cappello di miller c'era un cappellino di lei di paglia bianca con i nastri rossi fissai con odio quegli oggetti senza vita mi sembravano i vestiti di un fantasma senta dissi a miller ma è proprio sicuro che sua moglie esista mi guardò con stupore capitolo primo la sala aveva le pareti e il soffitto dipinti di rosso il pavimento di marmo rosso le poltrone di velluto rosso i camerieri con le giacche rosse e le lampade erano spente le statue di cera sedevano a tavoli rotondi illuminate da quelle candele che in chiesa si mettono davanti ai quadri dei santi e in quella penombra colore del sangue i loro volti spiccavano senza espressione immobili sotto la cipria ogni invitato aveva al suo tavolo una statua di cera o un uomo o una donna che un giorno sarebbero diventati statue di cera io stavo con sofia loren la sorella maria un greco che faceva la corte a maria per consolarsi di non poterla fare alla loren uno scrittore che chiamavano bill e un gigante col frac il testone assonnato gli ciondolava sul frac come se fosse imbottito di piombo aveva il naso torto e un ricciolo appiccicato alla tempia sinistra fissava una coscia di pollo e taceva hello bob disse la loren con la sua voce stuzzicante era vestita di bianco da ogni poro della sua pelle abbronzata schizzava una vitalità animalesca ma il gigante non se ne accorgeva e il suo testone ciondolò come i bambolotti del tiro assegno quando vengono colpiti da una palla di cencio e dalle sue labbra uscì un indistinto grugnito chi è domandai allarmata robert mitchum non lo vedi risposero il testone dondolò ancora e fece una smorfia sei arrabbiato chiesi più allarmata che mai oh no ha sorriso risposero dal tavolo accanto una statua di cera si mosse era coperta di trine aveva un gran cesto di capelli castani e ricciuti i suoi occhi troppo grandi sporgevano dalle orbite con infinita tristezza appoggiava il mento alle mani aveva un cerotto sull'indice aveva anche un cerotto sul braccio pareva ammalata il suo volto non mi ricordava nessuno chi è domandai betty davis non lo vedi risposero la statua che le stava vicino udì e parve impaurita era una statua vestita da uomo infilava un'oliva con la forchetta e la sua mano tremò l'oliva sgusciò dispettosa dal piatto e andò a nascondersi dentro la tasca della sua giacca lui guardò tra le ciglia lasciò l'oliva dentro la tasca della sua giacca e ne infilò un'altra senza alzare la fronte dal piatto stavolta riuscendoci aveva il collo corto e per questo sembrava un po' gobbo ma era una bellissima statua chi è domandai gregory peck non lo vedi risposero no non lo vedevo c'era una donnina dal corpo spiaccicato che nascondeva le ossa sotto un mantello di capelli tiziano e si chiamava mi dissero rita hayward c'era una bionda dalle braccia grasse e il volto di bambola morta e si chiamava mi dissero kim novak c'era un'altra bionda con la faccia disfatta le labbra atteggiate a una smorfia di disgusto che la imbruttiva e si chiamava mi dissero lana tarner c'era un vecchio coi baffi e i capelli di argento e si chiamava mi dissero clark gable e tutti sembravano più vecchi o più brutti e i loro volti che riescono a esprimere e provocare tante emozioni quando si vestono coi lineamenti di un personaggio ora erano completamente privi di vita non assomigliavano affatto all'immagine che ci facciamo dei divi facevano pena talvolta allegria perché erano buffi e mi sentivo vagamente imbrogliata anch'io mi sentivo imbrogliato quando venni quaggiù disse lo scrittore che chiamavano bill un giovano toscarno e vivace col naso adunque e gli occhiali dietro gli occhiali il suo sguardo esprimeva una dolorosa ironia mi ci volle tempo a capire che erano fatti come noi di nervi e di carne visti da vicino sembravano falsi come gli sfondi su cui girano i film ha mai visto dove girano i loro film li avevo visti e come ero stata agli studios della 20 century fox che sono i migliori del mondo capolavori di tecnica perfino i sassi erano falsi sebbene non vi sia alcun bisogno di fabbricare sassi falsi già che la california è piena di sassi fatti di sasso lo disse a bill e bill scosse disgustato la testa tutta hollywood è fatta così disse il pranzo di gala era finito le statue di cera si erano alzate e si scambiavano in chini finalmente muovendosi come se qualcuno avesse loro caricato una rotella nella schiena uscimmo sul sunset boulevard e per la strada non si vedeva nessuno sebbene fossero appena le 11 di sera si scorgevano in fondo le luci di los angeles un lago bruciante di rossi di gialli e di azzurri e poi più vicino una striscia di luce più chiara la strada principale di hollywood ma non mi sembrava di essere a hollywood mi sembrava di essere a montecatini o a viareggio o in qualsiasi altra città di provincia dove la gente va a dormire coi polli e all'improvviso bill disse hollywood non esiste sputò per terra con odio capisce hollywood è uno stato mentale un miraggio non si guarda hollywood con gli occhi ma col desiderio l'invidia la suggestione si ricordi di questo quando tenterà di scrivere quello che è hollywood il mio amico bill è una testa d'uovo vale a dire un intellettuale tutto d'un pezzo sì che non va preso sul serio anche se i suoi paradossi contengono una dose di verità riferisco la sua battuta solo perché l'ho sentita ripetere spesso in america e in ogni caso da persone intelligenti e a modo dimostra dunque un fatto importante le persone intelligenti e a modo in america si vergognano di hollywood se ne vergognano più del razzismo più dei gangster più delle gaff del loro ministro degli esteri se ne vergognano sebbene hollywood sia stata definita quanto di più americano gli stati uniti siano riusciti a creare dal giorno in cui lincoln venne eletto presidente poiché se ne vergognano tentano di togliersi da questo imbarazzo e per togliersi da questo imbarazzo dicono che hollywood non esiste purtroppo esiste in un punto ben preciso della california all'altezza del 34esimo parallelo vicino alla costa del pacifico semmai non è geograficamente parlando ciò che gli europei sono abituati a credere vale a dire la città o la vasta regione dove fioriscono gli studios cinematografici le case dei divi e gli scandali che si concludono in sensazionali divorzi e instrazianti suicidi case studios e scandali fioriscono in buona parte nelle adiacenze di hollywood a san ferdinando valley a burbank a beverly hills a santa barbara alle pacific palisades e nella stessa los angeles di cui hollywood è soltanto uno dei 19 suburghi sotto molti aspetti dunque non possiamo parlare di hollywood senza riferirci a los angeles come non si potrebbe parlare delle malefatte di cine città senza parlare di quelle di roma o di barbara hutton senza pensare ai mariti e ai quattrini hollywood dista dal centro di los angeles 5 dollari e mezzo di tassi 20 minuti di strada percorrendo la freeway è consigliabile fare questa spesa al mattino quando la freeway è una marmellata di automobili lanciate a 100 chilometri allora e l'impressione è quella di adagiarsi su un iperbolico tapirulan che scivoli fra i campi e le siepi di edera orson wells non possiede automobili perché le giudica uno strumento del diavolo sostiene che questo è il metodo più sbrigativo per capire il fenomeno di hollywood la cui ricchezza si misura anzitutto dal numero delle automobili vi sono a los angeles ed intorni 3 milioni di abitanti e 4 milioni e mezzo di automobili vale a dire una e mezzo per ogni cittadino novantenne paralitico neonato che sia e la ragione sta nel fatto che los angeles è una città sviluppata in senso orizzontale le distanze sono enormi e soltanto con l'automobile si può lavorare e mantenere le amicizie a hollywood tuttavia questa necessità diventa una stravagante ossessione nelle famiglie solite tutti gli adulti dispongono della loro automobile nelle famiglie dei cinematografari si dà il caso anche di due automobili a testa una diva che si rispetti cambia automobile secondo il colore del vestito un mendicante negro possiede almeno una vecchia macchina da 150 dollari i più a hollywood mangiano in automobile driving restaurants guardano il cinema in automobile driving theaters assistono alla messa in automobile driving churches entrano in albergo in automobile motels e non ci sarebbe da meravigliarsi se dessero alla luce i figli in automobile da che in automobile nonostante la sorveglianza dei poliziotti avviene più spesso che altrove ciò che dovrebbe avvenire in luoghi discreti a piedi non va nessuno l'inesperto turista che osa fare una passeggiata lontano da un centro abitato è immediatamente soccorso da un vigile che con aria diffidente gli indica un tassì o la fermata d'autobus insieme alla moltitudine delle automobili la prima impressione di hollywood è offerta dai pozzi di petrolio e dall'abbondanza di verde centinaia e centinaia di pozzi costeggiano la freeway invadono la spiaggia ingombrano i quartieri molti pozzi non funzionano più ma le loro torri scheletriche di ferro arrugginito si rizzano ancora verso il cielo in un macabro avvertimento di ricchezza a hollywood non c'è un solo studio cinematografico che volendo non possa disporre del suo pozzo di petrolio gli studios che sorgono nel centro abitato come la columbia e la paramount non possono pompare ma quelli alla periferia sì e la 20 century fox guadagna da questa operazione una cifra annuale pari al rendimento di un film tutta hollywood galleggia sul petrolio anima e sangue del cinema americano e nemmeno il tenero profumo degli aranci e delle magnolie riesce ad ammazzarne l'odore la sera quando il vento spazza le colline questa sconcertante mistura di profumo di fiori e di odore oleoso vi prende alla gola lasciandovi perplessi e vagamente nauseati sì l'area di hollywood è difficile da respirare e non c'è senza francese che valga a togliere di dosso a una diva americana l'inconfondibile puzzo della città che le ha dato la gloria per dimenticare il liquido nero dove hanno radicato i piedi e forse il cervello gli abitanti di hollywood piantano cocciutamente alberi e fiori se si escludono le grandi arterie che tagliano il quartiere centrale hollywood è una sorpresa di viali alberati di siepi verdi e di giardini annaffiati che circondano le ville e di bungalow bianchi rosa e violetti come un paradisiaco parco già che tutto a hollywood è costruito in modo da imitare quel che i californiani credono sia il paradiso terrestre un luogo dove la gente è felice con i film le automobili e moltissime foglie come facciano a farli crescere in quella terra imbevuta di petrolio non lo so ma non bisogna meravigliarsene troppo indipendentemente dal cinema i fenomeni più contrastanti dominano questa bizzarra città dove gli scoiattoli saltellano sui marciapiedi senza che il rombo dei motori riesca a spaventarli e a 10 chilometri dall'abitato i coiote mugolano penosamente contro il cielo polveroso mentre gli aerei delle compagnie pubblicitarie disegnano a lettere di fumo candido il nome del deodorante che raffresca le ascelle oppure quello del fabbricante di automobili che si autodefinisce l'onesto john sebbene tre anni fa abbia subito un processo per truffa non sono stravaganze da umoristi quelli di hollywood fanno sempre sul serio anche quando sembra che prendano sotto gamba l'eternità sulle strade dove non passa giorno senza un automobilista ubriaco ci lasci la vita cartelloni invitano a comprare una tomba a forest loan il cimitero dove ogni ricordo della morte è bandito sono cartelloni idilliaci con disegni di laghetti cigni azzurri uccellini rosa e la fotografia di un bell'uomo che assomiglia a william holden con un fumetto che dice mio caro giovanotto pensa all'avvenire e comprati un cantuccio a forest loan oppure bella ragazza non ti piacerebbe dormire nei secoli accanto a bing crosby o un posticino che va proprio bene per te no bing crosby non è ancora morto ma già si è comprato la tomba tutti gli attori più saggi si sono comprati un bel pezzo di terra a forest loan dove sono sepolti jean harlow e carol lombard john barrymore e lupe velez i più fortunati l'hanno addirittura ricevuta in regalo come quel regista ricchissimo i colleghi non sapendo che altro dargli già che ha già tutto gli offrirono un bel funerale da 7.000 dollari non c'è bisogno d'essere gente del cinema per dormire l'eterno sonnellino a forest loan anche gli stranieri possono avere questo privilegio e gli agenti pubblicitari del cimitero si prendono gran cura di loro il giorno stesso in cui andai ad abitare in un appartamento vicino a sunset boulevard ricevetti una allegra telefonata hello miss fallaci comuni amici ci hanno fatto sapere che resterà qualche tempo fra noi vorremmo perciò sottoporre alla sua cortese attenzione le ottime opportunità che offre la sacra terra di forest loan abbiamo posti di ogni prezzo gradiremmo molto che ci venisse a trovare pensai a una burla e buttai giù il telefono poco dopo lo sconosciuto richiamò hello miss fallaci temo ci sia stato un guasto alla linea io sono l'amico di forest loan interruppi la comunicazione allora il giovanotto venne a trovarmi era vestito di bianco aveva la faccia gaia e abbronzata mi esibì i suoi documenti il biglietto da visita mi buttò sul tavolo una serie di manifestini di forest loan naturalmente diceva ci sono posti per tutti i gusti posso riservarle qualcosa nel recinto oasi di pace o nella terra della ninna nanna o se preferisce sussurranti pini è un recinto fatto a forma di cuore il suo boyfriend potrà venire a trovarla e si sentirà maggiormente vicino il disagio mi chiudeva lo stomaco senta dissi sono straniera starò a hollywood appena due mesi e non intendo morire quaggiù il giovanotto mi guardò con stupore e perché potrebbe accadere mi sentivo sempre maggiormente a disagio spero di no dissi irritata la sua sorpresa crebbe e perché ha paura della morte mi lasciai condurre a forest loan che dista dal centro di hollywood appena 15 minuti di macchina il giovanotto era molto contento e diceva che certo sarei stata contentissima anch'io quando mi fossi tolta questo peso dal cuore certe cose vanno fatte senz'altro prima del bisogno e cos'era la morte dopo tutto la fine della vita tutti dovevamo morire l'importante era sistemare il corpo in un luogo grazioso più importante che comprarsi una casa per starci da vivi la sua automobile correva lungo la strada asfaltata prendendo le curve senza precauzioni ecco diceva questa è una strada pericolosa ma posso prendere le curve senza paura perché se muoio ho il mio posticino a forest loan all'entrata principale c'erano due grandi cancelli a forma di libro aperto benvenuti a forest loan dicevano le lettere gigantesche qui gli amanti devono venire a guardare i tramonti i pittori a dipingerci i quadri e le mamme a far giocare i bambini il giovanotto era esultante lei dipinge no ha bambini no troverà almeno un boyfriend a hollywood ecco se non sa dove andare può portarlo quaggiù ci sono prati squisiti e i giovani ci fanno l'amore il suo volto era serio che cosa può rallegrare di più un estinto dell'idea che sulla sua testa ci sono due giovani che fanno all'amore ci si può anche sposare a forest loan la cerimonia assume un valore più sacro dove si pensa all'eternità molti nostri clienti si sposano qui ci inoltrammo con la macchina lungo un viale ai lati verano prati e laghetti alberi di pino querce e ciuffi di lilla non c'erano croci né monumenti abbiamo proibito di piantare le croci sono così tristi disse il giovanotto ci limitiamo a mettere una piccola lapide ma che sia nascosta fra il verde affinché la gente se ne accorga il meno possibile il viale saliva guardando in basso si potevano vedere le lapidi della grandezza di un pane giungeva col vento il motivo di una canzonetta nascondiamo i dischi della musica leggera fra i ciuffi di lilla mettono di buon umore disse il giovanotto spesso preferiamo le canzonette di col porter ma da qualche tempo va bene anche il motivo di my fair lady fanciulle di pietra castamente nude sorridevano dai laghetti pieni di cigni passò un'automobile si fermò accanto a una lapide e scese una famiglia al completo moglie marito e tre bambini poi stesero una tovaglia sul prato misero su alcuni panini e una bottiglia per la merenda naturalmente disse il prezzo di questo paradiso varia secondo il trattamento che viene offerto al defunto lei preferisce essere sotterrata o cremata il prezzo della cremazione è caro in compenso si fa a meno del cosmetico del parrucchiere e altre frivolezze noi trattiamo il defunto come se fosse vivo ammettiamo che in uno scontro automobilistico si è rimasto sfregiato il nostro specialista di chirurgia plastica provvede a correggere i suoi lineamenti rimettendolo a nuovo per il trucco poi abbiamo meravigliosi prodotti l'ultima crema della max factor lanciata da debora kerr da risultati meravigliosi anche sulle pelli che hanno smesso di respirare il nostro parrucchiere è al corrente delle ultime pettinature lanciate da antonio de pari la nostra manicure ha smalti dai colori deliziosi il pesca chiaro di luna sarebbe perfetto per lei lei preferirebbe la veglia funebre stando seduta distesa su un divano o in piedi desideriamo che i nostri cari defunti assumano dopo il trapasso le posizioni che preferivano in vita ci pensò un poco con un sorriso astuto non tutte è naturale ma se ad esempio una signora telefonava molto possiamo sistemarla con un telefono in mano carino no quando avemo visitato forest loan e fumo entrati dentro le chiese e debbi rifiutato un liquore nel bar il giovanotto volle portarmi al gran mausoleo dove c'era disse l'ultima cena di leonardo oh dissi credevo che fosse a milano il giovanotto fece un gesto di compassione quella vecchia naturalmente questa è nuova ed è anche più grande e infine volle mostrarmi il calvario il quadro più vasto del mondo largo più di cento metri lo hanno sistemato in un auditorium con le seggiole il palcoscenico come a teatro il quadro sta sul palcoscenico coperto da un sipario il pubblico si mette a sedere una voce dall'altoparlante racconta come avvenne il calvario poi si diffonde nel buio la musica di moulin rouge e il sipario si apre il tutto per un dollaro e mezzo la mania di trasformare la vita e la morte in un allegro spettacolo comincia dunque da forest loan ma il cinema ha su questo luogo un dominio anche meno sottile e più materiale ve ne accorgerete la sera quando decine di riflettori frugano il cielo per fare la pubblicità all'ultimo film di doris day o di bob hope e le bancarelle notturne esibiscono migliaia di riviste dedicate esclusivamente alle biografie degli attori e gli strilloni vi offrono l'ultima edizione del quotidiano aperto alla pagina dei pettegolezzi sulle dive oppure una copia dell'hollywood reporter o di variety giornali dedicati soltanto al cinematografo allora lungo il sunset strip e il sunset boulevard una folla di uomini e di donne adulte sosta di continuo per vedere un'attrice che entra da ciros o al mocambo i night club più citati del mondo ed è una folla paziente come quella dei londinesi che nonostante la pioggia attendono davanti ai cancelli di palazzo buckingham di leggere l'ultimo bollettino sul mal di pancia della regina nei ristoranti della sienega la strada che scende dal cuore di hollywood fino alla downtown di los angeles i medesimi adulti spendono cifre pazzesche per recarsi da david chasens o al bantam cox dove per ben 20 dollari si mangia una cotoletta alla jane russell o un piatto di cipolle alla marlon brando e vi è sempre la speranza di sedere accanto ad uno di questi irraggiungibili divi così tutti a hollywood conoscono il dramma della coppia maniaca che si ridusse in miseria per andare ogni sera a pranzo da romanoff a bere il room a beachcomber a ballare al mocambo o all'interlude nella speranza di vedere attori che non videro mai si chiamavano robert e lydia johnson avevano qualche soldo da parte e sembravano sane di mente quando vivevano nell'illinois dove l'uomo era impiegato in una compagnia aerea nessuna frivolezza turbava la loro esistenza raramente andavano al cinema poi il signor johnson fu trasferito a hollywood e scoppiò la tragedia gli amici e i parenti dell'illinois scrivevano loro per sapere se avessero incontrato frank sinatra o katherine hebburn pensavano che a hollywood tutti potessero vedere frank sinatra o katherine hebburn i coniugi johnson erano onesti e non volevano mentire tentarono di mettersi in contatto con qualcuno che potesse loro presentare quegli irraggiungibili ma in vano chiesero consiglio a un press agent e il mascalzone suggerì loro di frequentare i posti che frequentavano i divi gli obbedirono e la ripicca divenne presto follia poi bancarotta un caffellatte con rum al beach comber costa almeno una decina di dollari dopo tre anni schiacciato dai debiti il signor johnson perse l'impiego e la signora johnson finì al manicomio con questa medesima innocente e pericolosa speranza i turisti percorrono l'hollywood boulevard dove sono le sale di proiezione più vecchie d'america certune aperte fino alle 6 del mattino altre aperte giorno e notte senza interruzione e dove con un dollaro e mezzo e il divieto di fumare secondo una recente ordinanza del sindaco si può vedere un doppio programma e un film in antevisione che le case produttrici distribuiscono gratis per saggiare le reazioni del pubblico qui si danno le prime importanti e qui gli attori vengono vestiti da sera mentre centinaia di stupide fra i 12 e i 60 anni arginate da poliziotti che picchiano sodo urlano dalle tribune ovazioni che nemmeno i dittatori più fortunati ottenero all'apice della loro carriera agli occhi di hollywood il marciapiede del chinese theater non è un marciapiede qualsiasi è sacro sul cemento seccato sono impresse le impronte che i divi lasciarono i memorabili cerimonie dal 1920 ad oggi il cemento è diviso in sezioni di un metro quadrato e in ogni sezione c'è la firma del divo la data in cui essa venne posta l'impronta delle mani e dei piedi e una dedica a sid grauman il padrone del cinema di solito il massimo sforzo cerebrale di un divo al momento di incidere il cemento fresco consiste nel compilare la frase grazie sid o love sid ma gli ingenui guardano con inalterato rispetto quei cimeli che attirano più gente che non la tomba di dante a ravenna c'è chi viene apposta dalla louisiana o dal minnesota per vedere la grafia di tyron power e di shirley temple di al johnson e di gloria swanson di alan ledd e di betty davis e il resto betty grable ha lasciato l'impronta della gamba destra jimmy durante quella del naso joe brown quella della bocca monty vuli quella della barba e john barrymore vi immortalò il suo indimenticabile profilo jean harlow vi lasciò la piega di un ricciolo la notte quando i riflettori illuminano quelle funere lapidi da cimitero e gli ingenui sostano con le braccia incrociate mormorando commenti simili a requiem eternum vi coglie il sospetto che i divi là sotto siano già belle sepolti hollywood dice infatti orson welles è un campo santo dove i morti respirano il sospetto che siano fantasmi oltre che cadaveri vi coglie del resto anche di giorno le persone qualsiasi non li incontrano mai e ignorano dove essi abitino ragazze in calzoncini e bellissime gambe che sperano di mettere a profitto del cinema vecchi pigri e decisi a non farsi impiegare nemmeno come comparse mendicanti stufi di chiedere l'elemosina sostano laddove il sunset boulevard cambia nome e diventa bridle path per vendere opuscoli con gli indirizzi dei divi gli opuscoli costano un dollaro hanno un tono ufficiale ma servano amare delusioni a chi li compra la maggior parte degli indirizzi risale a vent'anni fa altri sono fasulli perché quelli veri sono tenuti segreti come la formula della luna artificiale se per caso sono esatti il turista non vede che la facciata di un bungalow è a volte soltanto una siepe già che le case dei divi sono spesso nascoste dietro il più fitto fogliame quasi avessero da nascondere infiniti peccati pochissimi privilegiati si avventurano al di là della siepe è più facile essere ricevuti dal papa in udienza privata che entrare nella casa di una celebrità di costi a meno di non essere muniti di presentazioni potentissime o arrivarci per amicizie speciali le case tabù sorgono soprattutto a beverly hills che sentimentalmente fa tutt'uno con hollywood ma sul piano geografico e amministrativo è una città sì beverly hills dista da hollywood 20 minuti di tassi ed è uno dei quartieri più belli del mondo un'isola privilegiata nel gran mare di los angeles irving stone l'ha definita una comunità di 30.000 persone e 30.000 alberi un albero per ogni uomo donna o bambino e dieci alberi per ogni cane in nessuna parte della california infatti c'è una simile abbondanza di verde gli alberi entrano dentro le case le chiese gli uffici urlano i viali che si irradiano da sunset boulevard e da santa monica boulevard coprono il cielo e nessuno si sogna di abbatterli sebbene migliaia di topi ci facciano il nido perenne pericolo per i libri pochi e i vestiti molti dei divi sono i ratti più grassi e più insolenti del mondo sacri come le vacche in india perché nessuno tenta di sterminarli nei pomeriggi assolati di luglio allorché perfino le automobili passano rade e la città tace il rosicchiare dei ratti di beverly hills diventa acuto come il canto delle cicale in campagna e i rami dondolano quasi fossero abitati da scimmie la gente rapprevidisce e chiude porte e finestre per paura di essere mangiata nel sonno qualche anno fa provarono a sterminarli innaffiandoli di ddt ma i ratti si spostarono verso santa barbara e ritornarono moltiplicati quando il ddt svanì nell'aria qualcuno suggerì allora di tagliare gli alberi rischiò il come i negri dell'arkansas un'ordinanza di roosevelt vieta infatti di abbattere gli alberi anzi impone di piantare tre alberi per ogni albero che muoia quelli di beverly hills del resto preferiscono non parlarne non perché si vergognino d'essere stati sconfitti dai topi ma perché la fama dei topi può sciupare il prestigio del posto nella futura foresta sorgono infatti gli alberghi più belli della regione sono il beverly hills preferito dalla gente del cinema e il beverly hilton preferito dai miliardari quest'ultimo è insieme al plaza e al waldorf a storia di new york uno dei più costosi d'america e così vasto che sarebbe esatto definirlo anziché un albergo una città ha 2000 camere 10 piscine 8 night club 10 ristoranti 4 club privati e 2 drug store dove si può comprare tutto da un brillante da 40 carati a una fiala di streptomicina e la favolosa escoffier room il ritrovo dove una cena per due persone può costare anche 60 dollari 40 mila lire a beverly hills sono i negozi più lussuosi della california e i ristoranti più costosi dove si va per far vedere che si è ricchi e leggere l'indomani il proprio nome sul giornale a beverly hills sono le chiese più chic della regione come quella del buon pastore ribattezzata dai maligni nostra signora delle cadillac ci vanno infatti ogni domenica mattina alle 11 i ricchi del cinema per mostrare che nonostante le accuse di confidential sono persone da bene e per farsi perdonare da un parroco troppo indulgente adulteri altri peccati veniali le case degli attori si trovano nell'area adiacente a questa privilegietissima chiesa sono di stile coloniale inglese muresco hawaiiano bungalow costruiti capricciosamente alla wright e in ogni caso con giardini innaffiati da una pioggia artificiale mantenuta a temperatura costante e forniti di piscina una inchiesta del los angeles mirror ha accertato che nella regione 20 famiglie su 24 posseggono una piscina se salite sulle alture di beverly hills vedrete luccicare a centinaia i simboli della moderna agiatezza tonde quadrate rettangolari a forma di rene come quella di hathaway di pianoforte come quella di liberais o di fiore come quella di ester williams le piscine sono diventate negli ultimi anni un comfort necessario come l'aria condizionata o il refrigerante quelle dei cinematografari si distinguono dalle altre perché sono di solito di marmo pregiato riscaldate d'inverno e profumate d'estate secondo una nuova raffinatezza lanciata dai miliardari del texas i re del petrolio della carta igienica e del pollo in scatola hanno invaso infatti beverly hills dove la casa più costosa appartiene a un tale che possiede la concessione per la vendita delle noccioline del gran turco tostato nelle sale cinematografiche di tutta l'america ma nessuno si cura di loro la high life dello schermo li definisce dimenticando le proprie umilissime origini in nouveau riche il lustro di beverly hills è dato dalle abitazioni di gregory peck di loretta young di joan crawford di fredaster di vincent minelli di bing crosby e soprattutto dalle tre case più antiche e mitologizzate della epopea hollywoodiana quelle di rodolfo valentino di mary e di greta garbo la casa di rudy che chiamano ancora il nido del falco sorge in cima alla collina di benedict canyon ed è una villa gialla a tre piani in stile spagnolo una dozzina di donne tentò di uccidersi lì dentro dopo la morte del grande amante per qualche tempo fu ribattezzata per questo il pozzo dei lamenti ora ci abita un facoltoso restauratore gerard byes che non ha mai visto un film dell'uomo più adorato d'america e sa malapena che egli morì di appendicite quella di mary pickford detta anche pick fair si trova invece in summit ridge ed è una specie di castello all'italiana che mary costruì nel 1919 ai tempi del suo amore coniugale per douglas fairbanks il castello è circondato da pini e da acace e cinto da un muro che corre lungo un chilometro e impedisce ogni sguardo indiscreto al di là di quel muro oltre il gran parco dove non c'è mai una margherita con un petalo secco essa vive da decenni insieme a tre cani sei nipoti una figlia adottiva e un nuovo marito che ha molti anni meno di lei e si chiama buddy rogers mary non ama più ricordare che 40 anni fa la chiamavano la fidanzata del mondo perché le ricorda che è vecchia ora la chiamano siccome è ricchissima la prima lady dell'industria cinematografica o semplicemente madame è assai difficile avvicinare madame che è timida come una bimba detesta gli estranei e frequenta soltanto le vecchie glorie del muto per giocarci interminabili partite a scopone ma se una telefonata vi fa oltrepassare l'ineaccessibile cancello di pick fair potete vantarvi di avere stretto la mano al più autorevole monumento vivente di hollywood ho avuto l'onore entrai a pick fair un pomeriggio e improvvisamente nel salone coperto di arazzi comparve una signora minuscola e tonda che si un bicchiere colmo di whisky era vestita di verde aveva i ricciogli ossigenati e sul visino rugoso dalle ciglia pateticamente irrigidite da rimel e le labbra sbavate di rossetto c'era un'espressione di incantata sorpresa oh la la disse sedendosi sull'orlo della poltrona proprio sotto il ritratto di quando era giovinetta come è sua abitudine fare quando incontra gli sconosciuti oh la la vous venez de l'italie je n'ai jamais été en italie invece c'è stata più d'una volta e si aggiustava il busto che le stava un po' stritto e la costringeva a restare in teccherita come se fosse fatta di gesso oh la la mais je parle italien savez vu davvero dissi è una sorpresa squisita nessuno a hollywood parla italiano e intanto mi chiedevo perché non parlasse italiano dal momento che diceva di saperlo oh oui oui aime vous ma prononciation disse con gli occhietti che le brillavano non so se per la commozione o per il whisky si si dicevo senza capire una pronuncia perfetta rideva contenta seguitando ad aggiustarsi quel busto il mio povero marito d'aglas parlava sempre italiano se marilla parla anglais disse con un sospiro poi si alzò mi baciò su una guancia mi accarezzò un occhio e barcrollando uscì dalla stanza grappata al suo whisky seppi più tardi che madame la quale da alcuni anni ha la memoria deliziosamente svanita si rivolge agli stranieri soltanto in francese convinta che al di là dell'atlantico si parli solo la lingua da lei appresa a parigi durante il viaggio di nozze con l'indimenticabile taglas la casa di greta garbo è poco lontana al numero 904 di north bedford drive quasi di faccia al beverly hills hotel è a due piani elegantemente posata su un prato e accarezzata da antiche magnolie la divina vi abitò quattordici anni e ci visse il suo amore per john gilbert e poi per stokowski i soli che vi avessero libero accesso rimasta sola greta non permise a nessun altro di metterci piede e per meglio difendere il suo drammatico riservo non usava nemmeno il telefono ne aveva tagliato i fili ma venne atrocemente punita quando scoprì che il giardiniere affittava per un dollaro a testa le finestre della casa adiacente di lì si poteva comodamente vedere la diva che sotto la luna si tuffava nuda in piscina per entrare e uscire greta passava da una porta di servizio nascosta fra l'edera e per dormire sfruttava soltanto una camera del piano superiore arredato con tragica parsimonia le stanze a pian terreno erano vuote con le pareti tinte di verde scurissimo quasi nero e dalle finestre spalancate di giorno e di notte gli alberi allungavano i rami il vento irrompeva sibilando come in un castello di streghe d'autunno volavano dentro le foglie appassite che nessuno spazzava io non voglio amo le foglie sole hanno il sapore della malinconia diceva quando 14 anni fa vendette la casa per trasferirsi a new york lo strato di foglie era così alto che ci si poteva dormire come su un materasso all'indirizzo più invidiato e discusso di hollywood ora abita il regista jean negulesco la cui faccia sanguigna e l'assoluta mancanza di complessi è uno dei personaggi più gioviali e felici di hollywood spiegano subito perché la casa sia tanto cambiata le pareti sono ridipinte di chiaro le stanze piene di raffinatissimi mobili ogni camera ha il suo apparecchio telefonico che squilla senza riserve e d'inverno le finestre sono chiuse d'estate il maggiordomo negro provvede a spazzare la più innocua fogliolina nella camera che vide le lacrime e le calze lavate della garbo ci dorme d'asti giovane moglie del regista che un tempo faceva la modella e ora passa il tempo a dipingere nella camera dove sospirava john gilbert ci dorme jean negulesco che vi ha sistemato anche il suo eccessivo corredo 3000 cravate 800 vestiti 4000 camice 900 paia fra scarpe e babbucce alcune rarissime tessute con fili d'oro e d'argento 100 panciotti degni di brammel alcuni chili di calzini di seta che se ne faccia di tanta roba non lo so e probabilmente non lo sa nemmeno lui per indossarla tutta almeno una volta dovrebbe vivere più di musè ma così ricorda sempre che è ricco e soltanto ricordandosi d'essere ricca la gente di hollywood può illudersi d'essere anche felice adoro possedere quel che gli altri non hanno dice negulesco che prima di scoprire il cinematografo faceva il profugo romeno a parigi dove dipingeva quadri non sempre apprezzati della passata povertà gli è rimasto ora soltanto il gusto dell'arte l'ex casa di greta è coperta dal pavimento fino al soffitto di buffet e du fi che valgono almeno quanto il guardaroba è anche questo un fenomeno hollywoodiano quando non sanno come spendere i quattrini collezionano quadri un hobby che dà più lustro di una rolls royce o di un divorzio e mentre negulesco sceglie autori moderni edward robinson predilige capolavori fiamminghi george kukor gli impressionisti il produttore e regista william gates bangkok e picasso episodio abbastanza confortante in una comunità che a malapena ha sentito dire che giotto faceva il pittore il municipio di los angeles che con grande ottimismo cerca di alzare il livello culturale dei suoi cittadini è molto sensibile a questo insolito hobby e ogni anno organizza d'accordo con negulesco kukor robinson e gates un pellegrinaggio artistico nelle loro dimore il pellegrinaggio costa un dollaro e mezzo vi partecipano generalmente 1500 persone le statistiche hanno accertato però che 1300 non vanno oltre l'improvvisato museo di north bedford drive è sorprendente come i los angelini siano sensibili a buffet e a dufis e come non riescano a penetrare lo spirito dei fiamminghi e dei renoir dice negulesco arrossendo di soddisfazione nessuno ha mai avuto il coraggio di spiegargli che in north bedford drive i los angelini cercano soltanto le stanze dove greta garbo faceva l'amore con gilbert e con stokowski come tutti i luoghi nati dalla speculazione alimentati dal troppo denaro e abitati da gente che ieri non aveva nulla e oggi a tutto hollywood è dunque la più strana tra le combinazioni di contrasti stupida e geniale corrotta e puritana divertente e noiosa è il luogo dove jack lemon manda un telegramma all'ex moglie cynthia che sposa clit robertson complimentandosi per il suo buon gusto e dove tuttavia una ragazza non può recarsi sola da ciros senza provocare indignazione gravissima qui la figlia del legale della mgm torna a casa dopo il primo giorno di scuola piangendo sono disgraziata gli altri ragazzi hanno quattro genitori e io soltanto due perché molti bambini per i divorzi paterni o materni di genitori ne hanno anche otto ma loretta young va a messa ogni mattina alle 6 e porta il rosario appeso al parabrezza dell'automobile per impiegare in giaculatoria il tempo perduto dinnanzi al semaforo rosso e infine qui la gente non dice mai parolacce perché si finisce dritto in peggione ma la figlia di lana tarner uccide l'amante della madre con un coltello da cucina qui i celebri produttori dicono più spesso che altrove ginecologico invece di genealogico aromatico invece di reumatico ma un giovane autista di tassi studente di terzo anno di filosofia all'università di westwood vi rivolge questa strabiliante domanda lei che viene dall'italia mi dica quando è che nanny fa l'unificazione con saragat sì tutto è possibile a hollywood fuorché trasgredire cinque divieti dell'ordinanza comunale che il municipio di los angeles emise all'inizio del secolo e che teoricamente è ancora in vigore eccoli sparare ai conigli dei tramvai fiutare tabacco lavare due bambini nella medesima vasca da bagno confezionare sott'aceti nei quartieri centrali vendere serpenti per strada teoricamente è anche impedito ammazzare la gente e dare scandalo ma questo ci si bada un po' meno visto che quasi tutti i delitti avvenuti nella comunità cinematografica di hollywood finiscono in un modo o nell'altro per venire archiviati e che lo scandalo è più gradito di una cena da romanoff nessun articolo del codice e nessuna ordinanza comunale vieta ad ogni modo a uno squattrinato fabbricante di guanti di diventare sam goldwin il produttore più potente che hollywood abbia mai avuto né a un ex lavandaio di chicago di diventare harry cohn il padrone della columbia né alla figlia di un macellaio fallita come attrice di diventare hadda hopper la giornalista più temuta d'america nel 1955 hollywood ha compiuto 55 anni di vita fu infatti agli inizi del 1900 che la signora deida hartwell wilcox pioniera del middle west venne a stabilirsi alla periferia di los angeles per star lontana dalle frivolezze dalla corruzione e dall'inquietudine del mondo moderno a quel tempo hollywood non si chiamava ancora hollywood era una terra disabitata dove crescevano soltanto gli aranci selvatici l'agrifoglio copriva intere vallate e l'unico segno di vita era dato dai conigli dagli scoiattoli e dai coiote di notte qualche vagabondo rompeva il silenzio suonando canzoni d'amore sulla chitarra di giorno si andava a caccia o a pescare lungo i torrenti i boschi si estendevano fino alla spiaggia dell'oceano pacifico coperta di arbusti la signora wilcox una puritana dal volto bruciato dal vento vestiva sempre un abito a quadri che la copriva fin sotto le caviglie e teneva in testa una candida cuffia d'organza da giovane aveva sparato agli indiani poi era cresciuta con la bibbia in mano predicando dirittura e pietà non la turbava il fatto di essere così vicina a los angeles città di avventurieri prostitute e ubriaconi sognava di fondare nel suo deserto senza peccato una nuova gerusalemme quieta rispettabile e pia costruì il suo ranch proprio nel punto in cui oggi l'hollywood boulevard si incontra con wine street e lo chiamò con un nome grazioso e innocente hollywood che vuol dire bosco di agrifoglio volle che fosse un ranch pulito e severo al mattino e al tramonto si leggeva con voce ispirata un sermone nessuno osava pronunciare una frase che ricordasse l'abominevole cosa che chiamano amore soltanto chi temeva il castigo finale vale a dire le creature inattaccabili da il cuori dall'esibizionismo e dalla pigrizia poteva accedere a quel santuario del buon costume dove la bevanda più audace era la limonata il passatempo più frivolo era giocare a dama e l'occupazione meglio accetta cantare le lodi del signore a quel tempo i fratelli lumiere avevano appena presentato a parigi la loro fotografia in movimento e nessuno nemmeno a los angeles sapeva cosa significasse la parola cinema ma un giorno di novembre del 1903 certa di compiere un atto di beneficenza per il futuro dell'umanità la signora wilcox si tolse l'abito a scacchi se ne mise uno di seta cambiò la cuffia d'organza con un cappello adorno di rose e accompagnata dal marito che si chiamava orazio si recò dal sindaco di los angeles per offrirgli in dono la piccola hollywood da dedicare alla madonna il sindaco accettò ringraziò fece firmare le carte da un notaio coi baffi e pochi mesi dopo permise al signor william selig fabbricante di film di impressionare un po di pellicola all'aria aperta vicino al ranch della ingenua benefattrice qualche anno dopo giungevano famelici come cercatori d'oro gli indipendenti ribellatisi al trust della motion picture patents company di new york il villaggio che la signora wilcox aveva dedicato a maria vergine offriva pianure sterminate stalle luminose scenografie perfette tre giovanotti assetati di gloria e quattrini goldwin laschi e de mille dissero che era perfetto per girarci the school man col permesso del sindaco affitarono una stalla dove la signora wilcox teneva le mucche capitolo secondo un giorno di luglio mancando di riguardo al signor joseph cotton feci su hollywood una sconcertante esperienza chiedo perdono al signor joseph cotton se racconto senza mutare una virgola come andò questa storia pur avendogli giurato di non scrivere mai una riga mentre assumevo l'incredibile impegno le mie dita erano più incrociate di un fiocco e non mi sento per questo assolutamente colpevole il mio mestiere consiste nello scrivere articoli che riguardano gli altri e joseph cotton lo sapeva al momento di chiedermi quel giuramento del resto l'unica persona che in questo caso ci fa brutta figura sono io mi comportai con maleducata perfidia con creature deboli e del tutto indifese tutti gli altri si comportarono fin troppo bene a cominciare dal signor joseph cotton magari avessero alzato un po il gomito senza dubbio avrei avuto maggiori scrupoli e mi sarei vergognata di tradirli cotton dunque quel giorno di luglio dava una festa nella sua bella casa alle pacific palisades quasi in riva all'oceano era la festa più importante della stagione un avvenimento mondano e tutta hollywood ne parlava fin da natale non molti ci sarebbero andati già che essere ospiti dei coniugi cotton è un gran privilegio la comunità hollywoodiana è la meno democratica che esista in america divisa in categorie insormontabili a seconda della notorietà dei guadagni e del prestigio professionale uno può essere popolare ricchissimo senza essere invitato a casa dei cotton all'apice della piramide sociale insieme a james mason col regista william wyler e col produttore adolf zucker in queste famiglie ad esempio non entrerebbe mai elvis presley e neppure jane mansfield e tanto meno lana tarner dopo quel che è successo per non dire dei giornalisti né luella parsons né edda hopper né sheila graham né cobina wright che è una vera signora sono mai state alla festa dei cotton ed ecco perché desideravo moltissimo andarci ma non era il solo perché si dice infatti che alle feste della high life hollywoodiana ne succedano di cotte e di crude che autorevolissimi personaggi si ubriachino al punto di ruzzolare vestiti in piscina che i mariti si cambiano le mogli e le mogli i mariti che in tal modo fioriscano i flirt destinati a concludersi dinanzi ai giudici di las vegas e di rino e io volevo vedere per vedere ci voleva l'invito per avere l'invito bisognava agire con cautela ma con fermezza conoscevo joseph cotton ero già stata da lui con sammy colt figlio di etel barrymore che appartiene all'elite ma era assolutamente da escludersi che egli mi includesse con entusiasmo nella lista degli eletti compilata con medesimo scrupolo che un maestro di cerimonie usa per invitare qualcuno al pranzo di una regina o di un capo di stato chiesi aiuto a sammy colt e sammy rispose indignato che non ne voleva sapere chiesi aiuto ad altri potenti ed essi risposero con astio e imbarazzo che nemmeno loro erano stati invitati chiesi aiuto a valentina cortese che era a hollywood insieme col marito richard basehart e costei mi aiutò valentina è decisa e fra quanto sa fare meglio nonostante l'apparente timidezza è aiutare la gente a ficcarsi nei guai il fatto che io stessi per commettere la stravagante imprudenza di sollecitare un invito la esaltava come una bimba passava le giornate a fantasticare soluzioni impossibili ma niente la scoraggiava ordiva congiure torturava il marito e gli amici perché mi portassero in attesa ospite alla festa dei cotton alla fine mi ordinò di mandare un mazzo di rose a casa dei cotton chiamò al telefono josep cotton e con la voce più suave del mondo gli disse che desiderava parlargli perché ecco desiderava farmi invitare e che non mi dicesse di no cotton è assai educato non disse infatti di no farfugliò scommetto arrossendo un incompressibile certo ne sono infinitamente felice e si limitò a farmi giurare che non avrei scritto nulla su lui e sulla festa giurai e l'indomani spolverata pettinata lisciata da valentina che mi spronava col candore degli innocenti partì per quella che consideravo la mia più eccitante avventura hollywoodiana la villa distava da hollywood 45 minuti di strada cesare danova l'attore italiano che è sotto contratto con la mgm mi accompagnò con l'automobile di valentina e lungo la strada mi dava consigli certamente gli ospiti erano stati messi in allarme e se le cose andavano male non avevo che telefonarli e sarebbe venuto con valentina ad asciugarmi le lacrime se si sbronzano non ti indignare diceva da nova succede sempre quaggiù se cascano in piscina non ti sorprendere è più che normale se si sbaciucchiano un po fai finta di nulla dinnanzi alla casa frenò con espressione infelice che dio ti accompagni disse e sembrava che andassi perlomeno all'inferno entrai vagamente impaurita la festa si svolgeva sulla terrazza del parco che guarda all'oceano i cartelli con le frecce indicavano la strada per arrivarci attraverso un labirinto di viottoli e scale camerieri negri vestiti di bianco tendevano il braccio dove non esistevano frecce fissandomi coi grandi occhi senza espressione alle finestre della casa pendevano bandiere degli stati uniti dal campo da tennis dove era sistemata l'orchestra veniva la musica dell'inno nazionale la gente importante di hollywood cura assai il patriottismo veniva dalla terrazza un fitto brusio di risate in cima alle scale con la faccia rossa di emozione gli occhi un po inquieti e il panciotto coi colori della bandiera americana stava il signor joseph cotton per ricevere gli ospiti benvenuta disse con un sorriso cortese il minore entusiasmo possibile solenne con una bandierina dei 49 stati appuntata sull'ampio petto di matrona la signora cotton mi porse la mano e mi sembrò che tremasse gli eletti tutti con la bandierina o qualcosa che ricordasse i colori della bandiera stavano sul terrazzo e bevevano whisky c'era david neven impeccabile inglese nonostante una giacchetta di rafia c'era greer gerson esilissima sofisticata dentro un abito azzurro cielo irriconoscibile sotto un ombrello di capelli rosa c'erano i registi hathaway e hitchcock e una vecchia signora vestita di verde la testa incappucciata di verde un sorriso dimesso che si confondeva fra le rughe splendidamente patetica nel ricordo di quella che fu norma shearer appoggiato sdegnosamente alla balaustra col volto mortalmente corrucciato e la moglie francese appiccicata al suo braccio c'era gregory peck sotto la loggia sprofondato in una poltrona di vimini abbracciato a due bastoni con un'aria incantata sul nobile volto di locusta c'era cole porter e accanto a lui gigantesco e solenne come un cardinale orson wells con la moglie italiana in fondo con la faccia rossa e spensierata rideva sammy colt vedendomi la risata gli morì nella gola my goodness balbettò e fu come un segnale di colpo il brusio e i sorrisi cessarono e tutti guardarono la sconosciuta come se dinanzi a loro si fosse spalancata la terra qualcuno posò sveltamente il bicchiere quasi fosse una patata bollente sammy mi corse incontro e penosamente imbarazzato porgendomi una razione di whisky spiegò che si trattava di whisky annacquato e non dava alla testa lo rassicurai spiegandogli che non avevo nulla contro le bevande che danno alla testa per convincerlo mi rovesciai in gola il bicchiere scarsamente annacquato sammy parve acquetarsi piace anche a lei disse con un sorriso ebete rivolgendosi a grir gerson che mi fissava come si fissa un insetto schifoso grir gerson sorrise sorrise anche david neven e sorrise anche norma shearer sorrise cielo perfino gregory peck tutti sembravano molto felici perché avevo bevuto e questo mi rendeva partecipe di un immaginario peccato l'unico che osservasse la scena con maligno distacco era orson wells che si divertiva moltissimo poi ebbero inizio le presentazioni nemmeno memi eisenhower o un agente delle tasse sarebbero stati trattati quel giorno con la cauta deferenza che mi fu tributata sulla terrazza dei cotton tutti sembravano preoccupati di riuscirmi graditi e dimostrarmi che non facevano nulla di male con monotona insistenza mi chiedevano se scrivessi una colonna mondana e restavano assai sollevati quando rispondevo di no allora volevano sapere che cosa scrivevo e insistevano per sapere se avrei detto bene o male di hollywood e soprattutto di loro mi irritavano e mi facevano pena mentre le rassicuravo senza successo in vano cercando fra gli alberi due fedifraghi che si baciassero o una diva che galleggiasse in piscina ubriaca la compostezza più assoluta regnava sulla festa che di colpo dopo l'arrivo della straniera che scrive era diventata innocente come una merenda di monache l'unica persona che bevesse scherzasse tutto sommato ero io ma nemmeno questo bastava da alleviare il loro terrore convinti come erano che si trattasse di un'astuta manovra per provocarli venne infine l'ora del lunch che si serviva su un'altra terrazza gli eletti fecero la cuda dinnanzi a un tavolo dove presero a sparagi riso al burro e tacchino poi in silenzio andarono a sedersi ai tavoli sotto gli ombrelloni era una splendida giornata d'estate il rombo del mare giungeva agli orecchi in un potente trionfo l'orchestra aveva smesso di suonare gli inni patriottici e ripeteva ballabili il verde del parco del signor cotten metteva allegria ma tutti sembravano molto infelici sperduti in un incubo non si preoccupi ora si svegliano mi disse orson wells ma sbagliava di grosso i camerieri negri passavano tra i tavoli coi vini francesi gli ospiti dicevano sempre di no ripetendo ad alta voce che bevevano acqua o tè zuccherato i soli che dicessero sempre di sì eravamo io paola e orson wells paola sbadigliava di noia ripetendo come se ciò la confortasse che presto sarebbero venuti in italia orson raccontava quanto fossero belle le corride ma nessuno ascoltava nessuno parlava nessuno rideva la conversazione languiva e cotten mi fissava con odio attribuendomene silenziosamente la colpa cominciavo a vergognarmi l'esperimento era durato fin troppo la mia curiosità è se era mutata in perfidia lo capivo ma allo stesso tempo mi veniva voglia di gridare e di ridere di fuggire da quel paradiso di mumie che non avevano nemmeno il coraggio di bere un po di vino francese per il sospetto che lo annotassi sul mio tacquino terribile senta dissi a orson wells mi sono fatta invitare e non sta bene li ho spaventati e non sta bene ma a questo punto tutto diventa ridicolo me ne vado e mi alzai inventando una scusa vengo anch'io non ho mai visto nulla di simile disse orson wells evviva disse paola mori agguantando la borsa joseph cotten mi guardò con sollievo poi con ira perché gli portavo via un ospite tentò di trattenerlo senza trattenermi veloce mi porse la mano e fu come se avesse lanciato un grido d'allarme subito tutti si alzarono e mi dovevano partire anche loro perché la sera si addormentavano presto e la mattina si alzavano all'alba per lavorare molti da anni non lavorano più poi mi domandarono se la festa mi fosse piaciuta e se ci avessi trovato nulla di strano e se avere scritto che non vi avevo trovato qualcosa di strano e che la gente di hollywood come avevo avuto modo di controllare era gente per bene che non provocava scandali e beveva pochissimo sembravano fanciulli preoccupati di ricevere rimproveri per una marachella inesistente e provocavano infinita pietà sicché pur rendendomi conto di avere sciupato loro una festa a cui tenevano tanto non mi sentivo colpevole perché intuivo che non poteva bastare la presenza di un giornalista a spaventarli così il loro bisogno di evitare gli estranei non aveva nulla di normale sembravano abituati alla diffidenza e al sospetto in seguito seppi di non avere sbagliato dovunque andassi e chiunque incontrassi la freddezza e la reticenza si ripetevano i divi di hollywood hanno paura del pubblico paura dei produttori paura soprattutto dei giornalisti che a volte sono i più preziosi alleati ma a volte i più spietati nemici a hollywood ne abitano oltre mille con il compito di scrivere notizie sui divi e soltanto sui divi infatti non v'è paesi al mondo dove si stampino tanti giornali dedicati agli attori fotoplay screen land modern screen screen stories screen album motion picture parades hollywood confession movie and tv personalities vendono ogni settimana decine di milioni di copie e nessuno riesce a evitare le loro inchieste indiscrete le interviste insinuanti i rimproveri severi e dolciastri here hollywood rivista mensile è arrivata al paradosso di introdurre addirittura le pagine parlanti vale a dire pagine dove è incisa l'intervista col divo ritagliandole potete ascoltarle come un disco normale ho acquistato per 50 cents un numero dedicato a natalie wood c'era davvero la pagina di cartone rotonda come un disco la appoggiai sul grammofono e con un brivido di sgomento ascoltai la vocina addolorata di natalie wood che diceva tutti mi accusano di frequentare troppi giovanotti io non credo di frequentare troppi giovanotti e nemmeno i miei genitori lo pensano vorrei giustificarmi per avere causato involontariamente un dolore a chi mi vuol bene mettendo in chiaro che sono una brava ragazza la quale si vuole sposare e avere bambini i quotidiani più seri hanno a hollywood i loro corrispondenti speciali che ogni giorno telefonano una colonna di pettegolezzi così quando june ellison da un ceffone al marito dick powell poche ore dopo lo sanno anche i contadini del nebraska e se debora care va a cena con rock hudson i cittadini di mineapolis ne sono informati con rapidità telegrafica il commercio di queste notizie con o senza sapore assume cifre allarmanti poiché ogni columnist ha al suo servizio centinaia di informatori che si fanno pagare la notizia che jane russell ha fatto l'occhietto a howard hughes può valere anche mille dollari quella che victor mature ha telefonato alla sua ex moglie non meno di 500 i columnist pagano senza battere ciglio per questo i divi li odiano e odiandoli li trattano con deferenza la scortesia può sempre provocare una punizione o un ricatto la sera in cui si svolse al beverly hilton il pranzo di gala in onore di sofia loren le due donne più corteggiate nella sala erano le columnist luella parson e edda hopper sedevano ai tavoli migliori e quando il pranzo di gala finì le statue di cera si recarono da entrambe a rendere loro l'omaggio di un bacio luella parson edda hopper e sheila graham destinata a raccogliere l'eredità delle prime due non sono soltanto le regine del pettegolezzo sono le arbitre della reputazione dei divi valgono bene un bacio poco sincero tutti hanno letto almeno una volta i nomi di queste signore ciascuna delle quale è ricchissima ha scritto o sta per scrivere un libro autobiografico e odia senza darlo a vedere le altre due la più potente è senza dubbio luella che si dice abbia raggiunto la posizione per l'interessamento personale di randolph hearst desideroso di esprimere la sua gratitudine perché luella aveva taciuto uno scuro incidente a bordo del suo yacht il re dei giornali si dice volle concederle la colonna di pettegolezzi che si stampa contemporaneamente su oltre 300 quotidiani d'america luella parsons ha 70 anni passati e scrive sui giornali da quando era una giovinetta fisicamente è un disastro la prima volta che la vidi mi fece paura piccola e grassa si veste spesso come una bambina di sera quando fa l'elegante non ha alcun riguardo a scoprire le sue venerabili spalle afflitta dalla dentiera sorride con un terribile ghigno e non si sa mai se intenda sorridere o farvi una smorfia dicono che non sia stupida e certo non lo è se ha fatto tanta carriera ma non sono mai riuscita a imbastire con lei un discorso che fosse più lungo di dieci parole dipende dal whisky aluella piace moltissimo e comincia a piacerle la mattina appena si alza così dall'alba fino a notte profonda vagola in una spensieratissima nebbia che le aumenta la sete e alla fine le impedisce di seguire il filo della conversazione non ho capito dunque come faccia scrivere le sue colonne sebbene l'estrema semplicità con cui esse vengono stese non richieda eccessivo sforzo celebrale ma è opinione comune che da qualche anno miss parsons prenda la penna in mano soltanto per firmare gli assegni e gli articoli siano compilati dai suoi giovani redattori ovviamente relegati nell'anonimo il suo ufficio è a beverly hills occupa molte stanze ed è una delle redazioni meglio organizzate di hollywood la più cattiva è invece edda hopper quella che va sempre a zonzo sotto un cappello i cappelli essendo con la perfidia gratuita l'unico scopo della sua vita ne ha 900 quanti non ne possiede nemmeno john negulesco edda confessa 64 anni e fu una celebre bellezza del resto ancora oggi brutta non è figlia di un macellaio scoprì adolescente la passione per il cinema e tentò di fare la diva ma senza ottenere successo allora ripiegò sul giornalismo ora scrive per una catena di 200 giornali possiede una casa molto raffinata bel air e ha raccolto un numero incalcolato di toilette e di maledizioni è senza dubbio una delle donne più eleganti d'america e anche una delle più odiate la sua malignità e il suo gusto della maldicenza sono direttamente proporzionati al numero dei suoi lettori circa 32 milioni dice lei e alla consapevolezza della sua forza è più facile andare a cena con merlin morrow che avvicinare miss hopper protetta da cani mordaci maggiordomi con la livrea e segretarie villane nemmeno gli attori riescono sempre a vederla giacché è lei che stabilisce quando li vuole vedere forse le dovrei più gratitudine perché a me ha concesso un colloquio ma dopo aver parlato con lei mezz'ora la cosa più cortese che posso dire è che non è una donna è un personaggio da commedia umoristica tutto vestiti e battute ha anche un cervello perché a differenza di luella faceva discorsi molto filati in quella mezz'ora non le ho sentito dir bene nemmeno di un morto schiacciata sotto un cappello più largo di un parapioggia avvolta in una toilette di don altman il sarto di hollywood me l'ha regalato proprio stamane ignoro perché ma tutti mi fanno regali e io non mi chiedo perché miss hopper volteggiava in un salotto pieno di gingilli preziosi e con un sorriso sprezzante spiegava il suo credo non risparmiare nessuno dire sempre male di tutti con piacersi di essere definita una vipera il giorno in cui mi diranno che sono buona cara e gentile morirò di dispiacere non voglio dunque che muoia di dispiacere edda hopper è una vipera lo è soprattutto perché risparmia qualcuno le persone potenti quando howard hughes fu preso a cazzotti in un albergo di chicago dal marito di terry moore nessuno lo seppe perché edda hopper che aveva l'esclusiva della notizia non la stampò howard hughes in america è molto potente non soltanto perché è il padrone della 20 century fox ma perché pompa mezzo petrolio del continente e possiede un numero incalcolabile di compagnie aerei miss hopper quando viaggia in aereo non paga mai il biglietto la terza regina di questo discutibile regno è sheila graham di cui si è sentito meno parlare perché la sua incoronazione è più recente in confronto alle sue vetuste colleghe sheila graham è una bambina non ha ancora compiuto 50 anni però è stata brava anche lei la sua colonna appare quotidianamente su 80 giornali incluso uno di sydney uno di melbourne e uno di barcellona bella donna ex attrice di balcoscenico divorziata due volte madre di un figlio già adulto sheila si distingue dalle altre due anche per una scrupolosa preparazione professionale è stata nel 1941 corrispondente di guerra la sua biografia offrì anni fa lo spunto per un film interpretato da barbara stanwich e clark gable indianapolis narrava la storia di una giornalista bella e spietata che si innamora di un campione sportivo i suoi mariti sono sempre stati notissimi atleti sheila non se ne offese perché ama la pubblicità il migliore omaggio che ha avuto confessa è l'opuscolo del suo sindacato dove figurano perfino le sue misure anatomiche dall'opuscolo si apprende che nei periodi di dieta miss graham alla taglia 44 e non bisogna fidarsi del suo sorriso dolcissimo le sue frasi tagliano come un coltello e sono molti press agent che vorrebbero avvelenarla risponde sheila mi piace lavare al sole i panni sporchi degli altri c'è poi una quarta signora la cui importanza è definitiva negli attacchi di fegato a hollywood e questa è cobina wright senior columnist anche lei arbitra mondana e autrice di una biografia spiritosa non sono mai cresciuta donna di mondo amica di scienziati capi di stato e re cobina fu l'unica americana invitata insieme con mammy eisenhower alle nozze di filippo con elisabetta d'inghilterra l'amicizia con filippo di edimburgo data da quando egli si innamorò di cobina wright junior figlia di cobina wright senior la quale gli preferì un americano cobina tiene la fotografia con una dedica di filippo di edimburgo sul cassettone di camera sua accanto a quelle sempre con dedica di truman eisenhower toscanini la regina federica di grecia pietro di jugoslavia umberto di savoia margaret d'inghilterra tutta gente con la quale è in dimestichezza poiché appartiene alla cerchia ristretta delle 400 famiglie l'aristocrazia americana cobina divenne giornalista hollywood dopo essere stata una delle dame più in vista di new york il crack del 1929 la ridusse in miseria e cobina si consolò inventando una colonna society as i see it la società come la vedo io i divi non temono cobina per quel che scrive è sempre chic e ritiene sbagliato pubblicare insolenze ma per quel che non scrive siate ignorati a hollywood da cobina e la vostra importanza sociale subirà gravissimo danno il suo disprezzo silenzioso colpisce come una randellata ora ammettiamo a voler essere ingenuamente ottimisti che cobina non ignori i poveri divi che scila li lusinghi che luella li ami che edda li risparmi un'altra minaccia l'insidia e questa è la più grave di tutte confidential il processo di confidential appartiene ormai alla storia di hollywood come greta garbo cecile de mille e marlene morrow nell'aprile di quest'anno il giornalino messo in allarme dal pericolo di sequestro si è tagliato le unghie limitando la tortura sistematica ai divi ma la stampa scandalistica resta e soprattutto resta bob harrison il direttore di confidential che invece di trovarsi in prigione è libero come un uccello che gira più strafottente di prima a bordo della cadillac bianca bob harrison è uno scapolo di 54 anni dalla faccia sgradevole e il cappello sempre calato su un occhio come le caricature dei gangster ammette d'essere inalfabeta fino a qualche anno fa era morto di fame viveva in una camera mobiliata a los angeles poi fece quattrini con certe riviste pornografiche beauty parade flirt wink teeter eyeful dedicate alla glorificazione della ragazza americana per lo più seminuda o addirittura come mamma l'ha fatta più tardi harrison capì che si faceva più soldi arricchendo quei nudi artistici con qualche inchiesta dedicata al bad time l'ora di andare a letto si dedicò dunque alle storie di sadismo e di masochismo scoprì il valore del fotomontaggio e fondò la rivista whisper dove apparivano articoli col seguente titolo è vero che gli atleti sono amanti poco efficaci nel giro di pochi mesi la rivista raggiunse una tiratura eccezionale allora harrison pensò a qualcosa di più violento una rivista cioè dinnanzi alla quale whisper apparisse a child's garden of verses un giardino di poesie per fanciulli ed ecco confidential dice harrison che l'idea di fondare confidential non fu affatto gratuita divenne osservando l'avido interesse che il pubblico americano dimostrava verso l'inchiesta televisiva del senatore keef over sui crimini la corruzione e il vizio se la gente si divertiva a conoscere le malefatte dei gangster e dei morfinomani quanto si sarebbe divertita a leggere le malefatte di personaggi famosi come i miliardari i cantanti e gli attori di hollywood il primo numero di confidential apparve nel dicembre del 1953 una striscia sulla copertina avvisava che la rivista mensile era uncensored and off the records e la sua caratteristica era tell the facts and named names raccontare i fatti e fare i nomi nelle pagine interne era chiaramente spiegato ciò che queste frasi significassero confidential raccontava con abbondanza di particolari ciò che i giornali seri non raccontavano compresi gli episodi di stupro e di omosessualità in sostanza vendeva sesso scandalo e sesso politica e sesso argomenti pseudo scientifici e sesso con nomi cognomi indirizzi e fotografie dei personaggi incriminati da ali khan a farouk da johnny ray a winthrop rockfeller dal duca di windsor al re gustavo di svezia ma soprattutto da un attore a una celebrità di hollywood si leggevano ad esempio la storia di un attore che si presenta nudo a una festa con una parte del corpo spalmata di pomodoro e dice che è una polpetta col sugo la storia di un'attrice accusata dal marito di mostrare troppa simpatia per un adolescente dai capelli rossi la storia di una starlet apparentemente l'ingenua di hollywood che è in realtà una ninfomane la storia di una diva ricattata dall'amante senza quattrini la storia di una ricca ereditiera che amoreggia esclusivamente con negri ammalati ed ecco alcuni titoli fernando lamas e la ragazza che disse guarda e non toccare con la fotografia di fernando lamas teso verso una ragazza che lo respinge ovvio fotomontaggio acchiappato guy madison nel boudoir di barbara payton con la fotografia dell'automobile dell'attore ferma dinnanzi alla casa dell'attrice e il seguente sottotitolo guy madison sapeva che non avrebbe dovuto indossare solo i calzini quando francio tone irruppe nella casa della sua fidanzata caro victor major ricordi quella brunetta che frequentavi a londra ebbene non era lei era lui con la fotografia dell'incriminato truccata e vestita da donna e la fotografia del medesimo nei vestiti e con la pettinatura da uomo quel joe ebbe buon tempo nell'automobile con marilyn morrow storia di un'avventura di marilyn morrow agli inizi della carriera e fotografie di marilyn morrow abbracciata all'incriminato che si chiama bob sletzer perché la canzone di liberis dovrebbe essere pazzo per un ragazzo celebre articolo su un presunto ma circostanziato episodio di omosessualità del cantante che fu il primo a dare querela a bob harrison la pubblicità contenuta in confidential era degna degli articoli soli perché volete essere soli scrivete a speciale offerta per gli amanti l'arte di baciare un libro indispensabile il primo numero della rivista vendette 180 mila copie ma l'anno dopo era già salito a un milione e al momento del processo toccava quasi quattro milioni bob harrison era protetto in questa corsa al successo dal giornalista più conosciuto e potente d'america quel walter winchell che scrive una colonna quotidiana sulla catena di hearst ed è legato a personaggi che non sopportavano mosche sul naso non sentirete facilmente fare il nome di winchell nella faccenda confidential winchell è troppo rispettabile per essere pubblicamente accusato all'epoca dello scandalo tutti sapevano che winchell aveva uno zampino nella impresa editoriale di harrison sapevano anche che egli chiamava confidential my pet mag il mio giornale preferito e che lo citava spesso nella sua colonna ma nessuno lo metteva in rilievo sospettavano infine che egli fosse il vero padrone di confidential ma la prudenza tutti abbiamo una famiglia li tratteneva dall'avanzare un simile sospetto solo time magazine nel numero dell'11 luglio 1955 fece coraggiosamente il nome di winchell e alvin davis nella sua inchiesta sulla new york post lo ripete chiaramente come se la siano cavata non lo so a stuzzicare certa gente in america c'è sempre il pericolo di buscarsi una coltellata misteriosa o almeno un'ancor più misteriosa scarica di pugni comunque i miei amici di hollywood mi ripetono che se scrivessi che winchell è il vero padrone di confidential andrei sicuramente in cerca di guai così non lo scrivo non c'è pericolo invece a dire che winchell era innocente come una colomba e harrison colpevole come un ladro sorpreso a rubare nelle riviste che nacquero dopo il successo di confidential e come confidential si misero a perseguitare gli attori di hollywood hush hush top secret dynamite suppressed uncensored rave private lives exposed inside story hanno da tempo una tiratura complessiva di 15 milioni di copie una di queste riviste suppressed particolarmente impegnata a torturare lana tarner e ava garner è diretta da una donna la 42enne edith farrell già collaboratrice di confidential la quale si rivolge soltanto a un pubblico di donne quando edith farrell dichiarò che suppressed possedeva migliaia di abbonate harrison dichiarò fieramente alla stampa quella per bene noi provvediamo a vitaminizzare la società sesso e peccato non devono essere taciuti perché il pubblico paga le tasse e ha diritto di sapere la verità nessuno può accusarci di calugna perché la verità non è certo calugna bob harrison non pubblica infatti sempre menzogne nell'articolo inesatto c'è sempre una base di verità e se è falso vuol dire che bob harrison è in possesso di una verità più scandalosa della menzogna che ha scritto ammettiamo ad esempio che pubblichi la storia dell'attore x y la cui moglie è stata sorpresa in un corridoio a baciare il cantante z v e che sia una calugna con 90 probabilità su 100 la calugna significa che la persona sorpresa a baciare il cantante z v non era la moglie dell'attore x y ma lo stesso attore x y di qui nasce il ricatto se l'attore protesta o da querela harrison pubblica la verità l'attore non protesta quasi mai non protesta nemmeno se è innocente e la moglie è davvero colpevole dick powell sua moglie june hallison fu spesso presa di mira da confidential dichiarò tempo addietro cosa potete fare quando una montagna di bugie sommerge vostra moglie l'avvocato mi ha detto che la querela per calugna è come soffiare al vento è un compito che spetta al governo rory callown i cui trascorsi in prigione furono spesso illustrati da confidential disse non me ne sono preoccupato troppo ho ricevuto molte lettere non tutte amichevoli dopo la pubblicazione quel rushmore che scrisse la storia mi aveva chiamato prima di stamparla per avere qualche altro particolare aggiungendo che in qualsiasi modo l'avrebbe stampata che potevo farci glieli diedi sapeva troppe cose i soli che si ribellarono al malcostume furono robert mitchum maureen oara errol flynn e liberace ne nacque il processo che sappiamo e ancora oggi molta gente di hollywood si chiede se non avrebbero fatto meglio a lasciar correre certo il loro fu un gesto di coraggio ma dopo le scandalose dichiarazioni fatte dai testimoni durante il processo chi si sentirebbe di non credere completamente alle accuse di bob harrison gli informatori di costui non sono stinchi di santo call girls amanti tradite mogli deluse portieri cui non basta la mancia ma sono bene informati e più informati di loro sono i detective privati della hollywood research organismo di harrison e i poliziotti che prestano servizio per bob harrison nessuno ad esempio mise mai in dubbio l'autenticità delle fotografie scattate con teleobiettivo da fred otosh capo della southern californian division of the california state bureau of private investigators e che ritraevano anita ekberg con mezzo bichini mentre abbracciava la loro affidanzato anthony steel erano fotografie di pessimo gusto ma autentiche anita tacque tacquero quando accusate anche persone assolutamente innocenti capitolo terzo le vittime di bob harrison vanno a implorare perdono per i loro peccati mortali in una chiesa cattolica di beverly hills contiene appena 200 persone all'aspetto pulito e modesto delle chiese di campagna è circondata da un prato dove i fedeli parcano lussuose automobili dagli assurdi colori la chiamano per questo our lady of the cadillacs nostra signora delle cadillac sebbene sia dedicata al buon pastore the good shepherd church la facciata dipinta di bianco si affaccia sul tratto più elegante di sunset boulevard dove il viale si arricchisce di verde e di palme davanti c'è la villa rosa del regista vincent minelli dietro c'è il beverly hills hotel dove si danno ricevimenti e si svolgono sensazionali episodi destinati a finire sul giornale le vittime di bob harrison la preferiscono per la sua posizione per il fatto che ci vanno anche le giornaliste cattoliche costoro possono dunque testimoniare quanto siano buoni e devoti gli attori di hollywood e perché il parroco è un igienista la pila dell'acqua santa contiene acqua sterilizzata l'aria è satura di ddt non c'è puzzo di fumo perché le candele sono tutte elettriche né profumo di incenso perché a molti dannoia d'inverno la chiesa è riscaldata col termosifone ed estate è rinfrescata col ventilatore le panche sono comode ampi e sempre verniciate di fresco mancano soltanto i cuscini onde mortificare la carne una domenica mattina mi recai alla chiesa della nostra signora delle cadillac scelsi la messa delle undici ben sapendo che il misticismo più acuto soccombe nei divi di hollywood come nei nostri commendatori alla voglia di dormire quando è domenica e non sbagliai mi ero appena sistemata nell'ultima panca quando la sorprendente processione ebbe inizio arrivò per primo l'attore van johnson tutto serio e vestito di blu con un fiore bianco all'occhiello e la moglie sotto braccio tuffò l'indice nell'acqua sterilizzata si inginocchiò per terra nascondendo il faccione tra le mani poi a testa china si mise a sedere sulla terza panca a sinistra dove c'era scritto van johnson subito dopo arrivò gregory peck con la seconda moglie veronique passani nascosta sotto un cappello di fiori molto francese e i tre figli avuti dal primo matrimonio con greta a uno a uno infilarono il dito nell'acqua sterilizzata si inginocchiarono un poco più in fretta e in fila indiana andarono a sedersi nella seconda panca a destra dove c'è scritto gregory peck poi arrivò loretta young che è la diva più devota di hollywood quella che guida l'automobile dicendo il rosario era accompagnata dalla figlia ormai 19enne dal marito che il giorno avanti le aveva fatto causa per disaccordo finanziario su una società televisiva posseduta insieme dalla sorella e dal marito della sorella riccardo montalban loretta tuffò tutta la mano nell'acqua sterilizzata bagno le dita della figlia della sorella del cognato ma non quella del marito che la dovette tuffare da sé poi con la stessa espressione degli altri andarono a sedersi nella panca successiva a gregory peck dove c'era scritto loretta young la processione durò un quarto d'ora venne anne miller con la testa protetta da un velo simile a quello delle donne musulmane che le copriva anche la faccia e le maniche così lunghe da fare invidia a un frate certosino venne jean crane con tre figli e il marito paul brinkman da costui si separò perché la picchiava ma ci tornò poi per istigazione del parroco venne debra paget festita e priva di trucco come una monaca venne vincent minelli insieme con l'ultima moglie e poi vennero le sorelle pierangeli con la mamma e la sorellina anne baxter e margaret o'brien e salutata da occhiate dense di rispetto già barcollante per l'aperitivo mattutino venne infine luella parsons senza infilare il dito nell'acqua sterilizzata perché la pila è troppo alta e non ci arrivava luella sedette in un punto dove si poteva dominare la scena tiro fuori matite e tacquino e si mise a segnare i nomi dei divi presenti alla messa in mezzo all'altare immobile come una statua stava un giovane prete dagli occhi tremendi quando i divi furono tutti a sedere incantati come angioletti e fu chiaro che altri non sarebbero giunti disse ok si voltò di scatto e cominciò a dire messa fu la messa più lunga alla quale mi sia capitato di assistere il giovane prete dagli occhi tremendi si muoveva con estrema lentezza quasi ci provasse gusto a farli restare dentro la chiesa e fu anche la messa assistita dal pubblico più composto che avessi mai visto dalla mia panca non potevo osservare i volti dei divi ma seguivo i loro movimenti e con stupore mi accorsi che non sbagliavano un gesto non mostravano un attimo di distrazione al momento giusto aprivano il libro delle preghiere e al momento giusto cantavano si alzava su tutte la voce esaltata di loretta young quasi essa volesse diffondere con la forza delle sue corde vocali l'ardore evangelico che la scuoteva infine in un silenzio carico di inquietudine il giovane prete dagli occhi tremendi salì sul pulpito e cominciò la predica il volto scarno bianco come una candela esprimeva accusa e disprezzo le mani adunche aggrappate al legno del pulpito tremavano fissò a uno a uno i divi che cominciarono ad agitarsi poi alzò un braccio e puntando l'indice secco gridò peccatori ascoltatemi addolorati e confusi i divi voltarono meglio la testa ascoltatemi peccatori ripete allora a voce più bassa perché mai una storia si disse a voi e a questa città come quella che sto per spiegarvi vidi loretta young rannicchiarsi su se stessa come un pulcino nell'uovo vidi van johnson allentarsi il nodo della cravatta come se soffocasse e tutti i divi sembravano molto nervosi l'unico che non desse segno di eccessiva preoccupazione era gregory peck impegnato a tener fermi i bambini luella parsons placidamente russava il giovane prete le lanciò un indefinibile sguardo poi esplose nel suo spietato sermone il sermone prendeva lo spunto dalla distruzione di sodoma e gomorra e con voce tonante il giovane prete raccontava il castigo divino allora il signore fece piovere zulfo e fuoco dal cielo su sodoma e gomorra e subissò quelle città tutta la circostante pianura tutti gli abitanti delle città e tutta la vegetazione disse puntando ancora spietato l'indice contro i poveri divi e così accadrà aggiunse a chiunque vive nel vizio e nel peccato i divi tremarono luella parsons intuendo il pericolo si svegliò con uno scossone non il giudizio degli uomini dovete temere ma il giudizio di dio disse il giovane prete perché voi siete i cittadini di sodoma e gomorra e zulfo e fuoco vi meritate non capivo perché urlasse così ma certo li trattava malissimo come se ciascuno di loro fosse responsabile delle turpitudini registrate migliaia di anni addietro nella valle del giordano e li minacciava di catastrofiche punizioni celesti malattie terribili pericolo d'essere trasformati in statue di sale e a ogni minaccia vedevo van johnson and baxter ricardo montalban piegarsi dolorosamente sul lebricino demissa cercando un rifugio e nascondendo una faccia che certamente era rigata di lacrime poi finalmente l'angoscia finì il giovane prete scese dal pulpito e con maggior gentilezza li invitò a ricevere la comunione docili come agnelli disciplinati come boy scout gli sciagurati divi si alzarono e si misero in coda due sacrestani vestiti di grigio con una gardenia finta all'occhiello controllavano tuttavia che facessero ogni cosa per bene richiamandoli all'ordine se si spostavano di due centimetri conducendoli per un braccio dinanzi all'altare quasi fossero i loro infermieri nemmeno in san pietro per l'anno santo avevo visto cattolici così umili e bravi e ferventi tornavano alle loro panche con gli occhi chiusi le mani giunte i volti felici e purificati a mezzogiorno e mezzo quando la messa ebbe fine sciamarono fuori come fanciulli dandosi allegri spintoni dimenticata la furia di dianzi il giovane prete sorrideva indulgente agitando le braccia come un pugilatore in trionfo suonavano le campane c'era un sole pulito l'aria sapeva di clorofilla le anime erano linde come il bucato chi avrebbe creduto che buona parte di quei divi era implicata nel processo agli scandali erano così cari si scambiavano dolci sorrisi la loro conversazione era casta e borghese vuoi venire stasera a bere una limonata da me domandava ann blight a ann miller ho una meravigliosa torta di fragole paul adora la torta di fragole diceva jean crane a vincent minelli suggerirei un picnic a pole springs bobby alla scarlattina si lamentava jane russell a proposito pierre come vai il team del bimbo di don volavano nell'aria espressioni celestiali honey sweetie daddy mommy sugar miele dolcezza babbino mammina zucchero se non avessero assolutamente ignorato chi ero e cosa facevo è perché li stavo ad ascoltare avrei giurato d'essere vittima di una diabolica congiura di imbroglioni invece no erano sinceri dopo la messa perlomeno non recitavano una ipocrita commedia sicché sembrava ridicolo essere andata così spesso a cercarli nei ristoranti in voga e nei night club quando passavano davvero le loro feste intorno a una torta di fragole per la sera avevo un invito a casa di hathaway il regista ci sarebbero stati anche jose ferrer e la moglie rosemary cluny incinta di sette mesi e forse forse l'invisibile howard hughes hathaway e ferrer sono due tipi brillanti senza paura e senza conformismi andai fiduciosa di sostenere una conversazione vivace piena di aneddoti e di eccitanti polemiche e fui accolta da un gentilissimo ss gli uomini seduti su un divano assistevano a una partita di pugilato alla tv nessuno parlava solo ogni tanto supplicavano un certo campione bianco di tirare un sinistro contro la mascella dell'avversario negro le donne stavano in un'altra stanza come accade nelle campagne italiane quando dopo cena i maschi si mettono da una parte e le femmine da quell'altra perché i discorsi degli uni non si convengono ai discorsi delle altre rosemary cluny raccontava indignata alla signora hathaway che vestiva quasi per sbaglio una toilette centrica composta di pantaloni e bustino le malefatte della sua donna di servizio e le difficoltà di trovare una cameriera da bene le quo che poi pretendono stipendi colossali specialmente se sono alsaziane la mia presenza le riempì di entusiasmo perché volevano che raccontassi loro quanto guadagnano in italia le donne di servizio e se rispondono male al padrone e se fanno la cresta sulla spesa risposi loro che non ne sapevo granché e andai a guardarmi coi mariti la partita di pugilato poi alle 11 in punto tutti si alzarono perché era tardissimo e andarono a letto hathaway comprensivo mi disse non se ne meravigli oggigiorno a hollywood è di moda la semplicità essere rispettabili borghesi e assai timorati di dio è il modo migliore per apparire chic ed è pericoloso fare il contrario ci accuserebbero subito di stravaganza che nel nostro gergo vuol dire pazzia cosa vuole talvolta rimpiango i bei tempi in cui marion davis dava le cene con un rubino nel melone ghiacciato o un diamante nascosto nel melone ripieno non so come abbia fatto bob harrison a scoprire tante infamie a sistemare a hollywood le sue agenti provocatrici in apparenza almeno questa è la città più noiosamente per bene d'america ci sono più bacchettoni fra la gente di hollywood che fra gli iscritti dell'azione cattolica forse bing crosby george murphy pat o'brien e dennis day sono insieme con loretta young e anne blight i più attivi propagandisti del vaticano robert young è sacristano della episcopal church of the stars che vanta come fedeli assidui anche lauren bacal james mason fredaster e george seaton jane russell è segretaria di una organizzazione che si chiama cool and crazy for christ calmi e matti per cristo la rendei dirige l'ufficio pubblicità della chiesa dei mormoni gail storm è supervisore al fronte dei giovani della hollywood christian church il cui programma radiofonico è finanziato ormai da sei anni da una diva che vuole mantenere l'incognito door sherry capo della mgm scrive i sermoni per le funzioni ebraiche elanor powell moglie di glen ford ha rinunciato alla carriera di ballerina per dirigere la scuola della comunità presbiteriana che si chiama faith of our children penso che il signore abbia organizzato astutamente la mia vita permettendomi di diventare una ballerina famosa e poi servirmi di questo per la pubblicità della mia scuola dice con soddisfazione la powell quando parla delle inscrutabili vie della provvidenza joanne woodward vincitrice dell'oscar 1958 minaccia di abbandonare la professione di attrice per dedicarsi a un'associazione religiosa che cura l'infanzia abbandonata e non li dico tutti perché mi viene annoia certo che il misticismo è una ossessione in questa città accusata di sguazzare nel peccato come nel petrolio ci sono più chiese a hollywood che cinematografi più preti che attori le scritte luminose jesus saves cristo salva inseguono lungo tutte le strade i giornali della domenica dedicano una pagina intera agli avvisi pubblicitarie delle varie parrocchie la radio comincia il sabato sera a trasmettere musica religiosa sermoni servizi evangelici prediche che annunciano la fine del mondo se non si mette giudizio e non smette che il lunedì mattina quando termina il santissimo weekend un cieco ascoltando potrebbe illudersi d'essere nell'italia di fanfani invece che nella cosiddetta capitale del cinema la mania del culto supera a volte il divismo e la morale ha spesso il sapore di un incubo quasi come da noi preti studios comitati e polizia provvedono giorno e notte a moralizzare l'ambiente chi intende esercitare a hollywood la più antica professione del mondo cade in gravissimo errore perché immediatamente viene scoperta e allontanata dalla città uno sceriffo mi ha raccontato così ammettiamo che la ragazza si mi dorothy smith e che affitti un appartamento sul sunset strip qualche giorno dopo il suo arrivo un poliziotto bussa alla porta e con la maggiore grazia possibile chiede se lì abita mercedes rockwell naturalmente dorothy smith risponde che lì abita dorothy smith peccato dice il poliziotto volevo dire a mercedes rockwell che abbiamo notato un via vai sospetto e che farebbe bene a sloggiare perché la sua presenza non è gradita alla gente per bene sia gentile se per caso conosce mercedes rockwell le dica che ho lasciato per lei questo messaggio la mattina dopo dorothy smith è partita parole di fuoco vengono dedicate alle stelline che per farsi pubblicità mostrano troppo ciò che di regola andrebbe nascosto ciò non significa che le stelline ne tengano gran conto ma è un fatto che non c'è una sola persona a hollywood capace di sorridere con indulgenza perché vicky dougan si ostina a indossare abiti scollati sul dorso fino alle reni jane mansfield è dovuta restare due mesi in castigo perché al cocktail in onore della loren si fece fotografare con uno scollo che le arrivava all'ombelico e natalie wood ha dovuto sposarsi per mettere fine alle chiacchiere che le rinfacciavano troppi giovanotti gli agenti pubblicitari impazziscono all'idea che tab hunter montgomery christ george nader insistano nel rimanere scapoli così alimentano chiacchiere estremamente noiose come quella che essi non possano soffrire le donne tutti sanno come il press agent di rock hudson si affrettò a farlo sposare con la sua segretaria quando quelle voci divennero insistenti tab hunter ha dovuto dare in pasto a tutto il mondo per la stessa ragione una casta amicizia con la stellina francese echikakuru e nader ha dovuto raccontare che dorme ogni notte abbracciato alla fotografia di marta hire una vera campagna si sta svolgendo a favore di tony perkins che non dà appuntamento a una ragazza nemmeno a morire e lo si giustifica dicendo che è un mama boy vale a dire un figlio di mamma mamma gli impedisce di prendere moglie per egoismo i metodi variano da persona a persona anni fa ferley granger e sul suo disinteresse per le femmine nessuno si sentirebbe di esprimere un'ombra di dubbio fu costretto a fare un viaggio con shelley winters perché il pubblico smettesse di credere quel che credeva e si lasciasse convincere dell'esistenza di un flirt fu un lungo viaggio attraverso le città dell'america e poi d'europa shelley con generosa indulgenza esibiva un anello di fidanzamento sull'anulare sinistro dicendo che glielo aveva regalato ferley preludio a un matrimonio imminente in realtà erano due commilitoni e dormivano in stanze separate sebbene l'appartamento per contratto fosse il medesimo e soltanto quando fu finita questa commedia di tenerezze femminili l'attore poté tornare a testa alta nella rispettabile hollywood pagine che grondano zucchero e compiacimento vengono dedicate ogni settimana alla pierangeli e a vic damon cattolici conformisti puri come bambini e alle altre coppie che si vogliono o dicono di volersi moltissimo bene tony curtis e janet leith debbie raynolds eddie fisher glenford e eleanor powell il momento più importante nella carriera di una attrice è il matrimonio e sebbene a los angeles si possa ottenere la licenza entro un'ora esibendo soltanto la richiesta e il certificato della vasserman sono pochi coloro che si sposano di nascosto e in modo affrettato i più saggi provvedono ad annunciare le nozze affidandone la pubblicità agli studios che pagano quasi tutte le spese il cerimoniale che non varia da anni è rispettato con scrupolo impone l'abito della sposa disegnato da helen rose che lo fabbricò anche a grace kelly a elisabeth taylor per il matrimonio con nick hilton e jane powell e a darlene doll se non helen rose lo deve disegnare don loper l'ex ballerino che fa anche il coreografo e l'arredatore di alberghi per quelle feste di cui confidential parla sovente l'abito della sposa hollywoodiana è il più conformista che si possa pensare in pizzo bianco o in taftà con le maniche lunghe lo scollo chiuso la gunna ampia e il velo il ricevimento fa parte di un rito e guai a chi cerca di correggerlo con qualche eccentricità un buon ricevimento deve avvenire nella crystal room del beverly hills hotel oppure da romanoffs e lo si deve affidare agli scenografi warren howing o john bistal costoro preparano le prime nozze di shirley temple che fanno testo dopo 12 anni al momento in cui shirley temple baciò john agar quale legittima sposa bistal pigiò un bottone tirò due o tre corde e quello che sembrava all'interno di una cattedrale si trasformò in una sala da ballo l'altare si girò rivelando un fornitissimo bar l'organo si mise a suonare anziché una marcia annuziale del low and green the man i love le panche spostate rivelarono pantagruelici buffet mentre nell'aria svolazzavano facendo cadere uova di cioccolata autentiche colombe sempre don loper disegna l'abito per il primo divorzio che di regola consiste in una toilette grigia con pelliccia grigia e accessori grigi risparmiò quest'uniforme del divorzio a zaza gabor e a mary morrow che scelsero un tagliore nero con collo sbuffante e la gonna diritta assolutamente identico sebbene divorziassero da uomini diversi ed è ancora questo don loper che disegna la toilette del primo genito il primo genito nella carriera della diva è una conquista importante come il matrimonio un tempo dice con tristezza claire campbell il truccatore delle dive era di moda presentare le attrici come creature inaccessibili meravigliose depravate che si consumavano in amori illegali e in orge scandalose la maternità era un noioso incidente che poteva rovinare la popolarità di una diva da evitare dunque il più possibile oggi si fa di tutto per dimostrare che le attrici sono donne come le altre mugli fedeli e madri fertilissime e devote nessuna oserebbe presentarsi da ciros a cavallo di un elefante vestita soltanto con un costume da bagno come fece sonia henny preferiscono farsi fotografare in cucina mentre lavano i piatti nel migliore dei casi si fanno sorprendere nella nursery dell'ultimo nato mentre gli rassettano la culla o lo guardano estasiate mi viene da piangere anche a hollywood come da noi il miglior modo per abbracciare il mito della rispettabilità è mettere al mondo bambini così le dive più ossequiate sono anne blight debbie raynolds debora kerr jane powell jane crane anna maria pierangeli doris day che gloriosamente descrissero le fasi delle loro gravidanze dalle nausee fino al taglio dell'ombelico sulle pagine di screen land o fotoplay i divi più ossequiati sono ben crosby james stewart james mason burt lancaster che non perdono occasione per farsi fotografare insieme ai numerosi figliuoli come certi ministri italiani che cercano il voto fraser è il mio miglior press agent mi disse charlon eston l'attore che ha impersonato mosè nei dieci comandamenti e che ora sta in italia per fare ben ur quando lo andai a trovare nella sua casa a los angeles fraser è il figlio che charlon eston ha avuto dopo dieci anni di matrimonio charlon non si fa mai fotografare senza di lui non solo ha salvato la nostra unione ma ha salvato la carriera di chuck mi disse lydia la moglie prima dell'arrivo di fraser infatti charlon eston era assai criticato per i suoi dissidi con lydia ora lo giudicano un padre adorabile con sorte squisito è giusto che abbia tanto successo e chuck è ansioso che la moglie ne partorisca un secondo ci tengo a dare il buon esempio al paese il mio sogno non è fare la diva è sposarmi e avere tanti bambini mi disse nathalie wood e anche kim novak ripete spesso questo discorso e perfino quella fanciulla terribile che si chiama vicky duggan in italia me lo avevano già fatto con aria compunta silvana pampanini e una ventina di sue colleghe sì forse jane russell esagera con le sue scollature ma ammetterete che è una mamma amorosa non vedete con quale grazia dà la pappa al bambino ho sentito dire che venti giorni dopo la morte di boogie loren bacal era sbronza a una festa dio mio e se fosse vero boogie le ha lasciato due orfani dovrà pur consolarsi la poverina però lana tarner non credi che il parroco dovrebbe dirle qualcosa non cominciamo sai bene che lana è rimasta sconvolta quando ha perso il bambino che doveva avere da baxter e ammetterai che per cheryl è una mamma straordinaria l'isterismo per la nascita del figlio di una star è paragonabile a hollywood solo a quello che sconvolse l'italia quando gina l'olubrigida mise al mondo l'erede e tutta hollywood pianse quando in seguito a un incidente aereo la pierangeli rischiò di perdere il primogenito perry pierre come la chiamano gli intimi era al terzo mese e andava in vacanza a pond springs prese l'aereo e durante il viaggio si chiuse un momento nella toilette la hostess dimenticò di chiamarla perché mettesse la cintura di sicurezza mentre l'aereo ballava e pierre cade con una gamba dentro il water closet trascinandosi addosso uno specchio la trovarono all'arrivo col ventre e la faccia pieni di schegge di vetro la gamba e il bacino fratturati salvate il mio bambino disse pierre la frase di una qualsiasi altra donna ma detta da pierre assumeva un significato simbolico e bastò a trasformare la diva in un'eroina le parole vennero ripetute alla radio recitate alla televisione pubblicate su tutti i giornali e nascerà la creaturina di pierre si chiedevano angosciati i reporter di hollywood tutto il paese assiste in lacrime alla tragedia immobile al suo capezzale vic damon recita alla moglie l'ave maria e il salve regina ecco una coppia che dovreste imitare pierre ha voluto che vic tendesse un filo lungo la stanza e ci attaccasse fotografie di bambini la aiuteranno a superare lo shock e poi la fotografarono a letto e poi ha spasso con la gamba ingessata e poi il figlio nacque e esultiamo con pierre le nostre dive sono mamme meravigliose chi non riesce a mettere al mondo bambini dunque le adotta sono poche le coppie di hollywood prive di una famiglia numerosa john crawford non ha mai partorito ma ha quattro figli betty davis ne ha partorito uno ma a tutt'oggi ne ha quattro jane russell ne ha cinque neanche uno suo il commercio dei neonati fiorisce a los angeles più che in qualsiasi altra parte d'america una ragazza senza marito non fa tempo a mettere al mondo un bambino che subito una diva si presenta alla clinica offrendosi di adottarlo ma va la pena di notare a questo punto che per quanto sia grande a hollywood il timore della squalificazione sociale e la paura di dover esibire un peccato nessuno considera i figli illegittimi come vergogna nessuno li strozza appena son nati nessuno li abbandona sul sagrato delle chiese nessuno li guarda con compassione li fanno nascere crescere e li affidano a chi li può mantenere se poi le cliniche dove partoriscono le ragazze madri non riforniscono abbastanza neonati si ricorre alla foster parents plan for children che si propone di aiutare i bimbi dei paesi tartassati dall'ultima guerra l'associazione è finanziata da frederick march joan bennett mary pickford gary cooper ellen ace e altri divi famosi l'adozione è formale costa 15 dollari al mese deducibili dalle tasse un gesto come un altro per farsi pubblicità negulesco mi ha anche raccontato che a natale è di moda un nuovissimo metodo per farsi gli auguri anziché mandare fiori o regali agli amici si manda una lettera circolare che dice carissimo sono lieto di informarti che anziché sprecare denaro comprandoti cose che certamente hai di già ho deciso di adottare un bambino coi soldi che gli anni scorsi spendevo nelle sciocchezze che sai ora compro latte in scatole pantofoline imbottite sono sicuro che apprezzerai la mia idea e ti mando moltissimi auguri insieme a mio figlio che l'anno prossimo andrò a conoscere ad atene anche nelle buone azioni hollywood non dimentica mai lo spettacolo vivi e lascia credere è il motto di queste anime candide sempre pronte tuttavia a indignarsi per un divorzio chi avendo bambini divorzia è giudicato un mostro che gioca a bocce con la propria carriera prendiamo l'esempio di june allison l'attrice sposò dick powell due volte divorziato nell'agosto del 1940 lei aveva 21 anni ed era all'inizio della carriera lui 40 ed era all'apice della popolarità ricco bravo e sistemato nella high life hollywoodiana per due anni il matrimonio andò bene i powell avevano due figli adottati e june era guardata da tutti come il simbolo della brava moglie americana o come direbbe l'osservatore romano l'angelo custode del focolare domestico con la sua faccia qualsiasi con le sue quattro sicine e la mancanza assoluta di macchiage sembrava nata per interpretare i film che le proponevano infatti era sempre soltanto la sposa eroica e devota che aspetta a casa pregando il ritorno del marito un pluridecorato dell'esercito dell'aviazione o del baseball in realtà june non era nata per questo tantomeno per fare la monaca era zeppa di scontentezze e di inquietudini come moltissime altre le piacevano anche gli uomini che non avessero nome dick powell e lo dimostrò perdendo la testa per alan ledd suo partner nel film the mcconnell story costui era sposato a una donna molto più vecchia bruttina per giunta e persi a sua volta la testa per june si seppe e nacque lo scandalo june cosa fai scrivevano i giornali dedicati agli attori non pensi alle tue creaturine i produttori erano indignati il film rischiava di non fare quattrini nel giro di settimane la ragazza acqua e sapone vide vacillare la propria carriera si spaventò disse addio ad alan ledd e corse a comunicare ai giornali che partiva col marito per una seconda luna di miele da questa tornò con la notizia che aspettava un bambino ma le smagne extra coniugali di june erano croniche aveva appena cominciato a girare you cannot run away from it che l'angelo custode del focolare domestico si invaghì del partner jack lemon che per lei chiese il divorzio da cintia sua moglie nuovo scandalo e terzo annuncio di una luna di miele con dick dick powell è quel che si dice un marito paziente non al punto però da consentire alla moglie un'altra prova di debolezza mentre girava il film the opposite sex tratto dalla commedia donne di clara lewis june si innamorò di un partner che si chiamava jeff richards e stavolta fu annunciato il divorzio accadde il 22 febbraio del 1957 e fu una data memorabile per hollywood che vedeva infrangere il mito della moglie devota ubbidiente fedele la ellison aveva ormai tre bambini come avrebbe reagito dopo il suo esempio la popolazione femminile dei 49 stati d'america una vera campagna di stampa si aprì dunque contro l'attrice i parroci le si scaraventarono addosso pressa poco quello che accadde in italia quando la lorenna sposò punti fiumi di lacrime furono versati sui giornali che avevano contribuito a provocare la sua leggenda di incorruttibile stavolta i titoli erano quasi feroci june chi te lo ha fatto fare june non ti vergogni la casa produttrice fece addirittura sapere che per qualche tempo la ellison avrebbe fatto bene a restare all'ombra il dramma durò tre settimane poi giunse dal cielo una polmonite per june june non avrebbe potuto essere più fortunata quel brav'uomo di dick si commosse corse come si suol dire al suo capezzale e fra una lacrima e una iniezione di penicillina l'attrice decise di rinunciare al divorzio la storia di questa riconciliazione fu pubblicata con la solennità di un tedeum su fotoplay era intitolata grazie carissima ecco tre settimane che noi tutti vogliamo dimenticare la ragione per cui malgrado tantasiete di rispettabilità gli attori abusano del divorzio costituisce un altro aspetto della morale puritana e incoerente di hollywood nel 1957 annunciarono il divorzio betty davis e gary merrill ginger roger e jack bergerac agnes moorhead e robert gist fernando lamas e arlene dole erlo flin e pat wymore rast ambly e venezia stevenson shereen ord e bat freeman e non sono sicura di averli contati tutti i matrimoni duraturi a hollywood sono un miracolo i divi che sono arrivati a 50 anni o a 60 senza sciogliere il vincolo a rino o a las vegas sono pochi come gli attori che in italia non si fanno le corna espressione brutale ma esatta c'è gary cooper c'è spencer tracy c'è irene dunn claudette colbert grill garson dorothy mcguire di questi almeno quattro sono sposati con persone che non hanno nulla a che fare col cinema e che tuttavia hanno sfiorato almeno una volta la pubblica rottura la dan è sposata un dentista la colbert è moglie di un medico la garson è moglie di un proprietario di pozzi di petrolio la mcguire è moglie di un direttore di compagnie aerei quanto a spencer tracy tutti sanno che danni ama riamato katherine hebburn e che non la sposa perché sua moglie cattolica si oppone al divorzio gary cooper con tutte le avventure niente affatto clandestine da anita egbert a giselle pascal non si può certo definire un marito senza problemi il suo matrimonio si regge come quello di spencer tracy sul fatto che la moglie cattolica non vuole il divorzio psicanalisti e sociologi hanno tentato più volte di analizzare il problema con frasi difficili a hollywood l'eterno triangolo non è costituito da lui lei e l'altra ma dall'attore e il coniuge se stesso governati da una narcotica vanità essi vedono qualsiasi cosa attraverso il prisma del proprio interesse personale e vivono in un unico mito che esalta se stessi donde il divorzio i giornalisti ne hanno fatto un luogo comune hollywood la città dei divorzi il cardinale spelman un argomento di predica per le domeniche in cui sale sul pulpito della saint patrick cathedral ecco un profondo dolore che siamo costretti a notare la leggerezza con cui il sacramento del matrimonio è considerato dalla gente di hollywood criticare la facilità e la frequenza dei divorzi hollywoodiani e sostenere che dipendono dalla lussuria e dal vizio è un compito che va lasciato a chi di dovere a hollywood non si pecca né più nemmeno che a roma o a milano la percentuale dei divorzi non è superiore con molta probabilità a quella delle corna della nostra borghesia agiata e sembra inutile che i bravi italiani fingano di impallidire quando leggono che lana tarner ha avuto cinque mariti e clark gable quattro mogli a hollywood non sono angioletti ma non lo siamo neppure noi e se suonassero le trombe del giudizio ci troveremmo tutti davvero in gran imbarazzo loro però indulgono con meno frequenza al gioco delle menzogne del tradimento e hanno tutto sommato una morale che è assai meno cedevole di quella latina gli adulteri sembrano ancora bollati dalla lettera scarlatta di hatworn perciò si mostrarono tanto severi con ava garner al tempo del suo amore per frank sinatra ancora sposato con ingrid bergman al tempo della sua passione prematrimoniale per rossellini e con veronique passani che ruppe il menage di greta e gregory peck e che tutt'oggi viene osteggiata da molti come una peccatrice senza speranza quattro anni fa veronique passani era una ventitreenne che faceva la cronista per france dimanche viveva a parigi insieme con la mamma e il fratello coltivando due precise ambizioni diventare giornalista importante e sposare gregory peck con un po di costanza senza dubbio avrebbe potuto diventare una giornalista importante perché è intelligente coraggiosa e sa scrivere bene le probabilità di sposare gregory peck invece erano scarse anzitutto perché la ragazza non era una gran bellezza poi perché non gli si presentava alcuna occasione per sedurre un tipo altezzoso come gregory peck infine perché costui era coniugato con prole da ben 15 anni veronique non disarmò tuttavia aspettò che peck venisse in europa e quando seppe che era a roma prese il treno e lo raggiunse a cine città dove l'attore lavorava in vacanze romane chiedeva un'intervista ma gregory non volle vederla e la ragazza tornò a parigi e aspettò che gregory si recasse a parigi un anno dopo veronique ebbe maggior fortuna gregory fu più arrendevole e non soltanto veronique ebbe la famosa intervista ma non la scrisse mai dopo l'incontro infatti tutta la sua vita fu dedicata anziché a scrivere articoli a inseguire il suo idolo su e giù per il mondo gregory andava a londra e veronique andava a londra gregory andava a bombay e veronique andava a bombay gregory andava a madrid e veronique andava a madrid per quei costosi viaggi veronique vendette quel poco che aveva in famiglia e quando non ebbe più nulla da vendere gregory peck chiese il divorzio da greta e si portò a hollywood veronique in attesa di legalizzare quel difficile amore in prudentissima decisione hollywood accolse veronique con la maggiore antipatia che fosse mai stata tributata a una ragazza che contraviene alle regole la chiamavano oh la 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 scartavano ai ricevimenti dove invitavano l'attore le dedicavano commenti maligni confidential scrisse perfino che aveva conquistato gregory peck chiedendogli anziché le notizie di fare la doccia nella sua stanza da bagno sono molto povera gli avrebbe detto veronique e non posseggo la doccia aggiunse che a parigi era stata amica di frede donna che veste i calzoni e di altra discutibile gente mise in rilievo come fosse responsabile dell'infelicità della povera greta che dopo essere stata abbandonata da gregory peck inghiottiva litri di alcol nessuno se la prendeva con gregory peck sebbene la colpa fosse senz'altro da dividere in due erano così irritati a hollywood che quando il 2 gennaio del 1956 i due si sposarono i giornali dedicarono all'avvenimento pochissime righe si limitarono a dire che gregory peck aveva sposato ullala e dedicarono invece commoventi articoli alla moglie abbandonata una frase accompagnava dovunque andasse veronique peck povera greta edda hopper la definì una strega con la quale non vorrei litigare avevo visto veronique molte volte mentre ero a hollywood ma non avevo mai cercato di avvicinarla non so perché mi faceva pena e pensavo che non avrei saputo che domandarle mi capitò di conoscerla invece dopo che edda hopper me ne ebbe parlato con tanto astio e l'incontro avvenne in casa di valentina cortese che ci aveva invitati a colazione insieme con marisa pavan stavamo per metterci a tavola quando una ragazza di media statura e incredibilmente sottile dal volto lungo e stretto come il muso di un levriero il naso grande e aquilino gli occhi da gatta diabolica arrivò esitante come se a ogni passo si sentisse svenire mi colpì soprattutto il modo che aveva di rizzare l'esilissimo collo in un gesto di trionfo e di sfida il sorriso sforzato c'era in lei qualcosa di vittorioso e di fatidico insieme non era una donna felice parlava poco di sé e del marito sembrava chiusa in una spaventata diffidenza mi disse che rimpiangeva il mestiere lasciato mi invidiava il lavoro anche a lei sarebbe piaciuto scrivere di hollywood ma come avrebbe fatto a scriverne in modo sincero dovendoci vivere parlava di hollywood con immenso disprezzo dicendo tutto quello che trovi di utile sono i distributori di benzina di roma ti ricordi per le cattedrali di parigi per i bistrò di new york per i grattacieli di hollywood per i distributori di benzina che puzza mi disse che da quando era arrivata laggiù non aveva concesso neppure una breve intervista poi non so perché mi portò a casa sua per conoscere anthony il bimbo nato da quel matrimonio i peck abitavano in una villa modesta di summit ridge poco lontana da quelle fastuose di mary pickford e di fredaster la bella casa che gregory possedeva l'hanno dovuta lasciare per decisione del giudice all'ex moglie greta veronique me lo raccontò senza che glielo chiedessi poi fece il resto della strada senza parlare l'automobile che guidava era vecchia e bruttina l'unica che gregory peck possedesse un'altra assai lussuosa il giudice aveva ordinato di cederla a greta con la casa ah sì commentò veronique con un amaro sorriso quasi intuisse quel che pensavo giunta dinnanzi al cancello frenò con una punta di stizza nel giardino c'era un ragazzo biondo e robusto con un paio di blue jeans e la camicia sudica a quadri affilava qualcosa con un coltello da caccia era il figlio maggiore di gregory peck ciao johnny salutò veronique e gli accarezzò lievemente i capelli il ragazzo non alzò nemmeno lo sguardo mugolò qualcosa continuando a maneggiare il suo coltello da caccia e solo quando veronique fu passata si voltò mi parve di cogliere nei suoi occhi celesti uno sguardo ostile veronique lo sentì si fermò e tornò indietro vuoi mangiare johnny chiese conciliante il ragazzo non rispose scrollò annoiato le spalle veronique si morse le labbra e mi allontanò perché non assistessi a qualcosa di peggio il marito era allo studio così mi mostrò la casa i portasigarette d'argento su cui era inciso greg e veronique i souvenir che avevano comprato durante i loro viaggi e la camera nuziale colletto rosa a baldacchino infine aprì l'uscio della nursery dove anthony dormiva dentro la culla dolcemente lo sollevò era un bambino grasso nudo e abbronzato come tutti i bambini americani lo strinse al cuore con gli occhi lucidi tutto va meglio disse veronique da quando c'è lui a hollywood tengono in gran conto i bambini se il meglio consisteva di tanta tristezza e di tanto squallore chissà com'era stato il peggio capitolo quarto anche queste sono due storie di hollywood ne sono protagoniste due donne che pochissimi anni fa erano all'apice della carriera e oggi scomparse dalla scena del cinema scivolano lentamente in un malinconico oblio una si esibisce con i nervi a pezzi nei teatri d'america ed europa l'altra si consuma in lacrime in una villa del connecticut dopo essere stata a lungo rinchiusa in un manicomio apparentemente le due donne non hanno nulla in comune forché la tragedia una è arrivata alla tragedia per via del lavoro l'altra per via dell'amore così almeno si dice eppure un filo le unisce sono entrambe vittime di hollywood non avrebbero rovinato la loro vita se il caso o il destino non le avesse portate su questo pezzo di california agognato da troppi non sarebbero precocemente deluse e invecchiate se non fossero divenute celebri ricche e ammirate come molta altra gente che ottiene il successo senza volerlo erano nate per essere due creature qualsiasi una voleva soltanto mangiare e vivere in pace l'altra voleva un marito e dei figli sani non ci riuscirono queste due donne si chiamano judy garland e jean tierney devo aggiungere che judy e jean non sono le sole creature tragiche uscite da hollywood montgomery clift betty davis frank sinatra e susan ayward ad esempio avrebbero da narrare episodi altrettanto sconcertanti ho scelto queste due perché mi sembrano più adatte a illustrare quella vena di follia che corre per le strade di hollywood la città delle pillole tranquillanti e della psicanalisi c'era molta gente quella sera al greek theater di los angeles non ne avevo vista tanta forché alle partite di calcio e ai discorsi del papa in piazza san pietro il posteggio delle automobili era lungo quattro chilometri e liza murphy la redattrice di newsweek che mi accompagnava aveva dovuto tornare in autobus dopo aver sistemato la sua nelle prime file dell'anfiteatro si riconoscevano molti attori da sinatra a clark gable e tutti sembravano molto eccitati cantava infatti judy garland dopo un'assenza di 14 mesi e un esaurimento nervoso durato ancora di più guardala bene mi disse liza se vuoi capire questa città poi l'orchestra presi a suonare e con passo esitante quasi spinta da qualcuno che dietro le quinte si raccomandava judy garland avanzò sull'immenso parcoscenico inondata da fasci di luce era piccola e gonfia indossava un mantello di lustrini che si accendeva di improvvisi bagliori tremava come un cane bagnato dalla seconda fila centrale vedevo benissimo il suo volto bianco e spaventato i grandi occhi colmi di angoscia le mani che si intrecciavano senza posa facendo schiuccare le nocche qualcuno quasi a farle coraggio gridò forza judy judy annui poi agguantò il microfono cominciò a smontarlo in su e in giù infine ci appoggiò la bocca e disse buonasera gente ho paura qualcuno rise credendo a una battuta di spirito l'aisa mi sussurrò ha paura davvero è tutta la sera che piange e si imbottisce di pillole vi canterò qualcosa di nuovo disse poi judy portandosi una mano alla tempia come se le dolesse il capo prima però voglio un bicchiere d'acqua perché ho una gran sete di nuovo risero pensando a un'altra battuta frank sinatra si agitò sulla panca come se avesse le pulci gosh brontolò l'aisa ora sviene portarono il bicchiere d'acqua judy lo beve d'un fiato e poi fece cenno all'orchestra cantava you made me love you aveva appena intonato una strofa quando un aereo passò sopra l'anfiteatro l'aeroporto di los angeles è abbastanza vicino al greek theater decollando gli apparecchi ci passano sopra con rumore assordante ma tutti ci sono abituati e nessuno ci bada nessuno fuorché judy garland di colpo la voce le morì in gola interruppe la strofa alzò gli occhi al cielo e col pugno teso gridò go to hell va all'inferno anche l'orchestra zitti in un confuso miagolio di violini imbarazzati judy aspettò che l'aereo fosse lontano poi disse ok ricominciamo di nuovo l'orchestra attaccò ma la cantante non era pronta ho caldo disse si tolse il mantello di lustrini e lo buttò a terra come uno straccio sotto aveva un vestito di chiffon nero che le fasciava maledettamente male la vita corta e i fianchi assai larghi lo sapeva infatti si osservò un poco con un'espressione disgustata e disse poi ebbe un lungo sospiro tese l'orecchio verso altri rumori e finalmente cantò due ore e mezzo durò lo spettacolo e sebbene judy cantasse come un angelo non ricordo d'avere tanto sofferto ogni tanto judy si interrompeva si rivolgeva al pubblico chiedeva qualcosa qualsiasi sciocchezza bastava irritarla o a incrinarle la voce quando finì avevo la fronte gelata credevo di vederla morire dissi a liza liza era bianca dico brontolò non guarisce mai c'era nell'aria un certo disagio nonostante gli applausi sinatra si alzò con scatto iroso allontanandosi con le mani sprofondate nei calzoni ha voluto molto bene alla garland sono tutt'oggi ottimi amici nessuno come lui capisce quando sta male mi piacerebbe parlarle disse a liza proviamo disse liza e ci avviamo verso il suo camerino molto tempo dopo quando gli altri se ne furono andati potemmo entrare da lei rinvoltata in un accappatoio bianco i riccioli neri coperti da un tovagliolo a modi turbante si stava struccando non dimenticherò quella faccia di bambina rugosa e quegli splendidi occhi che mi fissavano come per capire se si poteva fidare di me provai per lei una improvvisa simpatia composta di tenerezza e di pietà dovette avvertirlo sieda ordinò con voce un po' roca ha voglia di parlare chiesi se no me ne vado temevo perfino di infastidirla ma intanto senza volerlo le guardavo la gola per cercare la cicatrice lasciata a quel pomeriggio di sabato di otto anni fa quando con una lametta da barba aveva tentato di uccidersi non si vedeva nulla solo un filo sottile che sembrava una ruga forse era davvero una ruga judy ebbe un mesto sorriso a noi poi mi porse una scatola di dolci cioccolatini disse e con aria avida se ne ficcò due in bocca per anni e anni brontolò masticando mi hanno proibito di mangiare dolci ora faccio quel che diavolo voglio in grasso ma non mi calmo quasi con collera guantò un altro cioccolatino poi il suo sguardo si posò sopra una fotografia di tre bimbi me la porse sono i miei figli disse lisa lorna e joe non sapranno mai che cosa significhi lavorare nel cinema non voglio che la loro vita sia rovinata da hollywood come la mia devono crescere come creature normali loro e un po per volta senza che la sollecitassi nemmeno il racconto le fluì dalle labbra lo riferisco tale quale per non sciuparlo non avevo mai chiesto di diventare un'attrice non sono mai stata bella non sono mai stata una dose e tutto quello che so fare è cantare ma decisero di farmi diventare un'attrice da quando avevo dieci anni e cantavo con papà e le sorelle in teatro mi vide un tale della mgm e poi mi fece un provino e io divenni proprietà della mgm così mi tolsero dalla scuola pubblica e mi misero alla scuola della mgm dove c'erano altri sei ragazzi prodigio dean darbin mickey rooney eccetera poi mio padre morì e la mgm divenne mio padre la parola di louis mayer il capo della mgm era un ordine quando mia madre voleva minacciarmi diceva lo racconto al signor mayer da prima non successe nulla ero una bambina come tante altre mi piacevano la cioccolata e i gelati a 13 anni cominciai a ingrassare allora il signor mayer si arrabbiò e tutti cominciarono a dirmi quel che dovevo e non dovevo mangiare per mesi e mesi le cameriere del ristorante della mgm ebbero l'ordine di portarmi un brodo qualsiasi cosa chiedessi chiedevo altra roba e portavano il brodo morivo di fame qualche volta riuscivo a rubare un bicchiere di latte ma c'era sempre qualcuno che se ne accorgeva e lo raccontava al signor mayer allora mi chiamava per dirmi che bambina ingrata e cattiva fosse questa judy garland poi decisero di fare il mago di odds avevano scelto shirley temple ma la fox non cedeva shirley temple e allora scelsero me mi fecero un naso nuovo mi tinsero i capelli di biondo si riunirono tutti e cominciarono a discutere come si discute un pollo al mercato mi guardavano e dicevano che ne vuoi fare di questa roba qua è grassa è brutta parlavano e guardavano come se anch'io non avessi occhi e orecchi forse in quella occasione cominciai ad essere torturata da quel che chiamano il complesso di inferiorità mi presero però per fare il mago di odds tuttavia decisero di sorvegliarmi perché non mangiassi così dormivo allo studio con una ragazza pagata apposta per denunciarmi credevo che fosse un'amica mi accorsi del contrario quando mi chiamarono e dissero che sapevano che cosa mangiavo a che ora rincasavo e a che telefonavo piansi e mi venne l'esaurimento nervoso a 19 anni avevo già avuto tre esaurimenti nervosi e un marito il marito si chiamava david rose ed era un musicista forse lo sposai perché era molto più vecchio di me e avevo bisogno di sentirmi protetta infatti mi trattò sempre come una bambina e anche lui non faceva altro che dirmi quel che dovevo e quel che non dovevo mangiare bene la maggior parte della gente del cinema può vivere senza mangiare o a dieta io no scoprì che l'unico modo per dimagrire erano le pillole allora divenni sottile ma non potevo dormire così prendevo le pillole per dormire la mattina non riuscivo a svegliarmi e allora prendevo le pillole per svegliarmi il mio sistema nervoso era a pezzi allora prendevo anche le pillole per stare tranquilla sa ci sono pillole per ogni cosa in america anche per sentirsi felici ma quelle con me non hanno mai funzionato ero diventata così nevrastenica che litigavo con tutti presto litigai anche con david e arrivai al divorzio naturalmente quelli dello studio cominciarono a dirmi come era antipatico che io avessi già divorziato e che ero davvero una peste dovetti far penitenza lavorando di più ero stufa di lavorare ormai possedevo abbastanza dollari per vivere senza far nulla ma avevano investito un capitale su di me e pretendevano che girassi i film se no mi facevano causa ormai non facevo che piangere e fra un pianto e l'altro conobbi vincent minelli e lo sposai un anno dopo nacque elisa la prima bambina e io mi dicevo ora mi tratteranno come una donna o anche una figlia ma che mi rimproveravano peggio di prima perché con la gravidanza ero ingrassata ripresi allora a inghiottire le pillole per dimagrire e poi quelle per dormire e poi quelle per svegliarmi e poi quelle per stare tranquilla quando mi chiamarono per girare anna prendi il fucile ero in condizioni pietose le supplicai di lasciarmi riposare un pochino mi risposero che il film costava un bel po di dollari e non potevano sopportare capricci cominciai a incidere le canzoni per la colonna sonora del film ma dopo sei settimane ebbi un collasso e mi ricoverarono in ospedale cedendo la mia parte a betty hatton all'ospedale stavo bene nessuno brontolava con me e tutti erano buoni potevo mangiare e dormire infatti guarì e ingrassai naturalmente mi ordinarono subito di perdere 15 libre in due settimane dopo una settimana non ne potevo più così mi rinchiusi nella stanza da bagno con una lametta da barba e feci quello che tutti sanno in quel giorno i reporter di hollywood si sbizzarrirono a scrivere continuarono a scrivere per mesi che io ero pazza e questo mi sconvolse non ero preparata a prendere il sale con lo zucchero fino allora i giornali mi avevano dedicato solo zucchero mi convinsi di essere vittima di persecuzioni reagì con violenza e il signor maier mi licenziò perché ero diventata insopportabile e impopolare divorziai anche da vincent tutto andava a rotoli scappai da hollywood e mi trovai sola con la mia bambina a new york qui incontrai sydney luft che allora faceva l'agente teatrale sydney mi disse che mi amava questo mi sorprese molto perché credevo che tutti mi odiassero e lo sposai fu sydney a convincermi a tornare al teatro e così debuttai al palladium di londra e al palace di new york ero grassa ma per cantare che importa ed ero meno infelice però sognavo di tornare nel cinema non si può dimenticare una carriera iniziata a 13 anni e quando mi proposero di fare è nata una stella dimagri alla svelta e ricominciai lavorai con entusiasmo o se lavorai volevo prendere l'oscar tutti ne erano convinti la sera della premiazione ero all'ospedale perché avevo partorito la seconda bambina e siccome tutti erano convinti che avrei preso l'oscar quelli della televisione sistemarono le macchine da presa nella mia camera in collegamento col pantages theater c'era caviale e champagne il discorso era pronto io e sydney eravamo molto eccitati ed io ero finalmente felice poi sul video apparve bob hope che quell'anno era maestro di cerimonie e quando aprì bocca per dire il nome dell'attrice premiata quelli della televisione dissero zitta zitta pronta attenzione e bob hope aprì bocca e disse che l'oscar lo aveva vinto grace kelly non ebbi tempo di piangere perché rimasi stupita da ciò che accadeva intorno a me improvvisamente tutti si irritarono perché avevo fatto loro perdere tempo e fuggirono coi loro arnesi travolgendo le seggiole senza nemmeno dire mi dispiace o buonasera aprì la scatola di chiaviale lo mangiai poi scoppiai a piangere e giurai che mai più avrei fatto del cinema così ho mantenuto la parola ma la mia giovinezza è ormai sciupata ed io ho sempre paura e spesso mi chiedo se diventerò mai una donna normale isterica come sono bella storia ormai s'era tolta ogni traccia di trucco la scatola dei dolci era vuota senza rossetto né ciglia finte le labbra un poco sporche di cioccolata giù di garland sembrava cinquantenne le vedevo le rughe precoci e ormai benissimo anche la cicatrice sotto la gola ed ero affascinata da quegli occhi neri e disperati in fondo ai quali tremava una disperazione ustinata tutti a hollywood vogliono apparire normali e nessuno riesce ad esserlo nemmeno quando parlano i superlativi scivolano dalle loro bocche come foglie dagli alberi in autunno e qualsiasi cosa è colossale fantastica spettacolare straordinaria terrificante i vezzedativi indorano ipocritamente fino alla nausea i loro rapporti sociali e il poliziotto che fa la contravvenzione perché attraversate la strada col semaforo rosso vi chiama honey miele la telefonista che fa i dispetti perché usate sollecitare una chiamata in italia vi chiama sweetheart dolce cuore la diva che rifiuta l'intervista vi chiama doll bambola e ognuno vi chiama darling baby sweetie love anche quando vorrebbe affibbiarvi son of a bitch vi sono a hollywood più ammalati di nervi che credo in qualsiasi altra parte d'america e forse del mondo una espressione clinica vi insegue a hollywood nervous breakdown che significa pressa poco esaurimento nervoso non ho ancora conosciuto una celebrità che non abbia sofferto o non soffra di nervous breakdown come non ho conosciuto una celebrità che non lamentasse un complesso o non si nutrisse di pillole contro l'angoscia e la malinconia qui le pillole si vendono a chili in ogni drugstore sebbene orson wells mi ripeta che sono passate di moda oggi si adopera lo sleeping system un arnese che si mette sotto il guanciale e ripete mentre dormite dormo e sono felice mi sveglio e sono contento io sto bene e sono tranquillo e poi c'è sempre la psicanalisi si va dallo psicanalista a hollywood come in italia si va in farmacia a comprare un antinevralgico gli psicanalisti arricchiscono qui come i cercatori d'oro arricchivano 50 anni fa in arizona solo a beverly hills ve ne sono 95 l'appuntamento va preso con qualche mese d'anticipo ogni psicanalista cura un complesso particolarmente frequenti sono i complessi di persecuzione e di inferiorità non si tratta di fantasie la maggior parte degli attori ne soffre davvero e si capisce perché sono poveracci anche se strapagati e divini e inaccessibili nessuno li rispetta o rispetta le loro vite private la frase che ho sentito ripetere spesso dai magnati del cinema è la seguente esistono al mondo tre categorie di persone gli uomini le donne e gli attori il divo insomma non è a hollywood un essere umano ma un prodotto sintetico fabbricato dal dipartimento del trucco dalla pubblicità dal press agent dall'operatore dal produttore e dai giornalisti guardateli questi bastardi guardate che piscine che automobili qualche anno fa non avevano neanche un penny per comprarsi uno dog e ora ti dicono grazie ma che un'altra frase che ho sentito ripetere spesso gli studios li trattano come bambini irresponsabili ingrati e stupidi e dopo poco anche i poveracci si convincono di esserlo un numero strabiliante di loro ha tentato o compiuto il suicidio è inutile enumerarli in una macabra lista vi ho raccontato di judy garland un altro esempio recente è quello di susan ayward che due anni fa venne ricoverata in stato comatoso alla clinica cedri del libano per indigestione di barbiturici stremata dal lavoro suggestionata dal personaggio che aveva interpretato in un difficilissimo film quello di lilian roth altra suicida in i will cry tomorrow umiliata dall'abbandono di un marito che amava e dalla severità di uno studio che le rinfacciava lo scandalo la ayward lasciò i figli alla madre si chiuse nella sua villa di san ferdinando e inghiottì due tubetti di sonnifero talvolta quelli che i medici chiamano pressioni tensioni complessi finiscono davvero per far perdere il bene dell'intelletto a quei disgraziati e il dramma colpisce soprattutto le donne con la follia ava garner sino a poco tempo fa era perseguitata come è la stessa testimonia dal timore d'essere scema non gliel'aveva forse detto tante volte mickey rooney suo primo marito e non gliel'aveva forse cantato persino in musica arty show coltissimo suonatore di clarenetto e secondo marito a sentirsi così spesso chiamata e scema e idiota e ignorante vittima di numerosi nervous breakdown ava rischiò il manicomio destino che per altri motivi non ha potuto evitare la sfortunata jean tourney jean non era una bambina prodigio non era miss qualcosa non era nemmeno un prodotto di hollywood era una society girl che sapeva andare a cavallo leggeva nice e parlava correttamente il francese frequentava i salotti e conosceva l'europa figlia di un ricco assicuratore di new york howard tourney e di una famosa ereditiera betty taylor era come si suol dire sofisticata colta intelligente e bellissima prima di diventare una star ma aveva l'ambizione di divenire attrice sognava di debuttare a broadway siccome talento e conoscenze non le mancavano non le fu difficile a 17 anni aveva interpretato una commedia a 18 aveva già firmato il contratto con la 20 century fox a 19 era una diva ammirata adulata e corteggiata la chiamavano infatti la lady di hollywood anzi l'unica signora che hollywood avesse mai avuto in omaggio a questa definizione nessuno diceva male di lei o le dedicava a una critica nel 1941 sposò oleg cassini membro della high life di washington raffinato e difficile delizioso playboy oleg veniva da una famiglia aristocratica suo padre era un conte russo e sua madre una nobile fiorentina in italia era stato educato tra l'università di perugia e via tornabuoni in america dove era emigrato insieme col fratello a igor per fare fortuna il successo gli era stato facile e svelto per la disinvoltura e salvar ferra civettosamente europeo durante la guerra combattuta nell'esercito americano si era coperto di gloria a hollywood dove era giunto a bordo di una mg rossa senza valigia molte attrici gli si erano gettate ai piedi supplicando un suo sguardo faceva il disegnatore di moda per passatempo e col suo aiuto jean divenne una delle dieci donne più eleganti d'america una vita spensierata e brillante finché nacque daria la prima bambina durante la gravidanza jean si era ammalata di una forma infettiva che contagiò il nascituro daria nacque anormale perfetta di corpo ma non di mente fu subito chiaro che le sarebbe rimasta alla mente di una bambina jean ne rimase sconvolta non le era mai capitato dice bell tourney qualcosa di terribile da allora perse ogni gusto per la vita si ritirò nel connecticut e annunciò che non avrebbe più girato un film una pretesa assurda sventolando il contratto la fox reclamava jean tourney e jean tourney tornò dice bell tourney soffriva moltissimo lo studio pretendeva che jean facesse la vita di prima e il marito lo stesso jean non poteva poi oleg andò a new york per aprire un salone di moda e i columnist cominciarono a scrivere che si vedeva spesso con modelle bellissime jean piangeva ma non voleva il divorzio ci fu una lunga separazione poi si riconciliarono e nacque cristina daria fu messa in un collegio per fanciulli anormali jean riapparve ai cocktail e alle prime importanti ma era sempre più malinconica si mise in cura da uno psicoanalista allo stesso tempo si trascurava e lasciava che oleg la trascurasse si lamentava sempre di non aver scelto una vita più facile nel febbraio del 1952 oleg chiese il divorzio e questo fu un'altra mazzata sul capo di jean che voleva bene al marito e non sopportava i rimproveri lo studio aveva reclamizzato il loro menage come quello di una coppia modello e non mancò di esprimere una irritata disapprovazione dice bell tierney credo che cominciasse allora a sognare di rifarsi una famiglia jean non poteva vivere senza dedicarsi a un marito poi conobbe ali khan il primo incontro con ali khan avvenne in argentina dove jean stava girando way of a gaucho e rimase senza conseguenze il secondo avvenne a londra un anno e mezzo dopo ed ebbe moltissime conseguenze era all'inverno 1953 ali invitò jean a teatro e jean ci andò da allora la si vide sempre con ali ho sempre pensato disse a elsa maxwell che gli fosse un uomo pericolosamente attraente ma non avrei mai creduto di potermene innamorare così elsa maxwell la mise in guardia attenta bambina non sei la prima e non sarai l'ultima solo io posso amarlo perché ho 70 anni jean non le dette ascolto abbandonò hollywood e si stabilì con la madre e la figlia cristina sulla costa azzurra aveva affittato una villa a khan ma presto si trasferì in una villa di ali lo seguiva come un'ombra alle corse ai pranzi ufficiali a londra a parigi spavaldamente sfidando le ire dello studio che le rinfacciava lo scandalo e le inviava inutilmente i copioni dei film jean doveva girare mogambo e cedette la sua parte a grace kelly a hollywood erano furibondi anche laga khan era furibondo e disse al figlio che dopo l'esperienza di rita hayward non gli avrebbe mai permesso di sposare un'altra star ali diceva che avrebbe sposato jean lo stesso e jean docilmente aspettava era il natale 1954 quando ali le regalò uno splendido brillante di 60 carati come anello di fidanzamento però la pregò di portarlo all'anulare destro per evitare complicazioni jean lo mise all'anulare destro e seguito a stargli vicino si separarono per un certo periodo soltanto quando ali andò a rappresentare il padre nel pakistan e permise a lei di tornare a hollywood per girare the egyptian quel ritorno a hollywood fu disastroso gli esperti in bellezza trovarono che jean era invecchiata e perfino un poco ingrassata i dirigenti dello studio protestarono che lavorava senza entusiasmo recitava con apatia sembravano eccitarla solo le telefonate che faceva ogni giorno a caraci per dare la buona notte ad ali poi ali volò al messico e rimase alcune settimane con jean in quella occasione essa spostò il diamante all'anulare sinistro e negò che l'aga fosse contrario alle nozze aggiunse che si sarebbero sposati presto a parigi la dichiarazione fu pubblicata sui giornali con grande evidenza ma quando intervistarono ali costui rispose non ho proprio nulla da dire e partì per non farsi più rivedere aveva incontrato la modella bettina questo dice bell tourney fu la rovina altre donne avrebbero sopportato l'umiliazione e il dolore jean no teneva troppo alla sua dignità e nonostante la disgrazia di daria e il divorzio da oleg non era allenata alle sofferenze come se non bastasse tutti a hollywood cominciarono ad aditarla come quella che non era riuscita a rimpiazzare rita hayward che cosa hai fatto jean te lo sei lasciato scappare scrissero i più crudeli non riusciva più a imparare a memoria una parte non sopportava le luci accecanti non poteva alzarsi alle 5 del mattino per essere al teatro di posa alle 8 soprattutto non era capace di sopportare le occhiate ironiche delle colleghe il suo volto si faceva sempre più scavato gli occhi inquieti ripresero le sedute dallo psicanalista nel marzo del 1956 ebbe un pauroso collasso e fu ricoverata in una clinica psichiatrica ci rimase sei mesi poi credettero che fosse guarita e la rimandarono a hollywood ma era gonfia ancora più imbruttita non si poteva fotografare neppure da lontano e glielo dissero ne soffrì al punto di ricadere nella sua dolce follia dice elisa murphy che la conobbe vagava come una sonnambula girando il suo diamante intorno al dito e non faceva che parlare di ali la ricoverarono una seconda volta ma in manicomio poi migliorò e la madre volle accompagnarla a green farms la sua bella proprietà nel connecticut da green farms si trasferì nell'inverno scorso a new york una volta la videro perfino a teatro un'altra in uno spettacolo televisivo ho notizia scrive luella parsons che jean tornerà molto presto nella sua hollywood amata il giorno dopo la sorpresero a camminare sul tetto della sua casa a manhattan guarirà tutti lo escludono ormai quando stava a green farms la 20th century fox voleva chiederle di tornare al lavoro perché il contratto non era ancora scaduto ma dopo una lunga seduta cui prese parte anche howard hughes conclusero che rilanciarla sarebbe stato difficile abbiamo qualche film che sarebbe adatto a jane terney mi disse un publicity manager della 20th century fox ma anche se guarisse del tutto ci penseremmo due volte prima di affidarle una parte è stata troppo a lungo lontana da hollywood poi questa faccenda della follia rischierebbe di procurarci guai di sicuro finiremo con sostituirla con una stellina che le assomiglia capitolo quinto il metodo più semplice per mettere e tenere le mani su una star è fabbricarla così una mattina voglio vedere come fanno quelle di hollywood a fabbricare una star andai da eli levy che dirige l'ufficio pubblicità della columbia e insieme decidemmo di prendere come esempio kim novak il prodotto più recente e meglio riuscito kim era tornata da poco da un viaggio in europa che da sempre prestigio a una diva americana e vestita di rosso liscia e rotonda come le mele californiane che si vendono al farmer's market di los angeles sedeva su uno sfondo blu cielo dinnanzi al fotografo bob coburn che la ritraeva a colori per copertine di riviste dieci lampade ad alta potenza le illuminavano il volto di bambola senza espressione una controfigura che non farà mai carriera perché le assomiglia un po troppo aspettava docilmente di sostituirla quando bisognava sistemare le luci un grammofono suonava nella sala deserta un motivo di jazz kim si fa fotografare per contratto soltanto ascoltando la musica dice che la ispira mi raccomando diceva bob caburn qualcosa di sexy come se tu guardassi un amante però non si deve capire se stai per baciarlo o se stai per ucciderlo kim gonfiava il petto allargava le narici socchiudeva le labbra tinte di rosso geranio non perderla kim non perderla implorava bob caburn e alludeva alla posa ma kim è maligna di colpo la perse e si alzò e voglio un mambo fece con voce roca avviandosi verso uno specchio le era cascato il neo sulla guancia sinistra infatti non è un autentico neo ma un neo di velluto ilai levi si avvicinò ilai è un omino dolce sui 50 con le spalle curve e un'infinita bontà ha conosciuto aiutato esaltato kim novak quando non era ancora kim novak essa gli deve moltissimo ricordo aveva detto ilai levi quando veniva al mio ufficio e sedeva sul vecchio divano di fronte alla scrivania mi guardava con occhi imploranti e chiedeva che cosa devo fare ilai e io le dicevo nulla marilyn solo seguire i nostri consigli e aspettare a quell'epoca si chiamava ancora marilyn che è il suo nome di battesimo allora mi diceva tu credi che riuscirò a diventare famosa ilai e le dicevo diventerai famosa perché lo abbiamo deciso e mi diceva sei buono ilai sei l'unico che non mi faccia paura qua dentro ti vorrò sempre bene e le dicevo non è vero marilyn un giorno ti volterai appena a guardarmi e sarà un miracolo se bronturerai un hello succede sempre così ciao kim mormorò levi con la sua voce mite e strizzò un occhio perché era felice di farmi vedere che la conosceva benissimo ma kim non rispose era troppo occupata ad attaccarsi il neo di velluto sulla guancia sinistra ciao kim ripete ilai levi e allora kim mosse la testa di platino ma impercettibilmente e impercettibilmente brontolò hello poi si allontanò senza guardarlo sistemandosi davanti alla macchina fotografica di bob caborn di nuovo gonfiò il petto allargò le narici succhiuse le labbra ed era così bella che si dimenticavano perfino i suoi numerosi difetti difetti ne ha ad esempio quando ingrassa e sembra che abbia una certa tendenza a ingrassare la sua faccia diventa troppo piena e le braccia troppo floride le gambe troppo grosse quello delle gambe è il suo problema maggiore tanto è vero che le mostra il meno possibile in picnic divennero pazzi per farle infilare il costume da bagno strillava che non voleva mostrare le gambe e alla fine conclusero che aveva ragione tanto è vero che la fotografarono nella scena del bagno dal busto in su in jean eagles dove indossa una delle più succinte toilette che hollywood ricordi appena qualche filo di perle sistemate nei punti strategici l'operatore si prese l'esaurimento nervoso a inquadrarla in modo che la linea delle gambe risultasse perfetta per paul joe dove recitava il ruolo di una ballerina la sottoposero a una cura molto intensa di massaggi ma quando la cura fu finita si accorsero che non aveva servito a bel nulla e dovettero limitare le scene dove apparve poco vestita non è neppure sofisticata se la guardate bene sentite per lei una sorta di compassione ha detto il regista otto preminger in fondo l'america è piena di ragazze più attraenti di lei come ha fatto dunque a diventare quella che è elai levi sorrise e mi raccontò col suo tono indulgente come hanno fatto a fabbricare kim novak giorno per giorno con calcolo e premeditazione come i tecnici della lockheed costruiscono un aeroplano o i cuochi preparano un sofflé di formaggio portatemi vostra cognata o vostra zia dice harry cohn l'uomo che ha lanciato kim novak e se mi serve ne faccio una star certo ci vuole fortuna los angeles è piena di gente emigrata con la speranza di fare carriera nel cinema e da 40 anni hollywood è meta di una costante invasione l'autista 24enne che mi portava agli studios era di chicago e voleva diventare un attore la cameriera di george's che mi portava l'hamburger veniva da san francisco e voleva fare l'attrice il giovanotto che distribuiva benzina alla gas station di fronte a casa mia aveva lasciato new york per diventare regista di hollywood li sorregge la speranza poiché tutti conoscono la storia di quella bionda che il lunedì mangiava il gelato da swab il martedì faceva un provino e il mercoledì firmava un contratto con la mgm lana tarner tutti conoscono la storia della bambina con tanti riccioli che un giorno d'estate sedeva sulla spiaggia di santa barbara a fare castelli di rena e un giorno d'autunno era già una diva leziosa che girava a fianco di lionel barrymore e guadagnava come un adulto shirley temple tutti sanno la storia di un saltimbanco morto di fame che nel giro di poche settimane divenne un attore famoso e poi un produttore indipendente bart lancaster così vengono e aspettano il miracolo come gli ammalati di lourdes nemmeno sospettando che resteranno a fare la cameriera da swab e a distribuire benzina sul sunset boulevard a guidare l'automobile per gli altri le ragazze quasi tutte ex reginette di bellezza le varie miss texas miss illinois miss torta di formaggio miss pollo in scatola sono le più irragionevoli e in un certo senso le creature più tragiche abbandonarono una famiglia e un fidanzato dicendo che venivano a hollywood e per nulla al mondo tornerebbero indietro ad ammettere la loro sconfitta ma dare una cartolina da hollywood che per gli americani più semplici resta una specie di mecca dà sempre una punta di orgoglio kim era una di queste e la sua storia è abbastanza diversa da quella che ci raccontano i giornali di hollywood i quali sostengono che venne scoperta tale quale è ora mentre andava in bicicletta lungo il sunset boulevard marylin novak altezza 1,74 kg 68 nei periodi di dieta capelli lunghi e castani nativa di chicago secondo genita di un maestro di scuola cecoslovacco venne a los angeles all'inizio del 1953 ingaggiata con un contratto di sei settimane da una fabbrica di frigoriferi il suo lavoro era modesto consisteva nel farsi fotografare abbracciata a un frigorifero insomma uno hot number composizioni pubblicitarie a base di sesso senza le quali sembra che in america non riescano a vendere nemmeno gli antinevralgici in precedenza era stata lift di ascensore segretaria di un dentista miss automatic dishwasher miss ice cube e miss deep freezer tutti articoli domestici non pensava a fare l'attrice non aveva alcuna disposizione per fare la star l'aria della california la stregò scaduto il contratto con la fabbrica dei frigoriferi marylin prese in affitto una camera al beverly hills hotel insieme con altre due ragazze e spedì al fidanzato ce n'è sempre uno il suo era un barone tedesco il seguente telegramma non posso tornare a casa stop devo star sola finché non trovo la mia via stop addio stop poi si iscrisse all'agenzia di collocamento di caroline leonetti l'agenzia fornisce belle ragazze come comparse per i film pochi giorni dopo la mandarono a chiamare insieme con altre 12 modelle per sfilare in una scena del film la linea francese protagonista jane russell qui la notò il coreografo billy daniel che suggerì di farle un provino il provino fu un fiasco marylin restava ferma come una patata però regala sesso attraverso le occhiate disse harry cone meglio tenerla da parte le fecero un contrattino e l'aggiunsero a quello che chiamano il vivaio degli attori ogni studio ha il suo vivaio degli attori il più importante a hollywood è quello della 20 century fox ma anche quello della columbia è abbastanza importante lo dirige benno schneider uno dei migliori maestri di recitazione in america e vi hanno studiato william holden e glenn ford generalmente ogni cinque anni capita che qualcuno esca dall'anonimo e faccia carriera attualmente la columbia sta lanciando un ragazzo di 23 anni che si chiama james warren è di origine italiana e viene da filadelfia e una ragazza cavia di cui il nome viene tenuto segreto sentiremo parlare di lei fra circa due anni intanto si sta sottoponendo a un lento processo di glemorizzazione il processo di glemorizzazione consiste anzitutto nel trasformare una ragazza insignificante in un tipo ogni anno dice ilai levi ci poniamo il problema di glemorizzare una decina di future stelline qualche volta ci riusciamo qualche altra no le stelline vengono piantate a hollywood con la stessa disinvoltura con cui si piantano gli alberi lungo il sunset boulevard e tutti sanno che a hollywood la mortalità fra i giovani alberi è fortissima per l'aria secca il vento che viene dal mare i topi che ci fanno il nido capita raramente che un giovane albero attacchi gli altri vanno estirpati la legge del vivaio è dunque spietata dopo tre anni lo studente o la studentessa che non sono riusciti a farsi notare vengono allontanati e il contratto con la casa cinematografica si estingue il giovane albero marilyn novak non dava molti frutti sarebbe inesatto dire che benno schneider ne era entusiasta il metodo schneider consiste nel proiettare agli allievi un buon vecchio film interpretato da un buon vecchio attore o attrice marilyn riusciva come la lolobrigida riesce a parlare inglese pigra per temperamento linfatica per costituzione la ventenne di chicago sembrava galleggiare in una perpetua nebbia di sogno si dedicava con energia soltanto alla bicicletta non faceva che andare in bicicletta perché le avevano detto che l'esercizio assottiglia i fianchi e le gambe raramente usciva dallo studio club dove abitava insieme a rita moreno lo studio club è una specie di collegio per ragazze che vogliono fare castamente carriera le pensionanti non possono rientrare dopo mezzanotte e gli uomini non possono entrare nella loro camera fidanzati e boyfriend hanno libero accesso alla sala di soggiorno soltanto se la pudica direttrice florence williams è presente in compenso la retta è bassa 15 dollari la settimana per una camera a due 19 dollari e mezzo per una camera singola breakfast e cena comprese ospita 80 squattrinate del retto dall'iyca gode di onorata popolarità vi abitarono un tempo donna reed linda donnell e meryl morrow è retto tuttavia dalla medesima legge spietata che regola il vivaio degli attori dopo tre anni chi non ha fatto carriera se ne va a hollywood non c'è posto per la gente pigra o sfortunata soprattutto sfortunata marylin restò per un caso rita hayward star numero uno della columbia se ne andò e questo mise harry cone di fronte all'improvviso problema di rimediare alla fuga non ha torto cone dichiara che il 95 per cento dell'industria cinematografica hollywoodiana è basata sulla mitologia della star ancora oggi la gente va al cinema per vedere la star così cone masticò nervosamente il suo sigaro spento tamburellò sulla scrivania le sue dita da strangolatore e decretò we will make a star fabbricheremo una star era il settembre del 1953 cone fece adunare dieci stelline che lo studio stava glamorizzando e le scrutò come si scrutano i pulidri di un ranch quando si vuole allevare un cavallo da corsa poi puntò il grosso indice verso marylin novak that one quella la quasi di peso marylin fu scaraventata in laboratorio bisognava anzitutto eliminarle i difetti dio mio dice elai levi camminava come un'anatra non sapeva mai dove mettere le mani stringeva sempre fra le dita un fazzoletto e lo agitava con risatine stupide sotto il naso della gente si vestiva senza criterio quante cose dovremmo insegnarle e poi era su di peso aveva una pettinatura sbagliata i denti troppo lunghi due incisivi sporgenti si tingeva troppo la bocca e troppo poco gli occhi cominciarono dunque con l'ordinarle una dieta severa per mesi mangiò soltanto sedani crudi e beve soltanto succo di pomodoro poi la portarono dal dentista e le livellarono i denti corressero la deviazione degli incisivi rivestirono qualche molare di porcellana la consegnarono al parrucchiere che le provò molte parrucche nere rosse cenere platino corte lunghe mezzo corte e mezzo lunghe e alla fine si decise per il platino e la linea corta la sequestrò infine clive campbell clive campbell è uno smilzo che un tempo fabbricava maschere di cera e nel 1932 venne a hollywood per questo il suo capolavoro rimane una testa mozza di san giovanni battista che spesso ai cocktail dei truccatori disgustosamente esibisce sopra un vassoio di ravanelli olive e noccioline se lo vedete a passeggio non gli date una cecca invece è carico di quattrini e molto autorevole perché è l'unico credo che possa cambiare faccia a una donna senza ricorrere alla plastica chirurgica vive fra specchi pennelli e barattoli in un gabinetto che ha un'intera parete coperta da quadretti dove sotto vetro sono le impronte di rossetto lasciate dalle star vi sono le impronte di lupe velez e di joan crawford di elise faye e di gloria graham di rita hayward e di l'india christian tutte donne che clive campbell lavorò è clive campbell ad esempio che costruì il volto di marylyn morrow era troppo bellina e aveva bisogno di asimmetria è clive campbell che costruì il volto di rita hayward aveva la fronte bassa come una frittella ed era grassa come una quaglia è campbell che ha inventato gli occhi e la bocca della crawford lo scopo unico della sua vita è cercare difetti alle donne fisici si intende le sistema su un seggiolone simile a quello dei dentisti davanti a uno specchio a tre facce spegne le luci gialle accende una lampada blu ed enumera i difetti a me in quattro minuti ne trovò 19 a marylyn novak ne trovò molti meno per marylyn novak egli pronunciò il seguente vertetto il volto possiede una sufficiente beauty proportion ma l'aspetto generale è quello di una contadina eccessivamente nutrita sicché bisogna costruire un volto delicato che attenui la pesantezza del busto bisognava che kim perdesse un po di guance e questo si ottenne con massaggi elettrici una sapiente dosatura di cipria che creava effetti di chiaroscuro agli zigomi e la fame bisognava inoltre che gli occhi diventassero un poco più grandi e lo si ottenne con la linea cosiddetta egiziana disegnata con matita nerissima e la maschera nera quanto alle labbra clay campbell volle che fossero piuttosto sottili quello superiore appena accennato quello inferiore più gonfio il lavoro di campbell richiese due mesi dopodiché dimagrita dipinta ossigenata e terrorizzata marylyn novak fu pronta per affrontare il cambiamento del nome marylyn non poteva andare ricordava un'altra bionda novak aveva qualcosa di aspro a con piaceva kit marlow così chiamò marylyn e le disse d'ora innanzi sarai kit marlow kit marlow si mise a fregnare che le lasciassero almeno il cognome di novak altrimenti smagrita dipinta ossigenata senza i denti suoi non l'avrebbe riconosciuta nemmeno la madre figurarsi gli amici di chicago con sbuffò e disse che d'ora innanzi si sarebbe chiamata kit novak kit novak accettò ma dopo due giorni tornava a frignare aveva visto il libro di un tale kipling che aveva un nome tanto bellino kim lo preferiva con minacciò di pigliarla a ceffoni poi aggrottò la terribile fronte e riconobbe che essa aveva ragione kim era più dolce d'ora innanzi si sarebbe chiamata kim novak il nome kit marlow fu dato a una stellina che non ha fatto fortuna ora tutto era pronto per il lancio pubblicitario con chiamò eli levy e gli ordinò di fare molto fracasso sul nome kim novak la gente doveva conoscerlo prima ancora che uscissero i film di kim novak eli levy inventò allora uno slogan marilyn morrow è passata di moda ora c'è kim novak la morrow aveva litigato con la 20 century fox sicché non c'era pericolo di fare dispetto ai colleghi gli studios sono legati da una specie di massoneria evitano sempre di darsi fastidio poi levy fece fotografare kim novak su una pelle di tigre per dimostrare quanto fosse profondo il suo fascino e mentre guardava la televisione in blue jeans per dimostrare quanto fosse semplice e sana nelle abitudini casalinghe poi convocò i giornalisti per raccontare che khan aveva scoperto il prodigio mentre il prodigio andava in bicicletta per il sunset boulevard poi la fece vestire di lilla e le disse di confessare a tutti che il suo colore preferito era il lilla lilla i lenzuoli lilla le camice da notte lilla la sua carta da lettere il suo cotone idrofilo lilla la sua vita amorosa che non esisteva khan aveva decretato che per un po di tempo kim potesse fare a meno dell'amore e kim docilmente aveva ubbidito limitandosi a una vaga promessa di matrimonio col proprietario di teatri mac cream i giornalisti reagirono a questa montatura con entusiasmo quel prodotto fasciato di lilla era eccellente solo su un piano intellettuale e cerebrale furono avanzate caute riserve interrogata su quello che usava leggere kim rispose prosa e poesia non è vero dunque che kim sia diventata una star overnight come in america chiamano le dive che diventano famose tutto d'un colpo dovette anche girare tre film prima ad essere lanciata in picnic il primo fu pushover a fianco di frank mcmurray e fu un'impresa faticosissima perché i funzionari di harry khan durante quei mesi di sforzi avevano dimenticato di insegnarle una materia importante recitazione fu necessario tagliarle molte battute e quando le dettero un'altra particina in e l'amore si sgonfia si decise di farla star zitta più a lungo possibile nel film successivo l'uomo dal braccio d'oro kim sussurrava invece qualche parola e questo convinse khan a tentare il gran salto e a lanciarla in picnic l'unico ostacolo in quella occasione si chiamava joshua logan il regista logan aveva un cast di attori eccellenti tutta gente venuta da broadway e un protagonista della forza di olden non sapeva che farsene di una bionda esordiente che balbettava come un neonato khan fu irremovibile dice khan gli ingiunsi di scegliere fra kim e picnic non avrei esitato ad affidare il film a un altro regista joshua logan scelsi kim ma la sua impresa fu tutt'altro che facile durante la lavorazione kim era di nuovo ingrassata inoltre aveva tanta paura di logan da riuscire appena a emettere delle sue labbra suoni indistinti mi irritava dice logan vederla arrivare sul set carica di medaglie santini amuleti tutte le volte che la criticavo si metteva a mugolare scappava in chiesa a dire preghiere la mattina arrivava tardi perché doveva fermarsi a fare la comunione mi terrorizzava dice la novak il fatto di essere considerata una star quando ne sapevo abbastanza per farla comparsa la guerra tuttavia si risolse a suo favore incapace di recitare kim si mosse come si muoveva in privato in una parola recitò se stessa ed era proprio quello che logan voleva picnic che doveva essere il film di william olden divenne infatti il film della novak quando lo proiettarono per saggiare le reazioni nelle città di provincia il successo fu tale che elai levi pensò di spedire kim al festival di canna con non voleva prematuro chi la conosce in europa levi insistette prendete una bionda saporita buttatela sulla croissette tra le solite facce del festival e tutti si gireranno a guardarla la gente ha bisogno di novità signor con per quale motivo crede che ci siano tanti divorzi kim andò a canna aveva 19 bagagli e l'ignoranza più profonda di un pozzo di petrolio non sapeva nemmeno che cosa fosse il baciamano quando un uomo mi baciava la mano lo lasciavo fare e poi gliela baciavo anch'io quelli credevano che fosse una burla e ridevano ma ora ho imparato tornò a hollywood mezzo stordita a una festa aveva ballato con ali khan sedette nell'ufficio di levi e domandò e ora che devo fare dice levi c'era l'inaugurazione di un cinema lì ma in perù pensai che kim avrebbe fatto bene ad andarci continuando poi un giretto di propaganda nei paesi vicini sarebbe costato qualche migliaio di dollari ma cosa sono migliaio di dollari quando si inventa una star noccioline così le comprò un biglietto di aereo e kim si preparò alla nuova avventura kim era impaurita sulla scaletta dell'aereo mugulò che devo dire ilai quando sono laggiù ilai rispose nulla solo muchas gracias amigos mios impazziranno e kim partì per andare a ripetere ai peruviani e agli uruguayani muchas gracias amigos mios fu l'ultimo rischio finanziario azzardato da khan per fabbricarsi una diva nuova di zecca oggi kim novak vale 250 mila dollari a film e perfino se andasse tutte le settimane in perù harry kohn non ci rimetterebbe davvero per questo la schiaccia sotto una sorveglianza severa e controlla così spietatamente la sua vita amorosa per questo non vuole che si sposi e batte i pugni sul tavolo quando seppe del flirt con l'italiano bandini non che mi aspetti gratitudine da un'attrice confessa con una smorfia di disgusto harry kohn non ho mai visto un'attrice riconoscente in 40 anni di carriera come produttore ma io non fabbrico dive per divertimento kim conosce la frase e risponde facendo le bizze da quando guadagna 250 mila dollari a film la sua battuta preferita è i love love io amo l'amore cominciò ad amare l'amore con john irland un 39enne dall'aria canagliesca attore di un certo talento quasi sempre impegnato in parti di brutto ubriacone o ammutinato dovette smetterla perché a harry kohn questo irland non piaceva e temeva lo scandalo irland separato legalmente dalla moglie joanne drew non aveva ancora ottenuto il divorzio continuò ad amare l'amore con frank sinatra dovette smetterla perché nemmeno frank sinatra piaceva a harry kohn ma sinatra collaborò involontariamente col dittatore mediante una memorabile scenata a las vegas quando disse a kim che lo incitava a ballare di recarsi all'inferno e non muoversi di là poi ci fu quel maestro di sci tony kassner ma anche lui era sgradito a harry kohn l'unico contro il quale harry kohn non ha mai trovato nulla a ridire è mac cream il fedele mac cream che non l'ha mai abbandonata nonostante quelle tempeste amorose mac cream è bonaccione capisce le esigenze di kohn tiene alla carriera di kim tutti tengono alla carriera di kim ci tiene il pubblico ci tiene la casa produttrice ci tengono i giornalisti chi ci tiene meno di tutti probabilmente è lei quando le chiesero se era felice di essere diventata una star rispose senza alterare il viso liscio e rotondo come una mela californiana che non aveva tempo di domandarselo infatti lavora dalle 5 del mattino alle 8 di sera vive in un appartamentino da 240 dollari la settimana non assapora il piacere del lusso perché è una risparmiatrice a canita mette in banca tutto quel che guadagna è anche soggetta a continui esaurimenti nervosi più di una volta l'hanno ricoverata in clinica è infine perseguitata dall'incubo di non essere all'altezza della sua fama e teme di vedere declinare all'improvviso la popolarità conquistata forza di obbedienza e di lacrime in compenso non è più la ragazza imbambolata di quattro anni fa tratta la gente con alterigia comincia a pretendere eccessive percentuali sui film si permette villanie quando girò la prima scena di pal joy arrivò apposta in ritardo per far stizzire rita hayward sua partner nel film poi disse con un perfido sorriso di scusa mi dispiace di averle mancato di rispetto carissima io l'ammiro fin da quando frequentavo le scuole elementari tutti i gheribizi che si permette una stella e kim sa forse di essere una pessima attrice ma sa anche in compenso di essere una star che volete dice r con lanciare una star è facile difficile è spiegarle che è tutta propaganda ma siamo così bravi a convincere il mondo sulle virtù straordinarie dei divi che i primi a crederci sono proprio loro capitolo sesto c'è un altro metodo per diventare star ma poco praticato perché richiede coraggio fantasia e faccia tosta attributi rari nel mondo del cinema è dunque un vero piacere parlare della ragazza più simpatica più sincera e più criticata di hollywood bionda scema ma non troppo che si lava nello champagne rosé si asciuga con una pelliccia di visone va a spasso per il sunset boulevard con una tigre tinta di azzurro e dorme in lenzuola di seta nera perché questo sensualizza un ossigenata è con altrettanto piacere che giuro di non inventare una virgola in questa storia paradossale significativa è tutto vero quanto il fatto che si chiama jane mansfield ha 24 anni 49 di vita 120 di petto e 99 di fianchi un po scarni a suo giudizio la definisco la ragazza più simpatica di hollywood perché è l'unica che non mi abbia deluso è davvero sfacciata come si dice bellina come si dice e divertente come si dice una autentica diva del cinema dai ditoni dei piedi incipriati e profumati come le sue guance all'ultimo ricciolo di platino bruciato dal parrucchiere è la più sincera perché fa senza ipocrisia tutto quello che le altre non hanno il coraggio di fare jane non ha nulla in comune con le attrici che pretendono di comportarsi come grandame senza riuscirci si arrampicherebbe nuda sull'empire state building e nel cuore dell'inverno se questo servisse a procurarle pubblicità è la più criticata perché credo non esista in america una ragazza che riceva più rimproveri e insulti di lei le scrivono lettere aperte la mettono ogni poco in castigo la accusano di screditare la rispettabilissima hollywood e lei continua imperterrita per la sua strada in un paese dove il successo è il metro delle relazioni sociali diventare qualcuno è la parola d'ordine e jane la rispetta più di se stessa che rispetta ragionveduta pochissimo i want to be on the top voglio arrivare in cima essa dice e non le importa come tempo fa i suoi avvocati le portarono una sconvolgente notizia un gruppo di imbroglioni stava vendendo fotografie dove appariva scandalosamente poco vestita e senza che jane ci ricavasse un guadagno come ogni attore che mette in commercio la sua immagine gli avvocati sventolavano carte da bollo ed erano decisi a citare gli imbroglioni in tribunale jane salto su come se il suo grazioso di dietro fosse stato punto da un ape tribunale strillo tribunale spedite immediatamente altre fotografie a quei simpatici giovanotti non vorrei che qualcuno le avesse esaurite non permetterò che la vostra scienza giuridica si ponga fra me e 160 milioni di americani vuole essere popolare ed è felice di qualsiasi cosa si pubblichi su di lei recentemente le capitò un giornale con un severissimo articolo sulle ragazze che senza pudore sfoderano le loro attrattive jane lo lesse seria seria pizzicandosi il naso annuendo giusto giustissimo non ha mica torto però e soltanto quando arrivò alla penultima riga segnò con l'unghia laccata di oro l'unica frase che la dolorasse il giornalista scriveva che la circonferenza toracica di jane era di 39 pollici tutto quel che chiedo è un po di accuratezza disse jane con le lacrime che le lucicavano negli occhi color cioccolata la scorsa estate il mio busto misurava 40 pollici ma ora ne misura ben 41 se butto in dentro la pancia e sto senza respirare e spingo il in avanti arrivo anche a 42 perché vogliono negarmi ciò che posseggo e quando si accorse che i giornali avevano fatto passare tre giorni senza citarla nemmeno una volta era così disperata che pensò di fingersi vittima di un disastro aereo nel deserto californiano infatti telefonò all'attore joe kirkwood e lo supplicò di sparire con lei quando sapranno che sono morta parleranno per forza di me disse a joe kirkwood joe era d'accordo e aggiunse che a maggior ragione avrebbero parlato di lei quando si fossero accorti quanto era viva e bugiarda ma il press agent si oppose e jane fu costretta a ripiegare su uno stratagemma più facile esibirsi nel cuore di agosto con la pelliccia sulle spalle se non sapevano chi ero se lo saranno ben domandato chi è quella scema con la pelliccia mentre si crepa dal caldo un'altra volta si presentò a una festa dove tutti erano in abito da sera vestita solo con un bikini di leopardo era accompagnata dall'allora suo fidanzato mister universo vestito con un bikini di leopardo anche lui accadde che tutti restarono ammutoliti a guardarla senza reagire allora jane pregò il fidanzato di sollevarla sul palmo della mano e in questa posizione cominciò a gridare oh la la ai colleghi esterefatti so benissimo dice jane che fu tutto maledettamente idiota ma che cosa deve fare una ragazza per combattere la concorrenza studiare le equazioni di secondo grado le equazioni le so e non mi servono a nulla per conquistare l'america una ragazza non deve adoperare il cervello jane ha infatti un piano che si compone di tre punti estranei alla cultura algebrica primo fare colpo sugli uomini e in questo ci sono già riuscita per tre quarti dice candidamente jane sapete agli uomini piacciono le bionde abbondanti come me secondo rendersi simpatica alle donne e questo lo terrò parlando della mia vita familiare frequentando con scrupolo l'associazione maestri e genitori d'america perché ho una bambina che va a scuola terzo prendersi cura degli intellettuali ma questo verrà proprio da ultimo perché gli intellettuali sono noiosi preferisco i robusti che leggono poco mi piace ecco essere dominata fisicamente jane non si cura di falsi orgogli va dovunque qualcuno la possa vedere alle riunioni dei marines all'apertura di un supermarket a un'asta di franco bolli magari con una camicia senza spalline che al momento giusto si allenta e scivola giù al cocktail in onore della loren si presentò con un abito talmente scollato che non si capiva nemmeno se lo scollo c'era o non c'era e quando jane si chinò per dire qualcosa all'orecchio della loren si vide benissimo che tutto sommato non c'era confidential le dedicò un articolo di quattro pagine per consigliarla di farsi visitare da uno psicanalista senti da che pulpito viene la predica replicò jane sinceramente stupita e aggiunse che essa aveva outbosomed sofia un'espressione difficile a tradurre pressa poco superata nel seno e quando la 20 century fox la sua casa la mise per questo in castigo decidendo che per due mesi non avrebbe partecipato a nessuna colazione o premiere telefonò a buddy hadler dirigente della fox e con una vocina che non vi dico gli sussurrò signore non ho ricevuto l'invito so benissimo che avete esaurito i biglietti e non potete darmene nemmeno uno ma sarete tanto gentili da inviarmi un autista per farmi entrare cinque minuti il tempo giusto perché mi scattino le fotografie dice buddy hadler dio mio come facevo a dirle di no jane fece una finta entrata e uscì da una porta di servizio e il giorno seguente sui giornali c'erano più fotografie di lei che della protagonista del film il mio appuntamento era alle cinque del pomeriggio nella dressing room di miss mansfield alla 20 century fox e roy metzler dell'ufficio pubblicità mi accompagnava per frenare miss mansfield nel caso che miss mansfield dicesse troppe sciocchezze veramente avrei dovuto andare a casa di miss mansfield ma era in castigo per essersi fatta fotografare nella vasca da bagno senza costume e di conseguenza non poteva ricevere estranei nel proprio appartamento una proibizione che non capiva beh che c'è di male a farsi fotografare nuda nella vasca da bagno quando mai si è vista qualcuna che fa il bagno nella vasca da bagno col costume da bagno così andammo nella sua dressing room ma roy che era un giovanotto pieno di scrupoli appariva molto nervoso perché aveva dimenticato di dire a jane che il giornalista da lei atteso con tanta ansia era una donna magari si lagnava roy si è vestita da sera e si fa trovare con gli occhi chiusi su una pelle di zebra infatti era vestita da sera stava distesa su una pelle di zebra e ci rimase malissimo anzi voglio raccontare proprio come successe di sì buonasera miss mansfield e miss con le palpebre abbassate sugli occhioni aggrottò la fronte perché quella voce femminile non le diceva nulla di buono poi alzò lentamente le palpebre e posò gli occhi sui miei tacchi a spillo poi fece scivolare lo sguardo sul mio vestito inequivocabilmente inadatto a un uomo e nello stesso tempo cominciò a impallidire alla fine mi guardò in faccia e disse come se le avessi dato il più grosso dispiacere della sua vita ripeteva jane coprendosi la scollatura scomparve dietro lo spogliatoio e dopo un poco più svelta di fregoli riapparve con un paio di calzoni rosa una camicetta rosa e una espressione pudibonda e dolcissima mentre mi diceva buonasera madame convincendomi che oltretutto è una splendida attrice non c'è timore o disappunto che possa tenere miss mansfield lontana da un giornalista anche quando il giornalista è una donna il giorno in cui essa fu assunta dalla 20 century fox era martedì e il mercoledì doveva recarsi a porgere gli omaggi al presidente ci andò il sabato è stata ammalata a miss mansfield chiese il presidente poteva almeno avvertirci le avremmo mandato il dottore e lei oh no signore sono stata occupata con la stampa non potevo mica far aspettare la stampa i suoi rapporti coi columnist sono cordiali dal giorno in cui spedia ciascuno una bottiglia di champagne rosé sulla cui etichetta aveva stampato l'impronta delle sue labbra e la scritta al mio columnist preferito un bel bacione ma non lo dire a nessuno così almeno 350 persone a hollywood credono di avere quella eccitante esclusiva compresa edda hopper che la chiama quella brava figliola ma esagera un po' contrariamente a quel che sembra miss mansfield non è stupida affatto e se fa la stupida è perché ha capito che le ragazze intelligenti passano più inosservate la seconda è che si tratta di una donna senza complessi e felice la terza è che ha fatto ogni cosa da sé inconsapevolmente valorizzando la dottrina che esalta l'iniziativa privata e questo in una città in cui la fama e la bellezza si fabbricano come un paio di calze rasenta l'eccezione se non addirittura il miracolo la sua vita potrebbe essere paragonata a un manuale di buona volontà mai nella storia di hollywood si vide una ragazza lavorare con tanta ostinazione per costruire da sé una carriera decisi di diventare un'attrice quando avevo sei anni e vidi un film di shirley temple dice jane mansfield quando dico attrice non intendo parlare di arte o roba del genere dico una diva di quelle che portano i diamanti anche per il breakfast e hanno i cani barboni tinti come piumini di cipria e una casa belè con la piscina e il servo giallo per alcuni queste sono cose vulgari ma per me no possono accusarmi di tutto ma non di essere stata sleale su questa mia aspirazione ciò è vero e lo può testimoniare anche il marito dal quale jane divorziò il giorno in cui si accorse che una diva divorziata è deliziosamente chic il marito si chiamava paul mansfield e jane lo aveva sposato a 16 anni quando lui ne aveva 20 a quel tempo dice jane mi sembrava bellissimo naturalmente i miei concetti sull'estetica maschile sono oggi molto cambiati con questo non voglio dire che paul sia brutto è solo un po' corto di muscoli il matrimonio fu clandestino perché ambedue erano studenti in un college dove è proibito sposarsi prima di ottenere il diploma jane ripete più tardi il matrimonio per accontentare la mamma che era rimasta molto sorpresa naturalmente si trattò di una pura formalità perché a quell'epoca jane aspettava un bambino quando il bambino che fu poi una bambina venne jane tornò a scuola e l'allattava in classe con gran gioia di tutti contemporaneamente jane frequentava concorsi di bellezza e li vinceva essere miss qualcosa costituitiva per lei un diploma indispensabile per prepararsi a hollywood posava anche come modella per gli scultori e studiava dizione mentre paul faceva il gelataio per mantenere quella sua strana famiglia sebbene non ne fosse entusiasta paul evitava di litigare è sempre stato un marito assai mite e nella storia di jane sostiene una parte molto patetica nessuno si sentirebbe negargli un briciolo di simpatia non si meritava un simile cataclisma del resto ci sono molti mariti in america e soprattutto a hollywood che meritano questo pubblico riconoscimento di simpatia i mariti americani sono pazienti nella stessa misura in cui le mogli americane sono inquiete e ambiziosi conoscendo jane mansfield e altre donne che le assomigliano mi sono resa conto perché molti mariti americani muoiano a 36 anni per infarto cardiaco e le mogli arrivino in perfetta salute alle soglie del secolo se li sono divorati dopo due anni di matrimonio e una trentina di concorsi di bellezza vinti in costume da bagno jane affidò la bambina alla madre e si trasferì col marito in un campo di soldati paul si era arruolato nella military police jane definisce quel periodo molto divertente si viveva nelle baracche degli ufficiali e siccome io continuavo a prepararmi per hollywood passavo le mie giornate a ballare in terrazza indossando una maglia nera molto aderente dinanzi alla terrazza c'erano sempre tanti soldati a vedermi ballare ciò non piaceva alle mogli dei soldati che andarono dal capitano per farmi rapporto ma il capitano piaceva molto come io cantavo vilia o vilia sicché fu molto comprensivo con me di giorno io non prendevo mai l'automobile per andare in città ma l'autobus dei soldati che erano tanto carini per nuotare poi non andavo mai nella piscina delle signore ma in quella dei soldati che era più grande così le mogli si mettevano sul margine della piscina per guardare il mio bikini mentre loro avevano le scarpe il cappello e la borsa ciondoloni al braccio e chiacchieravano fitto tra loro sa le donne sono molto gelose delle ragazze carine e avevano rabbia perché io riuscivo a fare la dieta mentre loro passavano il tempo a mangiare noccioline ingrassare poi paul andò in corea e jane decise che era venuto il momento per andare a hollywood si iscrisse alla università di los angeles per avere un posto dove dormire e telefonò a tutte le case produttrici per chiedere se avevano bisogno di una ragazza carina coi capelli castani qualcuno le fece fare un provino e jane con un golfino molto aderente recitò la scena di the seven year itch quando la moglie è in vacanza quella dove la ragazza scende le scale mi guardarono molto ma non successe nulla in compenso paul tornò dalla corea e le diede un ultimatum o diventava attrice entro sei mesi o tornavano insieme nel texas jane affittò un press agent che si chiamava jane brown dice jane mansfield dimenticando di fare la stupida insieme valutammo il mercato a quel tempo tutti abbaiavano istericamente dietro la monroe decidemmo che se c'era posto per la monroe c'era posto anche per una che le assomigliasse il fascino del sesso ha sempre avuto un'importanza decisiva nella mitologia hollywoodiana ci demmo dunque a fabbricare artigianalmente il prodotto vale a dire una ragazza che si chiamava jane mansfield e che satirizzava la monroe allo stesso modo in cui la monroe satirizzava il sesso jane tinse infatti i capelli di platino perse una decina di libri aprì la bocca come se avesse mangiato peperoni e soprattutto mise da parte il cervello che in una ragazza glamour è sempre stato un elemento di disturbo e fece la più grossa scoperta della sua vita la pubblicità quell'estate del 1955 si dava a silver spring in florida la prima di underwater una mediocre film a colori con jane russell l'attrice era in europa ci voleva perciò una ragazza che si esibisse in costume da bagno jim brown affittò per jane un costume di lamme d'oro un bichini di velluto rosso e la portò a silver springs dove c'erano 400 fra giornalisti e fotografi dio quel costume copriva tutto e non nascondeva nulla dice jane mi ci sentivo come se avessi dimenticato di metterlo quando arrivò jane russell la fotografia della mansfield era già sui giornali tutti parlavano della nuova wow girl la ragazza che fa esclamare gli uomini wow ossia le eccita al punto di uscire inululati decisi allora confessa jane mansfield quel che dovevo fare comportarmi come un'attrice anche se non lo ero papà era morto quando avevo tre anni lasciandomi un'eredità di 92 mila dollari da riscuotersi quando fossi maggiorenne il giorno in cui compii 21 anni andai alla banca e con quei quattrini comprai una cadillac bianca un canelupo tre chihuahua un gatto siamesi due barboncini e affittai una casa a beverly hills una ragazza che vuol fare carriera non può fare a meno di abitare a beverly hills e di avere un piccolo zoo la casa si chiamava pazzia dei mansfield ed era aperta giorno e notte ai fotografi si calcola che in due anni jane abbia visto pubblicare la sua fotografia circa 36.000 volte jane posava gratis per far la reclama alle regoste in scatola al succo di pomodoro allo shampoo e quasi gratis accettò di recitare in un film che resta forse il più brutto tra i film brutti che siano stati girati a hollywood the burglar fu prodotto e interpretato da un tale che aveva soldi da buttar via lo girò in tre settimane dentro una specie di garage senza dormire rocky marciano non avrebbe resistito a un simile sforzo il film non fece un soldo ma procurò a jane l'amicizia di greg bouncer l'avvocato delle dive che a hollywood è una specie di istituzione e le offrì gratis i servizi bouncer è un bell'uomo con le spalle così larghe che non si sa mai dove finiscano le sue e cominci l'imbottitura la faccia così abbronzata che non si sa mai se è bruciata dal sole o spalmata di brill il suo primo compito fu quello di incantare jane mansfield il secondo quello di aprire l'azione di divorzio contro paul che era tornato scuotendo addolorato la testa nel texas il terzo quello di procurarle un contratto a broadway dice jane io non volevo andare a broadway volevo diventare una diva non un'attrice ma greg mi spiegò che broadway dava prestigio e così andai la commedia si chiamava will success poiled rock hunter e siccome jane ve recitava la parte di una bionda scema nessuno saprà mai fino a che punto recitava il personaggio e fino a che punto se stessa fatto sta che se la cavò meravigliosamente bene divenendo una star overnight cioè da un giorno all'altro ma cos'è new york di fronte ai 49 stati dell'america jane voleva l'america non soltanto new york dopo otto mesi tornò a hollywood ed eccola lanciata nella più straordinaria campagna di autopubblicità che gli stati uniti avessero mai visto nel campo dello spettacolo kim novak aveva scelto il lilla e lei sceglieva il rosa cominciò a vestirsi di rosa a tingere i cani di rosa a mangiare marmellata di rosa a ghiacciare il latte in un frigorifero rosa a guardarsi in specchi rosa e a fare di tutto perché gli altri lo venissero a sapere su una giagua rosa attraversava hollywood portandosi dietro una turba di barboncini abbaianti tinti di rosa con una cappa di volpi rosa entrava nei drugstore recitava insomma la commedia della diva di altri tempi decisa a far rinascere il glamour dell'altro dopoguerra per glamour si intende soprattutto in questo pezzetto di california fascino follia e stravaganza tutto quello che hollywood possedeva al tempo in cui era la bagdad del pacifico i tom mix passeggiava vestito da cowboy su una rolls royce bianca listata d'oro con le sue cifre sul radiatore e sonia henny arrivava da cirrus a cavallo di un elefante ed ero il flynn dava le feste intorno a una piscina coperta di orchidee mentre fontane spruzzavano sugli ospiti ettolitri di acqua profumata alla colonia e jean harlow era la diva per eccellenza voglio essere come jean harlow tutta platino e tutta lusso voglio ristabilire l'epoca degli autisti in livrea della cretineria e degli scandali disse miss mansfield ed era un ragionamento abbastanza geniale in un'epoca in cui le dive vanno a fare la spesa in ciabatte e i divi trattano le questioni finanziarie indossando camicie strappate e blue jeans il primo scandalo jane lo procurò tuttavia per amore rubando il suo attuale marito mister universo alla 64enne may west che si esibisce a new york in uno spettacolo di giovanotti con molti muscoli e poco cervello mister universo era mickey augitei anni 27 altezza 1 80 torace 140 conversazione minima quando lo conobbe jane flirtava con robbie robertson il pilota che ha sposato linda darnel ma secondo le sue candide dichiarazioni credeva ad essere innamorata di nicolas ray il regista di gioventù bruciata ray le aveva fatto un provino per il ruolo poi affidato a natalie wood dice jane attraversavo un periodo in cui il mio cervello era molto confuso perché frequentavo gli intellettuali credendo che ciò mi giovasse come aveva giovato alla monroe e quelli non facevano altro che dirmi che hollywood sarebbe finita per colpa della televisione sicché piangevo dalla mattina alla sera se hollywood finiva che valeva darsi tanto da fare così una sera chiese a un marchese sa quei tipi che battono i tacchi davanti alle signore ma con le signore non sanno fare che quello di accompagnarmi in un posto e lui mi portò allo spettacolo di may west quando entrai mickey stava sollevando una palla di ferro e io lo guardai e immediatamente il mio cervello non fu più confuso sapevo di nuovo ciò che volevo infatti lo invitò a cena la sera stessa e gosh fu amore a prima vista mickey possiede i più bei muscoli pettorali di tutto il mississippi jane tace un poco forse dell'universo insomma non ci volle molto perché mickey capisse che quella bionda di lusso era preferibile alla 64enne may west e l'unica a non apprezzare questo giudizio fu la stessa may west che dopo aver tentato di trattenere mister universo con un aumento di paga lo fece scazzottare dai suoi boxer mickey è robusto ma non sa fare a cazzotti sì che i giornali pubblicarono tutto con titoli di questo genere scazzottata fra gentiluomini per questioni d'onore ma non ci volle molto a sapere che la questione d'onore era jane la quale chiamò a hollywood mickey e mickey venne con un occhio nero e un altro incerottato e abbracciò jane mansfield davanti ai fotografi sollevandola come se jane fosse un fuscello quel giorno il cinema americano capì che non si poteva fare a meno di jane mansfield e la 20 century fox le firmò un contratto per sette anni dice buddy adler mai abbiamo lanciato una bionda con altrettanta fiducia neppure ai tempi di alice faye di betty grable e della stessa morrow jane vale per ora 20.000 dollari a film ma presto ne varrà 200.000 infatti ha già girato alcuni film importanti quel wayward bus tratto da racconto di steinbeck e un altro a fianco di carrie grant ben può dire di essere arrivata a una casa che farebbe invidia elvis presley tutta l'istata di visione rosa e i giornali che parlano bene o male di lei attaccati al muro al posto dei quadri a un intero zoo di animali domestici ed esotici una piscina di marmo nero intorno alla quale costruirà presto un recinto per prendere il sole senza vestiti nemmeno il bikini ma naturalmente i muri saranno di vetro altrimenti come faccio a prendere il sole lì vive insieme con la figlia jane marie che ora ha sette anni e mickey argite che ha sposato vestita di rosa contro il parere di tutti mickey infatti non ha un'attività molto precisa sebbene si interessi dicono di commercio e di affari e per solito passa il tempo a sviluppare i muscoli pettorali sviluppo che ottiene soprattutto alzando e abbassando la moglie come una palla di ferro buona parte della vita casalinga dunque jane la trascorne a mezz'aria sul palmo di mickey ma è doveroso rilevare che quando lui la deposita a terra è una madre molto sensibile e si occupa della sua bambina come non fanno le altre mamme di hollywood che tengono tanto a dimostrare d'essere bravissime mamme la signora troppo truccata che ogni mattina alle sette accompagna jane marie all'angolo di heaven drive per farla salire sull'autobus della scuola e la lascia facendo le mille raccomandazioni è proprio la ragazza che il life pubblicando un lungo servizio con copertina chiamò the broadway smartest dumb blonde la più scaltra tra le bionde stupide di broadway e una delle ragioni per cui jane ha sposato mister universo a parte il fatto che anche il secondo marito di merlin morrow era un atleta è quella che mickey sarebbe stato un buon padre per la sua bambina remissivo e devoto com'è e poi non crediate che mickey sia solo fatto di muscoli ha anche un cervello disse jane mansfield con aria orgogliosa parlava da due ore ininterrotte quando mi alzai mi sentivo disfatta lei riposata come chi sorge da un lunghissimo sonno le porsi la mano per ringraziarla e fu come tirarle uno schiaffo oh madame se ne va per davvero oh madame ma le sembra che abbia parlato abbastanza è sicura di aver saputo proprio ogni cosa posso raccontarle altri episodi da un punto di vista completamente diverso non si è dimenticata nulla e mentre le dicevo di no di no che ora sapevo proprio tutto lei mi supplicava in corante di roy medzler che sembrava assai imbarazzato oh per favore aggiunga anche questo non bevo non fumo e dormo otto ore per notte grazie miss mansfield grazie minutro di pillole perché il mangiare rovina le arterie addio miss mansfield arrivederci ho comprato un coccodrillo e gli ho messo i calzettoni se miss mansfield buona fortuna gli uomini dicono che quando li guardo è come se fosse la prima volta che ne vedo uno va bene miss mansfield è stata un'intervista straordinaria ma ora devo andarmene per davvero la rividi qualche settimana dopo a una prima del chinese theater nessuno spettacolo di isterismo e di adulazione equivale al mondo a quello che avviene per una prima del chinese theater c'è sempre qualche ferito o qualche contuso per una prima del chinese theater ma nessun attore neppure il più intelligente rifiuta l'invito che equivale a un'apoteosi le case produttrici mettono a disposizione dei divi automobili con gli autisti in livrea e le automobili imboccano l'hollywood boulevard con ossessionante lentezza affinché tutti possano vedere i divi che si affacciano al finestrino regalano clementi sorrisi o agitano garbatamente la mano come elisabetta o il presidente eisenhower centinaia di poliziotti regolano il traffico obbligando a deviare le automobili di coloro che non vanno al chinese theater e non sono munite di permesso speciale del sindaco gli autobus cambiano il normale tragitto e intanto decine di riflettori frugano il cielo accarezzano l'asfalto del viale o investono come un'aureola di gloria gli attori un radiocronista scelto fra i più abili e i più petulanti sale su un palco sistemato all'entrata del cinema e descrive le fasi dell'apoteosi a quelli che sono troppo lontani per vedere qualcosa così mi recai al chinese theater dopo aver ottenuto un biglietto che rivenduto valeva centinaia di dollari e assistetti al trionfo di jane arrivarono prima gli attori meno importanti su automobili un poco più piccole poi quelli un po più importanti su automobili un poco più grandi infine quelli importantissimi su automobili immense nere come il carbone o bianche come la neve vennerò james mason e la moglie pamela john fontaine con il marito anne miller venne tony perkins e charton heston e bobo e dana winter insieme col marito greg bouncer alcuni erano vestiti come se fosse un carnevale fuori stagione mammy van dooren indossava un abito chiaro tutto accollato aveva perfino le maniche lunghe ma davanti aveva un amplissimo buco che faceva vedere la pelle dello stomaco e anche un'ombra di un bellico deborah paget aveva uno strascico lungo due metri come le spose soltanto che era giallo e viola nathalie wood indossava un pigiama aderente di lame d'oro e un cappellino di piume e ad ogni arrivo un boato terribile si alzava lungo l'hollywood boulevard perché bastava che il radiocronista dicesse con la sua aria fatua e ora john fontaine perché la folla si mettesse a fischiare ad urlare ad applaudire a lamentarsi in un immaginario irrepellente amplesso amoroso mentre ripeteva entusiasta il nome john fontaine qualcuno per l'emozione piangeva altri tendevano le braccia verso il beniamino come verso un'immagine religiosa altri infine si lasciavano senza un filo di forza vedi una vecchia svenire e un giovanotto abbandonarsi a un'orrenda crisi epilettica mentre i poliziotti lo trascinavano via a uno a uno i divi salevano sul palco del radiocronista che porgeva loro il microfono e con l'aria di chiedere un immenso favore li supplicava di dire qualcosa il divo agguantava il microfono e di colpo cadeva un rispettoso silenzio mentre il divo o la diva faceva dichiarazioni del genere good evening oppure how do you do i più generosi dicevano hello i prodighi esclamavano addirittura wow mentre il boato scoppiava di nuovo quasi avessero detto squisitezze allora il divo agitava le braccia alla maniera di un dittatore estremato dallo sforzo se ne andava con l'aria di che è stato fin troppo gentile infine arrivò jane mansfield era tutta vestita di nero scollata con le ciglia finte i capelli bianchi e si aggrappava al braccio di mister universo buttando baci al cielo e alla terra indugiava anche perché il vestito era stretto ma non si concedeva come i colleghi era felice così fanciullescamente felice che mi sembrò di vederla tremare in fondo agli occhi vi era certamente una lacrima salì sulla pedana inciampando nella coda dell'abito rischiò di cascare ma non la rossì era troppo felice perturbarsi di certe sciocchezze la folla intanto impazziva cari disse jane guardando i cretini sulle tribune e sui marciapiedi cari adorati poi salì sul palco stampò un bacio sulla guancia dell'intervistatore che per tutta la sera evitò di pulirsi dicendo che quel bacio glielo aveva dato jane mansfield e con la vocina strozzata dall'emozione le mani sul cuore la lacrima che finalmente scendeva dalle ciglia finte esclamò miei tutti i miei poi scese si diresse verso le tribune per firmare gli autografi jane supplicava mister universo il film incomincia lascialo incominciare questo mi diverte di più rispose jane e firmava 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 quando fu chiaro che non avrebbe potuto firmare per quelli che stavano in alto sulla tribuna chiese a mister universo di sollevarla come fa a casa e così sospesa mentre il vento le sollevava sopra le gambe lo strascico e il vestito ancora firmò capitolo settimo se le bionde come jane mansfield o kim novak provocano tanti clamori e feriti figuriamoci veri idoli d'america tre quarantenni giunti con ritardo alla gloria cinematografica frank sinatra william olden e jule brinner in un paese dove le donne non soltanto sono più numerose degli uomini ma posseggono quasi l'ottanta per cento delle azioni nelle società e dove domina una sorta di matrismo prepotente battagliero si capisce che siano gli attori e non le attrici a riscuotere maggiori affetti e isterismi di massa anzitutto il numero degli attori a hollywood supera del 40 per cento quello delle attrici e se fabbricare una diva è difficile fabbricare un divo è facile come girare un western i nomi che fanno il box office sono quasi sempre di maschi più o meno autentici dalle inchieste condotte dalla motion picture association risulta che perfino i vecchi più in carta pecoriti come spencer tracy e clark gable nel successo di un film superano l'importanza di audrey eborn e di merlin morrow l'uomo più popolare in america dopo il presidente eisenhower è frank sinatra i più autorevoli settimanali degli stati uniti gli hanno dedicato almeno una volta la copertina colori e un'accuratissima biografia e come si addice ad un vero idolo almeno una volta frank sinatra ha reagito inviando lettere dense di insulti e minacciando di fare a cazzotti si trattava è vero di lettere per modo di dire l'abilità epistolare dei divi è scarsa in quella che spedia il giornalista ed sullivan che lo ha criticato alla tv diceva caro ed sei malato sinceramente frank ps malato 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 i cazzotti sono più sicuri sebbene non li distribuisca frank sinatra in persona sinatra non è molto robusto e poi i contratti gli vietano di farsi sciupare la faccia è hank sanicola ex pugile di origine siciliana e suo manager che si batte per lui cinque anni fa quando venne in italia con sua moglie ava garner io chiesi a sinatra un'intervista e me la rifiutò con certi urli e con tanta voce che non si immaginerebbero a sentirlo cantare gli risposi alzando le spalle il secondo incontro fu più grazioso ero andata con sofia loren a vedere la prima di the bride and the passion al beverly wilshire e il caso volle che mi trovassi seduta proprio al suo fianco pazienza non si ricorderà di un litigio avvenuto anni addietro con una reporter italiana pensai e guardai dritto verso lo schermo ma sebbene litighi con moltissima gente frank sinatra ha una memoria di ferro poco prima che in sala si spenga la luce mi batte un dito sul braccio e con sorriso più bianco mi dice hello ancora arrabbiata dio mio feci la pace e promise di darmi l'intervista ma il giorno fissato non venne era andato come disse trionfante hank san nicola in vacanza alle hawaii aveva invece cambiato d'umore infatti lo vedi la sera stessa da romanoff dove mangiava guarda caso a un tavolo vicinissimo al mio di nuovo evitai di guardarlo di nuovo se la cavò con un bianco sorriso aveva perso mi disse l'aereo avrebbe dovuto recarsi a chicago per sistemare una faccenda improvvisa e gravissima era così dolce e cortese così speranzoso di farsi perdonare che se la pigrizia non fosse il mio costante malanno avrei potuto intervistarlo a quel tavolo e subito mi limitai invece a far di nuovo la pace e con affettuose strette di mano fissammo l'intervista per il giorno seguente alla paramount dove girava paul joy andai alla paramount sinatra era impegnato in una scena nuiosa c'era uno scivolo molto inclinato e doveva buttarsi in ginocchio giù dall'oscivolo fermandosi in fondo fra rita hayward e kim novak in pantaloni di strass sinatra la ripete 14 volte mentre tutti gemevano fantastic che bravo e non succedeva nulla di male ma alla quindicesima prese troppo lo slancio e andò a sbattere il naso contro la macchina da presa che era sistemata per terra molto vicina allo scivolo per riprendere i primi piani per un livido piccolo come il neo falso della nova cassinatra si mise a urlare e più gli altri cercavano di consolarlo con frasi tenere massaggi e carezze più si irritava come se la colpa fosse di tutti all'infuori che sua infine intatto e sdegnoso mi passò accanto con occhi di ghiaccio ma dissi non dovevamo parlare mi guardò come se non m'avesse mai vista con me replicò irrigidendosi a una simile audacia e a testa alta sparì col suo livido nel camerino da cosa nasca il successo di quest'uomo capriccioso nemmeno gli psicanalisti riescono a dirlo è gracile già mezzo calvo sembra gobbo una cicatrice profonda gli deturpa la mascella sinistra restando visibile nonostante il cerone nessuno negherebbe a cuor leggero che è brutto si veste poi come un gangster del 1929 camice nere cravate bianche giacchi a rigoni cappelli col fiocco alto 10 centimetri eppure loren bacal che dopo la rottura sostiene di odiarlo ha perso la testa per lui dopo boogie anzi con boogie è l'uomo più attraente che abbia conosciuto mi disse allungandosi voluttuosamente su un divano della sua casa in ombi hills e mi creda in campo maschile i miei gusti sono difficili sul piano di frankie metterei solo adlai stevenson il regista john houston e il comediografo sherwood ad una parete accanto alle fotografie del defunto humphrey bogart c'erano quattro fotografie di sinatra il suo successo con le donne è ormai leggendario valentino se fosse vivo si sentirebbe umiliato è il tipo che va a un party con la nova che se ne esce con la ditri dice un suo amico cambia le donne come una cravatta dicono altri talvolta mi chiedo se non le sceglie col criterio di accompagnarle al colore delle cravate sinatra ha 2000 cravate è risaputo che quando lavorava alla mgm sinatra attaccò al muro del suo camerino una lista coi nomi di celebri attrici da conquistare ad ogni conquista spuntava il nome con una crocettina quando se ne andò soltanto due erano rimasti senza quella crocettina e sebbene lo sappia non vi dico quali affinché l'incertezza salvi l'onore di tutte le dive centinaia di ragazze a hollywood new york e altre città d'america ed europa hanno sperimentato le avance di sinatra che si dividono in due categorie con le ragazze meno difficili sinatra usa una dozzina di rose e una cena con le candele con le altre due dozzine di rose e l'atteggiamento del bambino colpevole a tutte è capace di regalare dopo un bacio un'automobile dopo di che le abbandona eppure anche le abbandonate sostengono ancora di amarlo e la ragione è che il è l'unico uomo che m'abbia capita non è forse vero che ava garner esitò alcuni anni prima di sciogliere il matrimonio con lui e che quando andò a hollywood con walter chiari piantò il poverino per recarsi a cena con frankie e che dire di nancy barbato la prima moglie che non si risposa perché frankie potrebbe sempre tornare se mai ci fu nella storia di hollywood un uomo fatale questi è sinatra se mai ci fu un attore capace di farsi adorare meritandolo poco questi è sinatra quando morì il proprietario del night club mocambo in sunset boulevard sinatra rinunciò a tutti gli impegni per cantare gratuitamente al night club e aiutare in tal modo la vedova non si oppose però ad un po di propaganda e tutti seppero quanto fosse generoso un simile gesto e milioni di ingenui gli si buttarono ai piedi per venti giorni entrare al mocambo divenne impossibile la gente veniva anche da città di messico e dal canada uno dei nostri camerieri aveva il compito di rispondere alle telefonate interurbane internazionali della gente che prenotava un tavolo mi disse il maître impazzivamo provamo ad aumentare i prezzi soltanto il coperto costava 10 dollari non servì a nulla oltre alla generosità sinatra è famoso per la devozione alla famiglia è capace per esempio di piantare le donne più belle del mondo per portare a spasso i suoi figli sorveglia scrupolosamente la primogenita nancy che ormai ha 18 anni e accompagna dal parrucchiere il secondo genito frank perché non gli mettano brillantina nei capelli porta sempre al collo una medaglina d'oro che tina la terzo genita gli regalò con la dedica pa noi ti amiamo da qui all'eternità è naturalmente un cattolico molto devoto col portafogli pieno di immagini sacre lo si vede per natale per pasqua alla messa oltre alla famiglia e alla chiesa ama gli amici vi sono in america alcune decine di persone che posseggono un accendisigari d'oro con questa frase al mio più caro amico non ti dimenticherò mai frankie ma a metà di queste persone sinatra non rivolge più la parola tutti sanno che è amico di gangster come joe fischietti quando arrestarono il famoso bandito gli trovarono il numero telefonico di sinatra sul tacquino ebbene rispose il bandito siamo in ottimi rapporti ma è amico anche di intellettuali integerrimi come stevenson durante le campagne elettorali si farebbe ammazzare per fargli pubblicità si farebbe ammazzare anche per difendere un negro e questo è uno dei lati migliori del suo sconcertante carattere fu sinatra a lanciare il cantante negro sammy davis junior e a mettersi dalla sua parte quando confidential lo accusò di essere troppo devoto ad ava garner è prodigo una volta finanziò il matrimonio di un tale spendendo ben 5.000 dollari un'altra volta regalò una cadillac a un signore che non conosceva perché avevo capito che gli piacevo un'altra volta ancora spese 30.000 dollari quasi 20 milioni di lire nei regali di natale è il sistema che aveva mike todd che a quel modo conquistò elisabeth taylor e 49 stati d'america così si capisce perché solo a los angeles ci siano 19 club femminili intitolati al suo nome uno si chiama siren society of zooning sinatra's slaves società sospirante delle schiave in deliquio per sinatra lo presiede gloria tishkov 43 n madre di 5 figli già vincitrice di un concorso per la migliore massaia della california non ci vedo nulla di male nel fatto che gloria ammiri sinatra ha detto bob tishkov il marito molti uomini americani vorrebbero assomigliargli è il divo che anch'io preferisco certe affermazioni sono preziosi alle finanze di un divo sinatra è oggi l'attore meglio pagato di hollywood solo bing crosby è più ricco di lui sinatra non guadagna quattrini soltanto facendo l'attore il cantante e le biz possiede una casa di produzione due case di dischi alcune decine di case da gioco e di alberghi a las vegas due scuderie 30 cavalli da corsa alcuni pozzi di petrolio un centinaio di drugstore ristoranti sparsi in ogni città e villaggio d'america a hollywood gli otto ristoranti italiani che si chiamano villa capri appartengono a lui e così il ristorante francese la rue sul sunset strip lo comprò in società con luella parsons perché lui luella parsons la odia ma se si tratta di affari è capace di eroismi impossibili dicono a hollywood che neanche luella lo ama infatti non gli ha mai dedicato una frase gentile ma la sera quando entrambi vanno a controllare i guadagni alla rue tubano come due piccioncini darling dice lui honey dice lei e corre voce che luella sia una delle poche persone cui sia permesso entrare in casa di frankie la casa di frankie si trova su una collinetta di cold water canyon a beverly hills il cancello col controllo elettronico si apre soltanto quando arriva il padrone scalare il muro di cinta è impossibile campanelli non ce ne sono l'ho costruita in modo che se non siete invitati ci arrivate soltanto con l'elicottero dice l'architetto paul williams sinatra ci vive solo con un servo filippino mariano ed un telescopio mi sarebbe piaciuto confessa fare l'astronomo così la notte se vi avventurate per cold water canyon può capitarvi facilmente di vedere sulla terrazza della casa proibita il grande amante di hollywood un omino in maniche di camicia indaffarato a guardare le stelle il maschio seducente sicuro che il 50 per cento delle donne in america considera come ideale di marito è invece william olden capostipite degli uomini in grigio the man in gray funnel suit come a hollywood chiamano coloro che vogliono apparire normali è una categoria assai apprezzata dalle organizzazioni religiose e l'american legend of decency la lega del cardinale spellman vi appartengono sentimentalmente gregory peck nonostante i divorzi charton eston pat boone e glenn ford che da 18 anni è sposato con la medesima donna e dichiara il mio passatempo è coltivare pomodori non si conoscono stravaganze o avventure eccezionali di william olden ha un numero limitato di cravate si veste come un professore di liceo è sposato da 15 anni con brenda marshall che per lui abbandonò la carriera e si mise a fare la donna di casa si vanta di essere un tipo comune le agenzie di pubblicità infatti lo scelgono spesso per la pubblicità su carta patinata che esalta il succo di pomodoro o di tabacco della virginia è atletico si bello si ma la sua faccia e la sua figura hanno la neutralità di una fotografia composta dalle fotografie di tutti gli attori di hollywood dice un suo produttore qualcuno più patriottico ha definito il suo volto come una carta geografica degli usa con tutte quelle linee perpendicolari e parallele infatti negli ultimi anni la sua fronte si è incisa di qualche ruga le sue guance sono diventate un poco cadenti e questo turba un poco i press agent che si affannano a dipingerlo in modo pittoresco così ignari di commettere un gravissimo errore inventano che gli piace il pericolo e allo stesso modo in cui bambino camminava sulla sottile spalletta di un ponte ora ha l'audacia di restare tre minuti sott'acqua senza respirare e nel cuore dell'inverno in realtà l'unica impresa eccitante del signor olden mi è stata narrata dal regista joshua logan un giorno mentre discuteva una scena il signor olden saltò sul davanzale della finestra al venticinquesimo piano e reggendosi con la sola destra al cornicione cominciò a penzolarsi nel vuoto fischiando voleva sgranchirsi un po il suo hobby più temerario è invece abbastanza comune fra gli uomini in grigio d'america gli piace pilotare l'aereo e correre in automobile possiede un aereo da turismo e quattro macchine da corsa a mezzanotte quando la strada è più sgombra è facile vederlo passare a bordo della ferrari diretto al grand canyon o a palm springs guida anche a 200 all'ora il che gli permette di raccogliere una fila di multe per eccesso di velocità particolare che non si addice agli uomini in grigio quando non guida sta negli uffici della fiat in san fernando valley mi piace afferma il puzzo di benzina gli uffici sono diretti da un giovanotto italiano gregorio bernardini che per la sua dimestichezza con la benzina è carissimo amico del signor olden per aiutare bernardini il signor olden affronta spesso i clienti e decanta le virtù della 1100 della 600 riuscendo sempre a convincerli una volta riuscì a smerciare nove automobili nel giro di una settimana vero è che non perde il suo tempo perché possiede qualche migliaio di azioni della fiat la sua vita sentimentale è pulita di scandali non risulta che confidential si sia occupato sia pure di striscio di lui si parlò del suo flirt con grace kelly se gli piace una donna non chiude certo gli occhi anzi li spalanca sicuro ma non credo che divorzierebbe ammesso che sua moglie lo volesse gli piace piuttosto fare quattrini che al contrario di sinatra spende giudiziosamente voleva impiantare i drive in a roma e rimase assai male quando seppe che qualcuno lo aveva fatto prima di lui gli piace anche viaggiare come a tutti gli americani della classe media è stato dappertutto fuorché in russia e in groenlandia dopo ogni viaggio appunta scrupolosamente una bandierina sulla sua carta geografica per dimostrare a se stesso che è stato davvero laggiù fa collezione di franco bolli il problema razziale non gli turba il sonno ho l'impressione che trovare un negro a spalla a spalla in un bar gli dia un po fastidio è un membro fedele del sindacato attori e naturalmente iscritto all'american federation of labor organizzazione anticomunista non ama arthur miller stima kazan perché al processo dei paracomunisti fece il nome di gente che poi fu implicata per disprezzo al congresso ritiene giusto che l'america abbia criticato ingrid bergman perché aspettava un figlio da rossellini prima di avere chiesto il divorzio dall'instrom non lo scriva naturalmente ma è quello che penso non lo si vede mai a uno spettacolo di gala o a un cocktail non ha amicizie fra la gente del cinema abita ancora nella casa di san fernando valley che comprò all'inizio della carriera la casa è in stile coloniale inglese a due piani col tetto in ardesia intorno ci gira un prato che il signor holden rasa sempre da sé in mezzo al prato c'è una piscina rettangolare che il signor holden si vanta di avere costruito per soli 5 milioni di lire italiane non butto mai i quattrini dalla finestra una domenica pomeriggio andai a casa sua con bernardini non lo avevamo avvertito e perciò non potei sospettare che recitasse una parte il signor holden faceva il bagno in piscina e si lamentava con la moglie che la coca cola fosse aumentata di prezzo forse a los angeles costa ancora il prezzo di prima ma no caro ti dico che è lo stesso prezzo in tutti i drugstore la signora holden piccola e magra con capelli già grigi era seduta in poltrona e faceva la calza guardando il torace del marito come se non lo avesse mai visto prima i due figli maschi giocavano col cane sul prato un quadretto familiare come capita spesso di vedere la domenica pomeriggio in california si fece il bagno coi costumi prestati dal signor holden e dalla signora holden poi si andò nella living room a bere il whisky la stanza era arredata in stile rustico con cauta eleganza il mobile più importante era il bar il signor holden si era messo sulle mutandine bagnate un asciugamano di spugna e la signora holden era in bichini e gli diceva non mi piace hollywood non mi piace la gente del cinema il mio ideale è diventare un uomo di affari si lamentava delle tasse eccessive pensi un po il 90 per cento sui nostri guadagni e si batteva i pugni sulle tempie si compiaceva del suo mestiere senza gioirne lo so di non essere un grandissimo attore ad esempio non riuscirei a recitare in teatro però mi sono specializzato nel cinema e questo mi consente di essere un buon attore del cinema noi americani crediamo molto alla specializzazione che certo limita le capacità della gente però quando siamo specializzati in qualcosa la facciamo con un certo decoro quest'uomo tanto modesto tanto serio che ha tanto rispetto per quel che fa si è sempre fidato del caso divenne attore per caso uno talent scout della paramount me vide mentre recitavo in una commedia scolastica a quel tempo studiavo chimica all'università di pasadena e mi chiamavo william franklin beadle per caso gli dettero il nome di william holden che apparteneva a un vecchio giornalista direttore di un quotidiano a los angeles pressa poco come chiamare mario missiroli un esordiente di cine città dicevano che beadle sembrava il ronzio di una zanzara e poi gli cadde lo sguardo su un giornale dove c'era la firma di william holden per caso divenne famoso in un film a fianco di barbara stanwick e ritornò famoso dopo vari western anonimi con il viale del tramonto montgomery clift aveva rifiutato la parte nel viale del tramonto nessuno la voleva e così la detterò a me ripeteva che non avrebbe potuto desiderare di più ma un giorno smetterò di recitare e accetterò un posto di funzionario in qualche casa produttrice la mia faccia si addice alla scrivania del tutto diverso è colui che gli americani indicano come the south made mystery man l'uomo del mistero che si è fatto da sé di lui infatti non si sa nulla di preciso né il nome né il cognome né l'età né il colore dei capelli dice di chiamarsi yul brinner e di avere 35 anni però ne confessava 37 all'epoca in cui girava i dieci comandamenti vale a dire nel 1955 e 36 quando un anno dopo girava anastasia cameron ship che gli ha dedicato una lunga biografia su redbook mensile per giovani adulti dice da quando lo conosco mi ha raccontato almeno sei versioni sulla sua nascita e io credo a ciascuna delle sei una di queste lo vuole nato a sakalin isola siberiana cresciuto in romania educato in cina figlio di padre mongolo e di madre zingara la madre dice l'attore morì mettendolo al mondo capita spesso agli uomini misteriosi il padre dice ancora si chiamava tidy ken ma cambiò il nome in quello di brinner perché era più facile a pronunciarsi ma io temo sia nato in svizzera da padre svizzero e madre svizzera e si è cresciuto in una fabbrica di orologi tanta è la precisione che centellina raccontando le frottole mi è sempre piaciuto bluffare ammette cominciai molto presto a menare per il naso i creduloni così non sappiamo se credergli quando dice che i suoi capelli sono neri ed è calvo perché lo vuole ogni mattina quando si rade la barba fa scorrere il rasoio elettrico anche sul cranio e ci gira intorno lo ripulisce lo spiana finché lo ha reso lucido e bianco come un uovo non sappiamo se credergli quando dice che a 13 anni faceva il cantastorie nelle boîte di montmartre il cameriere nei drugstore di new york circostanza del resto comune negli uomini fattisi tutti da sé e quando dice che a 18 faceva l'acrobata del circo medrano senza avere mai visto un trapezio tanto è vero che cadde un giorno nel vuoto e si fratturò le gambe le braccia le spalle le dita le costole l'osso sacro e la milza e quando dice che diventò clown perché l'acrobata fallito a tutti i numeri per diventare un pagliaccio patetico ma come pagliaccio non valevo un granché mi limita ecco il senso del ridicolo brinner è un personaggio a parte nel mondo di hollywood dopo due film sarà già allineato fai big three i tre grandi e ancora la gente si chiede se ha davvero quel sex appeal e in cosa consiste non lo so dice una sua partner deborah kerr ma se ti guarda ti viene voglia di diventare sua schiava non lo so dice un'altra sua partner ingrid bergman ma è così drammaticamente romantico se dice ciao ti buca il cuore non lo so dice sua moglie ma con lui non mi annoio è convinto d'essere un uomo eccezionale e questo non dà fastidio esibisce la sua megalomania con una sfacciataggine piena di humor ottiene quel che vuole perfino quando non avevamo un centesimo il nostro frigorifero era pieno di caviale e champagne invece il sex appeal di jul brinner è molto spiegabile egli è il divo per eccellenza il divo più divo che hollywood abbia mai avuto dopo la garbo egli è fra gli uomini ciò che la garbo fu tra le donne con tutta la civetteria la illogicità la falsa inaccessibilità che distingue un divo dalla gente normale non si fa amare e odiare come sinatra non è serio come olden si esibisce nella recitazione perpetua di un personaggio quello di brinner la sua immaginazione è tanto fervida che riesce a suggestionare gli scettici ero suggestionata anche io fino al giorno in cui lo incontrai nel teatro di posa della mgm dove girava i fratelli karamazov yule se ne stava rincattucciato col suo cranio lucido e bianco e fumava una sigaretta lunga come la bacchetta di un direttore d'orchestra mentre fissava con sguardo magnetico la punta degli stivali richard brooks il regista mi presentò yule smise di ipnotizzare quei fortunati stivali volle sapere perché fossi in quell'orribile luogo aveva una voce grassa un po' cavernosa come la gente che ha sempre la tosse risposi che volevo conoscerlo mi parve che apprezzasse il pensiero il suo volto rotondo si distese in un lieve amaro sorriso mi offrì una delle sue sigarette i suoi occhi mi fissavano cupi quasi a carpire un segreto di spie le ciglia setose ricurve come se fossero spalmate di rimmel palpitavano con insistenza mi accese la sigaretta con lentezza studiata la sua bocca cicciuta soffiò sul fiammifero il soffio fu violento e delicato insieme deluderei signor brinner se scrivessi che non mi procurò un dolcissimo brivido non me lo procurò poi europa disse lo fissai senza capire amo l'europa spiegò un po' irritato parigi disse ama parigi aggiunsi tutta contenta di aver capito benissimo no disse più irritato che mai ci ho passato un'adolescenza infelice e mi raccontò la sua carriera di acrobata mi parlò delle 57 fratture e io lo guardai meravigliandomi che fosse intero ma ripete inesorabile 57 ho le radiografie mi accennò alla sua esperienza di palcoscenico a george ludmila pito f che per primi compresero da avere a che fare con un autentico attore insistette sull'antica amicizia con jean cocteau fu cocteau a darmi un prezioso consiglio ricordati mon cher che quando sarai un divo il pubblico non deve pensare che vai al gabinetto tacque ancora afferrandomi un pulso era una vera stretta mi faceva male e gli avrei tirato una pedata allo stenco ma mi frenai stava per dirmi qualcosa di molto importante infatti a lei però voglio dire una cosa molto importante non sono calvo come si insinua se voglio posso far crescere i miei capelli fino ai ginocchi lo disse con convinzione senza ridere nemmeno un poco così ricordai di non aver mai visto ridere a gola aperta yul brinner e gli chiesi perché yul disse ma cher ridere mi turba come piangere la vita è troppo triste perché possiamo permetterci le risate aggrottai la fronte mi sembrava di avere già letto la frase infatti fu attribuita vent'anni fa a greta garbo intui la mia diffidenza certo che sì perché si guardò intorno accertandosi che nessuno ascoltasse e chinandosi verso di me aggiunse precipitoso no no a lei voglio fare un regalo voglio dirle la verità non rido per questo sono timido e mi vergogno di tutto quando vedo la gente vorrei nascondermi sotto un tavolo come un bambino lo disse con tanta mestizia che neppure un attimo solo dubitai che fosse sincero e improvvisamente mi apparve per quello che è un bravo uomo che dura fatica a dire bugie lo avrei ringraziato ma subito si alzò di scatto e il suo volto era rosso i suoi occhioni smarriti la sua bocca piegata in una smorfia angosciosa come se la rivelazione lo avessi sconvolto addio disse sfiorandomi appena la mano certo era andato a piangere forse a uccidersi mi aggredì un senso di colpa se lo avessi zittito in tempo se avessi finto d'essere sorda ma sì dovevo rincorrerlo giurargli che non lo avrei raccontato a nessuno che gli avrebbe detto coctose avesse saputo che dramma ma che dramma disse brooks è andato al gabinetto capitolo ottavo incontrai quel ragazzo in casa di cobina wright giornalista mondana era tarchiato bruttino con la camicia quadri e l'espressione cupa sulla larga faccia di contadino qualcuno gli aveva dato l'indirizzo di cobina spiegando che è una donna importante sicché era venuto a chiedere come si fa a hollywood per diventare un attore sedeva sul divano di velluto celeste con cautela e sembrava ansioso di sentirla parlare cobina lo fissava con gli occhi un po miopi accarezzando un barboncino da 500 dollari e taceva poi d'un tratto gli domandò perché mai volesse diventare attore il ragazzo non si aspettava quella domanda perché lo sento ecco è qualcosa che ho qui qui e si batteva sullo stomaco aveva mani forti e callose dalle unghie nere cobina disse in italiano perché non capisse sono tutti uguali mi ricorda un altro ragazzo che anni fa venne a chiedermi le medesime cose si chiamava james dean udendo quel nome il ragazzo si agitò lo sguardo gli divenne speranzoso conosco ben bard il maestro di recitazione che dirige il vivaio degli attori della 20th century fox ecco il suo numero cercherò di fare qualcosa per te disse cobina lo sguardo speranzoso tornò a essere cupo il ragazzo si alzò mungolando un ringraziamento indistinto vuoi bere un whisky chiese cobina annoiata il ragazzo scosse la testa no e non parlare in dialetto capito devi parlare in un ottimo inglese se vuoi diventare attore yep ma che yep yes devi dire capito yep camminava all'indietro in direzione dell'uscio torna pure ricevo tutti perché faccio una buona azione ogni giorno disse cobina yep non sapeva nemmeno aprire l'uscio tremava come era capitato in una città come hollywood vengo con lei dissi e uscimmo il ragazzo aveva un'automobile ma così vecchia che a metterla in moto sembrava perdesse le ruote gliel'aveva prestata un tale per due dollari al giorno ma ora l'avrebbe restituita perché gli mancavano i quattrini gli ispiravo fiducia parlava senza farsi pregare ora che cobina non c'era non so perché ebbe l'impressione che svenisse di fame vado a mangiare un hamburger venga con me mi terrà compagnia dissi le mani gli si irrigidirono sul volante nope peccato dissi vado da gugis dove andava sempre james dean forse non c'è ancora stato la stretta sul volante si allentò è proprio sicura che jimmy andasse a mangiare da questo gugis jimmy è il mio idolo sa voglio diventare come lui andamo da gugis arrampicati sugli sgabelli dinanzi a una tazza di caffè latte che costa soltanto 10 cents c'erano tanti james dean il ragazzo fissava il soffitto e i tavoli come se visitasse una cattedrale sono scosso confessò mentre inghiottiva il suo hamburger con le patate aveva fame davvero gli domandai se voleva anche un pezzo di pollo e voleva anche un pezzo di pollo gli chiesi se voleva anche la torta di formaggio e voleva anche la torta di formaggio gli chiesi se voleva il gelato e voleva anche il gelato quando si accorse di avere mangiato tutto arrossì chissà se jimmy mangiava tanto lei lo conosceva eh lo conosceva rimase deluso perché non lo avevo mai visto e marlon eh com'è marlon rimase deluso perché gli dissi un tipo così e così non è vero brontolò marlon è un grand'uomo voglio diventare come lui e montgomery clift com'era montgomery clift sembro sollevato perché gli dissi l'ho visto solo una volta mi è sembrato un po' strano forse brontolò ma è un grand'uomo anche lui voglio diventare come lui poi volle un altro gelato si pulì la bocca con la manica della giacchetta e mi raccontò la sua storia si chiamava peter frey aveva 18 anni veniva da nebraska un giorno vedo il film di jimmy e mi dico voglio diventare identico a lui dico mi piace anche marlon ho una grande ammirazione per montgomery ma jimmy dico è qualcosa di più lo dico ai miei genitori che mi dicono sei pazzo che ti piglia brutto come sei così io mi ribello e vendo la motocicletta e vado a new york per diventare un attore ma a new york è impossibile sai bisogna conoscere la gente adatta io ogni tanto conosco qualcuno che è un tipo molto gentile mi accarezza i capelli e mi vuol portare a fare un viaggio io non ci vado perché voglio diventare un attore non fare un viaggio e lui non mi aiuta per niente poi mi dicono che perdo il mio tempo bisogna andare a hollywood dove tutto è più facile così vengo a hollywood e tutto è difficile come a new york devi avere l'automobile devi essere qualcuno e se non sei già qualcuno ti respingono come un pezzente aveva le lacrime agli occhi odio questa città è la città più idiota e più cattiva d'america sono tanto infelice gli domandai perché fosse infelice si grattò la testa ma so dico tutti i ragazzi della mia età sono infelici è che non ci capiscono dico a volte vorrei ucciderli tutti chi chiesi beh tutti gli chiesi se aveva una ragazza forse una ragazza lo avrebbe reso meno infelice no signora non mi interessano le ragazze loro non mi guardano e io non le guardo posso farne a meno benissimo dico voglio diventare un attore io ripeteva quelle frasi già attribuite a marlon brando o a james dean come una poesia imparata a memoria non sapeva dire altro e non avrebbe fatto carriera nemmeno se cobina gli avesse dedicato per un anno la sua buona azione giornaliera perché non torna nell'ebraska gli chiesi lasci perdere questa faccenda di hollywood come tirargli uno schiaffo di colpo dimenticò le frasi imparate a memoria il volto gli divenne paunazzo gli occhi colmi di disperazione batte i pugni sul tavolo mentre i james dean si giravano un poco sorpresi e no urlò al diavolo tutti no io resto e vedrà quel che so fare si era alzato piangeva era una scena penosa e ridicola i james dean erano impalliditi ho il privilegio o la colpa di aver inventato un attore da gugis quella sera c'era ben barde vide tutto ascolto tutto poi si avvicinò a peter fray e gli disse consegnandogli il suo biglietto da visita bene ragazzo una scena magnifica diventerai certo un attore si comincia domani è dalla fine della guerra che dura questa mania dei selvaggi in blue jeans ragazzi ambiziosi rompiscatole e misogini gli attori che fanno il box office appartengono a una generazione con le tempie grigie si chiamano a parte i tre grandi gary cooper 57 anni james mason 49 anni john wayne 51 anni clark gable 57 anni tyron power un ragazzino 45 anni spencer tracy 58 anni robert taylor 47 james stewart 58 kerry grant 54 eppure il pubblico degli adolescenti reclama i ribelli in blue jeans e per ogni ribelle che muore in automobile o tramonta perché la plastica al naso è poco riuscita o in borghesisce perché ha preso moglie ce n'è subito uno pronto a rimpiazzarlo basta ad esempio recarsi una sera da gugis si tratta di un prodotto diffuso e assai commerciabile mi disse ben bard in 13 anni non è ancora calato di prezzo il primo ribelle di hollywood si chiamò montgomery clift tutti gli attori sotto i 30 anni che sono divenuti celebri negli ultimi tempi da brando a james dean da anthony perkins a elvis presley furono influenzati da questo strano personaggio forse il più strano incompreso che sia mai capitato in 50 anni di hollywood l'unico sentimento che montgomery clift nutre nei riguardi della città che gli ha dato la gloria è quello di un ingiustificabile insanabile odio del resto non abita a hollywood vive a new york in un appartamento vicino alle 64esima strada est il cui indirizzo è conosciuto soltanto da una decina di persone incluse le due donne che contano per lui elisabeth taylor e la 52enne libby olman che e gli chiama my steady girl la mia ragazza fissa la casa ha cinque stanze e una sola camera da letto il letto è a una piazza monty ci dorme da solo è tappezzata con centinaia di libri che comprendono i trattati di freud il decamerone la divina commedia in inglese le opere di platone le commedie di bernard show e di shakespeare non sempre i ribelli sono anche ignoranti vi sono incorniciate anche due fotografie e una radiografia una delle fotografie è di elisabeth taylor l'altra è di frank sinatra la radiografia ritrae di profilo il cranio di libby olman monty è affezionato alla radiografia quando viaggia la mette in valigia insieme con una cassetta di medicinali infatti l'ossessione di essere malato lo tortura quanto quella di essere pazzo il suo psicanalista sostiene che ha la più vasta cultura medica che abbia mai riscontrato in un paziente senza la laurea la notte che si trovi a berlino a hollywood o tel aviv montgomery kript balza dal letto in preda a incubi immaginari e si a girare per strada con la sua cassetta di pillole di iniezioni viaggia molto è stato 18 volte in europa e altrettante in palestina è ebreo un'altra cosa da dire è che non firma mai autografi non concede interviste non è mai stato a un cocktail party ancora oggi è capace di andare scalzo o vestito solo di una camicia a quadri e i blue jeans pensa sempre alla morte e si comporta come se la cercasse guida da incosciente la motocicletta non si è mai sposato e giura che non si sposerà mai non ci tiene ad essere un divo ci tiene invece a fare l'attore per questo prima di venire a hollywood per creare senza saperlo il new look aveva rifiutato ogni scrittura cinematografica veniva da broadway recitò nel suo primo film quel red river il fiume rosso che lo trasformò in una star overnight con malcelato disprezzo e lo stesso disprezzo esibì verso la comunità che lo aveva ospitato abitava in una soffitta non possedeva neppure uno smoking non faceva nulla per apparire simpatico dice il regista sineman che lo lanciò si muoveva come un gatto spaventato e come un gatto inarcava la schiena quando una cosa lo irritava urlava per nulla una infinita tristezza anacquava i suoi occhi verdi era sempre incerto scontento afflitto da esagerati problemi e io credo che sia nato da questo il successo di montgomery clift mi disse fred sineman con la sua inquietudine la sua malinconia egli era il simbolo di una generazione che usciva dalla guerra per rientrare nella normalità milioni di ex gi credettero di identificarsi in lui milioni di ragazze lo amarono perché avvertivano il suo bisogno di essere protetto e confortato invece come tutti gli attori che in seguito fecero scuola del suo personaggio montgomery clift respingeva le donne anzi le odiava l'unico amore che gli si attribuisce resta quello per elisabeth taylor ma si trattava di amore il legame fra elisabeth taylor e montgomery clift durò anche durante i matrimoni di lei nei periodi di burrasca familiare lees ricorreva al suo aiuto supplicandolo di calmarle il marito la sera in cui montgomery clift ebbe l'incidente automobilistico che gli lasciò la faccia sfregiata era andato a sistemare una vertenza sentimentale fra elisabeth taylor e michael wilding il secondo marito è un incidente che somiglia stranamente a quello capitato a james dean dicono che montgomery si trovasse quel giorno in preda a un'angoscia più forte del solito salì sulla macchina leggermente ubriaco e come un pazzo imboccò il sunset boulevard dopo qualche minuto si sfasciava contro un albero lees fu la prima ad arrivare sul posto montgomery aveva il cranio rotto il naso e la mascella fratturati tre denti ciondoloni non era morto e sembrava gli dispiacesse infatti pazienza disse alla taylor levami i denti un'altra volta andrà meglio nessuno sa come quando si è iniziata l'amicizia di montgomery clift con libby allman una ex cantante di blues famosa ai tempi in cui egli era bambino una fama sconcertante o un maledetto destino insegue questa misteriosa creatura il suo primo marito christopher reynolds morì assassinato o suicida l'attore philip holmes suo fidanzato morì in guerra alla vigilia del matrimonio la holman sposò allora il fratello di lui che dopo poco morì suicida da questo matrimonio nacque un figlio che rimase ucciso in un incidente automobilistico tutti gli uomini della sua vita sono morti di morte violenta insomma è come si suol dire una grande gliellatrice sono sicuro osserva il solito amico di montgomery clift che egli è amico di libby allman per masochismo spera che gli porti male infatti gliene ha portato la plastica che gli hanno fatto dopo l'incidente automobilistico è poco riuscita il suo naso non è più il naso di prima la faccia è diventata un poco sgradevole monti piace sempre meno alle donne e agli uomini a parte il fatto che il suo tramonto era già cominciato dice lo sceneggiatore kaufman essere bravi non basta in questa città clift fu l'idolo di un periodo di transizione cominciò a declinare quando sul sunset boulevard apparve un altro ribelle in blue jeans marlon brando marlon brando aveva molti punti in comune con lui la scontrosità il disprezzo per le donne normali e l'anticonformismo portava all'occhiello come un garofano una vena di follia leggende sgradevoli colorivano il suo personaggio che a 14 anni avesse dato fuoco a una casa dove si svolgeva una festa che a scuola scrivesse le lezioni sulla carta igienica per irritare il maestro che vivesse in un'auto rimessa senza cambiarsi mai i pantaloni naturalmente blue jeans fisicamente è vero non somigliava al suo recessore quella figura bassa e robusta non suggeriva la romantica malinconia di montgomery clift i suoi occhi piccoli avevano una brutale spavalderia se clift era stato l'eroe del dopoguerra brando fu l'eroe di un'epoca dominata dall'ossessione della cortina di ferro il giovane americano che si prepara ruggendo alla terza guerra mondiale anche egli evitava la gente non correva dietro le donne sosteneva di odiare il denaro hollywood è una grossa banca dove tutti cercano di fare quattrini ma io me ne frego sincero o impostore era un nevrotico andava dallo psicanalista frequentava i locali notturni dove vegeta la delinquenza minorile de los angeles una volta si era trovato coinvolto nella retata della polizia gli hollywoodiani lo detestavano per la sua villania ma hollywood rispetta chi non ha paura di hollywood si cominciò a scrivere con l'aria di crederci che le impennate di brando riflettevano l'ansia di una generazione il brando che ho conosciuto tuttavia non ha simili ansie ha abbandonato i blue jeans e se vestito di grigio con la camicia bianca che compra a roma e le di fav che compra a parigi è ingrassato è in falinchino quando saluta non respinge la pubblicità perché fa il produttore e ha bisogno che si parli di lui ha una moglie incinta e viaggia con molte valigie è d'animo delicatuccio e sensibile durante la conversazione entrò un ape dentro la stanza walter seltzer suo manager e socio in affari arrotolò un giornale e cercò di spiaccicarla perché non pungesse nessuno soprattutto marlon brando balzò in piedi addolorato come se seltzer stesse picchiando un neonato dolcemente spinse l'ape fuori dalla finestra e disse come il profeta elia al mondo c'è posto anche per lei il brando dell'ape è un brando che si interessa ai contorti problemi dell'onu sa tutto sul federalismo europeo dal 1950 ha messo da parte due milioni di dollari circa un miliardo e 300 milioni di lire terribile per uno che diceva di odiare il denaro fortunatamente il bureau of revenue provvede alla sua tranquillità spirituale crocifiggendolo con tasse micidiali sfortunatamente questa premura governativa non basta gli restano tanti quattrini che l'ex ribelle è costretto a impiegarli nell'acquisto di fattorie pozzi di petrolio e mucche a un'industria di formaggi la sua metamorfosi però è stata lunghissima e dolorosa risale all'epoca in cui gli dettero l'oscar per fronte del porto e si presentò alla cerimonia in smoking sbarbato di fresco e fece questo sensazionale discorso grazie molto grazie molto questo coso pesa più di quanto immaginassi io ho qualcosa da dire ma non lo ricordo mica però sono molto contento e penso che vi siano molte persone alle quali sono debitore per il raro privilegio che mi viene concesso questa sera ciao a tutti era il 1955 e un altro ribelle si aggirava per hollywood indossando i panni del suo personaggio in declino james dean anche dean non diceva niente di nuovo se in qualche modo mongomery cliff era vicino ai ragazzi bruciati di una società sconvolta dalla guerra dove tutto era possibile e dove imperava la solitudine se somigliava davvero a quei disperati che la letteratura americana ci ha presentato con diversi libri come che so io quel second ending di evan hunter tradotto in italia col titolo di aria chiusa e se brando ripeteva a modo suo certe manie di brutalità certe decadenze già rappresentate da il piccolo campo di caldwell o dalle tragedie di tennessee williams non a caso prima di entrare nel cinema era già famoso a broadway interpretando a dorso nudo il brutto di un tram che si chiama desiderio dean con la sua atteggiata disperazione con quei suoi nervi maciullati da un non si sa che tratteggiava il protagonista di un'equivoca decadenza ricevuta in america da costumi e abitudini europei assieme con le toilette di di or e di feth che avevano sconvolto la moda e il mercato degli stati uniti al neuralismo di rossellini tanto denigrato dagli intellettuali raffinati alle scarpe di ferragamo gran novità e tormento per i piedi femminili d'america ai bocchini britannici daniel de nicotel alle fuori serie inglesi e italiane all'esistenzialismo di marca parigina a sartre camu moravia al caffè espresso alle corbusier a stephen spender a eliot alle sedie lampade svedesi derivava da quella gran malattia che l'america se sempre buscata allorché manda soldati e turisti in europa dean era la sagan tradotta in americano l'adolescente pazzo per noia romantica più vicino all'europesissimo truman capote e a oscar wilde che ai personaggi contadineschi di piton place o ai giovani pazzi ma paesani che si riscontrano nei romanzi americani vivono a hollywood centinaia di james dean a cominciare da peter fray il ragazzo che un giorno mi odierà perché involontariamente lo aiutai a diventare un attore ma tra questi chi più di ogni altro sembra destinato a raccogliere l'eredità dei blue jeans è il 25enne di noccolato anthony perkins non è bello per esempio alla testa sproporzionatamente piccola in confronto al resto del corpo qualcuno ha scritto che su quelle spalle da lottatore la testolina di tony si rizza come quella di un rettile scontroso e timido quando gli si parla scalcia come un puledro pizzicato dalle mosche oppure dondola sui tacchi e nasconde la faccia appoggiando il mento allo stomaco come se temesse ad essere picchiato non riesce o non vuole farsi una ragazza lo chiamano the lonesomest man in hollywood l'uomo più solo di hollywood per molto tempo non ha avuto una casa abitava nel suo camerino alla paramount mi faceva pena vederlo arrivare la sera quando gli altri andavano via mi disse un poliziotto della paramount veniva col suo pacchetto di salsicce di uova se le cuoceva sopra un fornello per sciogliere la cera del trucco poi passeggiava fra gli studios e avevo sempre paura che picchiasse la testa nel muro io l'ho incontrato più volte mentre girava con la lauren desire under the helms aveva sempre quella faccia infelice e non parlava nessuno dopo il lavoro scappava nascosto dietro un paio di occhiali guardava torvo come se odiasse tutti ma non bisogna sottovalutarlo a modo suo rispecchia almeno sinora sembra rispecchiare un aspetto dell'america più seria come william holden per altro verso e come holden ha un rispetto grande per il proprio mestiere ed è modesto i blue jeans ricevuti da dean sono per lui una bandiera di battaglia non gli servono tanto per montare sulle moto dei selvaggi o finire nelle boate esistenzialiste quanto per combattere certo costume sembra che glieli abbia affidati tutta america perché li riconduca da quella uniforme di ribelli che erano diventati al vero scopo per cui furono sempre tagliati di coprire le gambe degli operai dei vaccari dei contadini così perkins piuttosto che derivare da dean lo combatte come perkins è rappresentativo di una reazione così un altro giovane forse ancor più popolare di lui e dean in persona certe tendenze genuine costui si veste d'oro pantaloni e giacca in lame d'oro scarpe in pelle d'oro cravatta tessuta con fili d'oro a 18 carati ma attenzione elvis presley così tanto idolatrato dalla gioventù americana è pericoloso non ha torto l'associazione maestri e genitori d'america ha detto di lui dovrebbe essere messo in prigione con la sua sciocca spavalderia egli influenza la delinquenza minorile in tutti i 49 stati d'america è un pessimo attore e non soffre complessi di persecuzione o di angoscia possiede nove automobili una casa palazzo con la piscina a forma di chitarra e il parco circondato da una cancellata forma di pentagramma un diamante sul quale ha fatto incidere le sue iniziali a ciò che può esige 200 mila dollari circa 130 milioni di lire per una trasmissione televisiva di 10 minuti e li danno l'unica cosa che non è riuscito ad avere è l'esonero dal servizio militare nonostante le suppliche inviate dai club elvis presley al ministero della guerra l'esercito americano lo ha tolto per ora di circolazione chiamandolo a fare il soldato quando ero a hollywood però elvis presley stava in borghese e siccome abitai un po all'hotel knickerbocker dove abitava anche lui potei farmi un'idea del tipo che è elvis presley ad esempio si muove solo scortato da una decina di ragazzacci che hanno l'esclusivo compito di annunciare il suo arrivo ai passanti i ragazzacci sono suoi stipendiati ecco ciò che vedevo al momento in cui elvis presley usciva dalla camera dirigendosi verso l'ascensore gli stipendiati correvano sull'hollywood boulevard che a 20 metri dal knickerbocker gridando arriva elvis presley oh arriva elvis presley subito dopo si riunivano un centinaio di stupide che senza ricevere nessuno stipendio gridavano quei ragazzacci arriva elvis presley attirando altre stupide fermo sulla porta del knickerbocker elvis presley aspettava che la folla ingrossasse poi allorché giudicava che lo spasimo dell'attesa avesse raggiunto il suo culmine saliva su un'automobile bianca e si dirigeva a passo duomo verso lo hollywood boulevard dinanzi alle stupide frenava fingendo stupore e sembrava dicesse ma guarda guarda come hanno fatto a indovinare che sarei passato di qui poi le sue labbra bocciolo si aprivano in un indulgente sorriso il suo sguardo acquoso diventava ancora più acquoso e firmava però non firmava con la penna firmava con il rossetto delle stupide non firmava su un pezzo di carta firmava sulle camicette sulle braccia sulle gambe e sulla faccia delle stupide infine quando i poliziotti accorrevano per regolare il traffico interrotto si allontanava con la tranquilla coscienza di una miliardaria che ha contribuito con cento lire alla soluzione del problema sociale non che sia sempre così organizzato come conclusi la sera in cui capitai al paramount theater un cinema dove si proiettava the tender trap film a colori protagonista elvis presley the tender trap era fuori programma vale a dire in antevisione senza preavviso stratagemma al quale i produttori ricorrono per saggiare il giudizio del pubblico sul cartellone c'era un western con kirk douglas e bart lancaster la sala era piena di giovani finì il western e sullo schermo apparve inaspettato il faccione color ocra di presley fu come lanciare una bomba le teenagers sbalzarono in piedi e tendendo le braccia verso lo schermo aggrappandosi al collo l'una dell'altra battendo i piedi per fermare l'eccitazione cominciarono ad alzare urla strazianti a buttare baci a implorare immaginarie carezze gridavano e piangevano piangevano e ridevano incapaci di controllarsi io sedevo accanto a una ragazza sui 16 anni bellina dall'aria educata durante il film western era rimasta buona buona sgranocchiar noccioline qualche volta mi era parso perfino di vederla appisolare ma quando elvis presley si mostrò per intero con la sua camicia nera da teppista i suoi pantalonacci senza piega con a tracolla la chitarra che non sa suonare la ragazza si aggrappò al mio braccio e farfugliò elvis elvis e svenne nessuno quindi si sentirebbe di negare a elvis presley il titolo di rubacuori sebbene confidential gli abbia rivolto le medesime accuse che rivolse a libris si è fidanzato almeno una dozzina di volte ha presentato queste fidanzate al babbo e alla mamma e tutti sanno che non le ha sposate per colpa di tom parker che è un omaccione sui 50 anni ex commerciante di patate e legumi auto elettosi colonnello perché a hollywood colonnelli e marchesi fanno sempre una certa impressione il colonnello parker conove elvis presley quando questo faceva il garzone di bottega nel tennessee fu sedotto da quelle labbra bocciolo e da quella chitarra lo lanciò come il ribelle del rock oggi gli fa da manager gli sceglie i contratti gli prepara lo zabaglione e gli allontana le donne il matrimonio mi disse tom parker nuocerebbe alla sua carriera di attore non sento odore di confetti finché elvis si fida di me sul suo volto rosa stranamente privo di barba vedevo un ambiguo sorriso e sin qui presley assomiglia in un certo modo e con le dovute proporzioni a certi idoli nostrani ma la somiglianza finisce laddove le adolescenti che sembrano stupide decitabili allo stesso modo in tutti i paesi del mondo fanno sgribizzi in loro onore i nostri cantanti di successo sono di solito poveracci ex impiegati statali o dattilografe che hanno ancora attorno il vago puzzo di cavoli dei casamenti popolari dove sono nati bonaccioni e semplici credono di essere personaggi importanti e raffinati appena un settimanale a rotocalco pubblica le fotografie della loro mobilia e stoviglie faciloni e casalinghi anche quando cercano di darsi un po di tono pilotando una macchina americana o una fuori serie frequentando gli ippodromi indossando abiti da sera rispecchiano fino all'ultimo sospiro delle canzoni le loro origini modeste i nostri circoli dopolavoristici e acristici le nostre parrocchie le nostre miserie nazionali donde sono cresciuti circondati dalla stima dei garzoni dei parrucchieri e dall'ammirazione delle commesse della rinascente di motta rimangono sempre personaggi vaghi e innocui non così presley che come ho detto è pericoloso e non perché promuova tanti isterismi anche sinatra faceva svenire le ragazzine ai suoi bei tempi o perché si circondi di teppisti ma perché è genuino non soffre né di timidezze né di confusioni spirituali come quei gangster che hanno raggiunto popolarità ricchezza stand up fra la migliore società presley sfoggia una sicurezza e un sangue freddo eccezionali e si comporta sempre come se tutto gli fosse dovuto ma che sia un prodotto della peggior società americana lo si capisce a sentire la sua voce a vedere i suoi gesti a guardare come veste a rimirare quel volto simile tragicamente a quelli che figurano nei casellari della polizia è nato teppista e teppista è rimasto canta sagita balla e vive come il giovane bullo della teppa e con il potere non soltanto materiale che gode ma soprattutto di suggestione egli ci fa paura è genuino e pericoloso come la cronaca nera d'america la più sanguinosa e orrenda perché la più freddamente pazza di tutti i paesi quella voglia di mortificare le ammiratrici stupide che si lasciano fare ogni dispetto come fosse segno di riconoscimento o elogio dal loro idolo sembra l'ombra riflessa di molto sadismo di molta crudeltà che si riscontrano in omicidi e delitti americani e questi non sono altro che il rovescio della medaglia ad una civiltà tanto moderna e tanto feroce da travolgere ogni freno e limite umano che progetta la vita artificiale mentre tiene la morte in ghiacciaia conclusione capitolo primo tutti a hollywood mi domandavano se fossi stata a parlare con re perché gli uomini che fanno la storia di hollywood dicevano non sono i divi o i tipi come elvis presley ma gli uomini che assomigliano al re stupiti che il colloquio non fosse ancora avvenuto mi domandavano quante volte avessi visto i dieci comandamenti lo spettacolo per cui da due anni l'america intera impazzisce indignati che non sapessi nulla del film mi voltavano bruscamente le spalle allora una mattina chiesi di parlare con re il re fu contento e rispose attraverso un funzionario che mi avrebbe ricevuto l'indomani alle due e mezzo nel suo quartier generale il funzionario era un giovanotto pallido ed eccitato mi portò la notizia aggiungendo per il mio bene molti consigli anzitutto mi raccomandò di arrivare con mezz'ora di anticipo il re non poteva aspettare poi mi ordinò di abbigliarmi severamente come si conviene a un incontro solenne infine mi disse di non preparare domande impudenti fu così che vestita di nero priva di trucco e vagamente impaurita mi ricai al quartier generale del re che si trova al numero 5451 di marathon street dentro le mura della paramount la strada per arrivare al re è lunga e difficile il primo problema consiste nel superare l'entrata principale degli studios dove le pareti sono ancora coperte dai fotogrammi dei dieci comandamenti e un poliziotto accigliato come quelli che interrogano gli stranieri sospetti a ellis island rivolge una quantità di domande indiscrete il mio poliziotto era particolarmente cattivo volle sapere come mi chiamavo quanti anni avevo da dove venivo che cosa volevo mi feci aspettare moltissimo telefonò a tre o quattro persone per controllare se ero davvero attesa da re e soltanto dopo avermi fatta sentire colpevole di reati niente affatto commessi mi permise di salire fino all'ufficio del signor shell horn uno con i baffi che si occupa di pubblicità il signor shell horn era molto cordiale senza togliere i piedi dal tavolo mi spiegò che i dieci comandamenti era il film più importante della storia del cinema e mi sentì subito un poco nervosa perché non l'avevo visto il signor shell horn mi pregò di passare nell'ufficio di rose goldstein che mi avrebbe accompagnata dalla persona che mi avrebbe accompagnata dal re bionda e gentile rose goldstein soffriva per il caldo che d'estate a hollywood provoca molti morti per asfissia e colpi di sole e non poteva far troppi discorsi si limitò a dire che uomo che film e questa frase mi rese nervosa ancora di più infatti neppure a lei mi riuscì di confessare che non avevo visto quel capolavoro in silenzio scendemmo le scale attraversammo i viali della paramount dove ogni poliziotto mi fissava con occhi nemici chiedendo a rose goldstein chi ero e che cosa volevo poi ci dirigemmo al quartier generale del re un casotto staccato dal grande edificio della paramount pur facendo parte della paramount nel corridoio di questo casotto tappezzato con i fotogrammi dei film girati da re in 45 anni di regno mi aspettava endel valle funzionaria del re endel valle è simpatica e sbrigativa telefonò subito a una ragazza che telefonò a un'altra ragazza per informare la segretaria del re che ci consideravamo a sua disposizione mi offrì una coca cola molto ghiacciata mi chiese se fossi emozionata all'idea di incontrarmi con re e mi domandò inesorabile un giudizio sul film risposi indiottendo la coca cola che lo consideravo un ottimo film senza dubbio il film migliore fatto dal re il che mi rese definitivamente nervosa come avere fatto per dire al re la menzogna forse era meglio andare a vedere questo dannatissimo film e poi parlare con re mi alzai per fuggire in quel momento la segretaria del re chiamò un'altra segretaria che morose goldstein che chiamò endel valle e così sapemmo senza tanta burocrazia che il re ci aspettava seduto a un tavolo ingombro di fogli dattiloscritti di libri di matite spade egiziane crocifissi inghiottito in un bosco di bandiere diplomi manifesti onoreficenze immagini bibliche ritratti di santi e di faraoni il re pregava stando sull'uscio si poteva vedere soltanto il suo cranio lucido e abbronzato con due ciuffetti bianchi alle tempie come le alucce di un angelo e le spalle curve le mani minuscole che sfogliavano con cauta dolcezza le pagine dell'antico testamento un brusio leggero gli usciva dalle invisibili labbra leggeva un capitolo della genesi tradotto in inglese and behold the glory of the lord was upon moses so that moses stood in the presence of god and talked to him face to face and the lord god said unto moses and del valle e rose goldstein stavano immobili imponendomi con gli occhi di tacere ma dissi ssss fece ann in un soffio ssss fece rose mostrandomi i denti il re non sembrava avvertire la nostra presenza poi improvvisamente si alzò ci aveva visto benissimo nonostante pregasse con agile balzo ci venne davanti e disse hello sorrise e io potei finalmente vedere quel potente semidio che chiamano il re e anche mister hollywood mister cinematografo mister padrone il genio il grande il venerabile gentiluomo irrispettabile vecchio o più semplicemente cecil blount de mille era uno minor curvo vestito di blu il volto cotto dal sole col gran naso nobile le guance cadenti aveva un'espressione buona e ironica gli occhietti azzurri protetti da occhiali montati secondo la moda di 50 anni fa scurtavano con indulgente attenzione avevano l'aria di vedere ogni cosa anche troppo ma un'immensa dolcezza emanava da lui cara disse cara come siamo felici di averla fra noi poi mi supplicò di sedere perché non mi biancassi con affetto mi chiese notizie dei miei familiari come se li conoscesse benissimo e fosse ansioso di rivederli con rimpianto si congratulò per la mia insolente giovinezza poi pregò rose e n di accomodarsi sul divano di fronte e consigliò a ciascuna di loro un pacco di fogli e una matita il compito di n e di rose era quello di scrivere quanto avrei chiesto e quel che il re avrebbe risposto per evitare in seguito contestazioni e querele non ebbero molto da scrivere prima che aprissi bocca de mille si chinò insinuante verso di me e scurtandomi con gli occhietti indulgenti mi disse la prima domanda la faccio io mi parli del mio ultimo film ci fu un lungo insopportabile imbarazzante silenzio de mille aspettava col suo dolce sorriso sulle labbra abbronzate en aspettava rose aspettava e io tacevo mi dica mi dica ripeteva de mille avvicinandosi sempre di più come se parlassi a voce bassissima e lui fosse corto d'udito coraggio bambina no a re non si poteva mentire e penosamente inghiottì la mia disperazione supplichevolmente lo guardai io non ho visto il suo film signore se gli avessi detto che il film era orrendo la reazione non sarebbe stata più forte di colpo il sorriso del re divenne una smorfia e il re balzò in piedi con una vigoria d'adolescente tonando non ha ancora visto il mio film sta a hollywood e non ha ancora visto il mio film sembrava davvero sconvolto balbettai qualche spiegazione meschina che ero arrivata la notte precedente anzi ero scesa dall'aereo da pochissime ore ma ogni scusa sembrava inutile rose mi guardava con indignazione en con doloroso stupore inchiodata la mia responsabilità subivo il martirio e allora il re che è clemente come tutti i monarchi ebbe pietà cara disse accarezzandomi con la mano liscia una guancia vada a vedere il mio film e poi riprenderemo il discorso alzò il ricevitore del telefono e un biglietto per il beverly wilshir theater con prenotazione a mio nome per stasera alle 8 intesi e sia puntuale intesi e domani alle 2 ritorna da me intesi oh no non si sfugge ai comandamenti del re alle 8 io ero al beverly wilshir a vedere i dieci comandamenti di cecile de mille accanto a una monaca a un prete e a due che si toccavano il piede quattro ore e un quarto durava la proiezione e quattro ore e un quarto senza fumare perché nei cinema di hollywood è proibito rimasi con gli occhi fissi sullo schermo a colori dovetti seguire l'epopea di mosè dal momento in cui lo mettono dentro una culla di vimini al momento in cui vecchio e stanco si avvia a morire e tutti sanno quanto visse mosè dovetti udire perfino la voce del signore che parlava in inglese mentre il prete e la monaca si segnavano e i due innamorati rabbrividivano senza toccarsi più il piede e l'indomani alle 2 ero nuovamente dal re vestita di nero per subire il suo esame sapevo che non mi avrebbe risparmiato e infatti non mi risparmiò mi interrogò con la stessa crudeltà dei professori alla maturità liceale poi quando ebbe finito e l'ebbi convinto che avevo visto davvero il suo film chiese ansioso se mi fosse piaciuto non riuscì a deluderlo gli dissi di sì e stupita vedi i suoi occhi riempirsi di lacrime oh grazie balbettò grazie grazie era tanto felice che il suo film mi fosse piaciuto che a un tratto gli perdonai tutto quello che mi aveva fatto soffrire sentivo per lui una sorta di tenerezza e di agghiacciante rispetto improvvisamente capivo perché lo chiamassero il re e che non c'era ironia in questo titolo assai meritato un numero incalcolabile di nemici ha detto più d'una volta a de mille di legarsi una pietra al collo e di buttarsi a mare e a un numero incalcolabile di nemici de mille ha risposto con la bibbia in mano che volentieri avrebbe loro regalato un fucile il giorno in cui avessero deciso di farsi saltare il cervello oltre mezza popolazione del globo terrestre ha visto i suoi film e nessun critico gli ha mai dedicato una lode è l'unico personaggio di hollywood che non abbia mai avuto un oscar e a chi glielo ricorda de mille risponde ho vinto l'oscar del box office ogni volta che ricevo un insulto le lacrime dei miei spettatori aumentano del 10 per cento i suoi film possono piacere o dispiacere ma nessuno può negare che egli occupi un posto definitivo nella storia di hollywood e del cinema stesso la storia di de mille di hollywood comincia praticamente nel 1912 a un tavolo del claridge hotel di new york a quel tempo hollywood aveva nove anni ed è 1032 nell'una nell'altro disponevano di un briciolo di popolarità all'inizio del secolo la produzione cinematografica si svolgeva tutta a new york dove la motion picture patents esercitava il monopolio delle macchine da presa e delle pellicole facendo bastonare da squadre di gangster chi pretendeva di produrre un film da sé il soborgo californiano che la signora deida wilcox aveva chiamato hollywood cominciava soltanto allora ad arricchirsi di qualche negozio e di qualche strada nessun cinematografaro sospettava che il suo ranch fosse adatto a girarci i film l'unico a ribellarsi alle bastonate dei gangster e che si fosse recato a los angeles era david w griffith che aveva girato il conte di monte cristo in una soffitta della città in georgia street cecile blande mille discendente da nobile famiglia olandese emigrata in america nel 1658 era un commediografo come il padre la sua commedia più importante cheer up era però stata un fiasco sognava dunque di cambiare mestiere e un giorno andò a mangiare al claridge hotel dove incontrò un amico jesse j lesky ex sassofonista divenuto direttore delle folie bergera new york anche laschi era nei guai le folie berger avevano chiuso i due stavano compiangendosi a vicenda quando sopraggiunse il cognato di laschi samuel goldfish 26enne fabbricante di guanti sono rovinato disse goldfish la mia fabbrica di guanti è fallita che coincidenza disse educatamente de mille siamo falliti anche noi bisogna fare qualcosa disse laschi perché non ci mettiamo nel cinema disse goldfish quasi scherzando proviamo disse laschi va bene disse de mille erano tempi eroici lo si capisce bene detto fatto i tre misero insieme 25 mila dollari e fondarono la laschi feature play company con de mille direttore goldfish presidente goldfish mutò per l'occasione il suo nome assumendo quello di goldwin poi affittarono alcune macchine da presa alla motion picture patents dissero torniamo subito andiamo a fare un giretto e scapparono all'ovest con il bottino let us go to west andiamo all'ovest fu il grido di de mille destinato a diventare uno slogan l'ovest era l'unica regione d'america dove gli indipendenti potessero produrre film sottraendosi al gioco della motion picture patents certo nessuno dei tre si era comportato molto bene con la motion picture patents le macchine da presa valevano un patrimonio ma quei filibustieri dice de mille si meritavano qualcosa di peggio de mille aveva fatto bene i suoi calcoli per andare all'ovest ci volevano giorni di treno la malavita non era organizzata in america come oggi che basta fare un telegramma per raggiungere un traditore e dargli una lezioncina i gangster di new york non avrebbero certo pensato di inseguire i tre giovanotti nella motion picture patents poteva illudersi di sequestrare le macchine praticamente rubate laschi goldwin e de mille fecero il viaggio con animo sgombro l'idea di de mille era fermarsi nell'arrizona sufficientemente lontana da new york e sufficientemente assolata ma quando il treno giunse nella stazione di flagstaff de mille notò con sgomento che la vallata era immersa in una nube di pioggia ci fu un breve consulto poi i tre decisero di continuare il viaggio fino a quando non avrebbero trovato un bel sole lo trovarono quando più in là non potevano andare perché oltre la fermata del treno c'era la spiaggia e poi il mare erano arrivati a los angeles de mille laschi e goldwin scaricarono le macchine buttarono in aria i cappelli a los angeles non c'era solo un tempo eccellente c'era un paesaggio che sembrava inventato per loro mare laghi colline boschi deserti e soprattutto spazio a disposizione fecero un giretto alla periferia ebbero un'altra gradita sorpresa in un soborgo chiamato hollywood i contadini cedevano le stalle per nulla una signora con la faccia cotta dal vento e l'abito a scacchi cedeva la stalla delle sue mucche che erano morte si chiamava deida wilcox i tre giovanotti andarono da lei e ne ebbero quasi paura parlava sgranando il rosario deida wilcox sembrava un po sospettosa ma disse che per cento dollari avrebbe ceduto anche il granaio laschi gliene dette 200 e prese stalla e granaio e fu qui che de mille girò il suo primo film che fu anche il primo film della storia di hollywood the school man il signore mi ispirò dice de mille prima di allora non avevo mai fatto il regista non sapevo nemmeno che cosa significasse maneggiare una pellicola the school man fu venduto per centomila dollari ebbe un successo imprevisto e i tre avventurieri ormai carichi di quattrini si misero in società con adolf zucker nacque così la famous players corporation che in seguito si sarebbe chiamata paramount il resto è cinema mentre il pacifico villaggio della signora wilcox si affollava di ballerine registi filibustieri modelle gente lanciata nella nuova corsa allora cresceva la fama di hollywood e cresceva la fama di de mille l'ex dramaturgo fallito aveva preso un gran gusto a girare film sembrava animato da una specie di furia spesso lavorava a un film di giorno e ad un altro di notte si vantava di straordinarie invenzioni fu il primo a usare il megafono quello strumento senza il quale un regista sembra che non sappia fare il regista fu il primo a a ottenere effetti speciali di luci e di ombre illuminando ad esempio metà faccia di un attore per ottenerne un'espressione sinistra fu il primo a usare la macchina da presa col suono applicato il primo che usò il colore il primo che girò due volte la medesima scena in modo di avere una pellicola di riserva il primo che portò sugli schermi un soggetto religioso questo accadde con la prima edizione dei dieci comandamenti del 1923 ma scalzone ci rovinerai telegrafò da new york il furibondo sam godwin i dieci comandamenti invece inaugurò il chinese theater e tenne il cartellone per otto mesi tre anni dopo de mille girava una storia di cristo il re dei re e questo tenne il cartellone per 28 mesi ininterrotti poi fu la volta del segno della croce dice de mille la bibbia resta la migliore fonte di soggetti per i film non ho mai visto un film religioso che non fosse un successo di cassetta aveva scoperto la formula migliore per far presa sul pubblico il cocktail sesso religione il sesso e la religione diceva sono le grandi molle che reggono il mondo il sesso solletica i loro istinti peggiori la religione pulisce la loro coscienza non possono fare a meno né dell'uno né dell'altro era una formula abbastanza semplice e a suo modo geniale sullo sfondo biblico e il messaggio per l'umanità de mille sistemava disinfoltamente una storia d'amore condita di baci e abbracci tra un bel giovanotto e una bella ragazza ciò bastava ad assicurargli il box office infatti non sbagliò commercialmente parlando nemmeno uno dei suoi celebri film l'unico che andò meno bene i crociati si meritò la sentenza di zachor il re è morto viva il re de mille vestì i crociati da indiani trasportò l'azione dalla palestina al far west cambiò il titolo con quello di the plains man e si riprese i quattrini e lo scettro lo fece badate bene con animo candido de mille è l'uomo più religioso di hollywood e per nulla al mondo vorrebbe apparire blasfemo gli sciocchi mi accusano di sfruttare il triangolo lui lei l'altro anche nei sacri testi dice de mille che colpa ne ho io se anche tremila anni fa la gente si faceva le corna del resto la bibbia parla chiaro e spiega che non si nasce dai funghi è difficile prendere de mille in castagna per ogni accusa egli ha una risposta appropriata quando gli rimproverano di sfruttare troppo la bibbia dichiara racconto la bibbia attraverso le immagini mentre i sacerdoti la raccontano con le parole il mio è un modo come un altro per pregare il signore da questa stravagante preghiera de mille guadagna vantaggi molto terreni è uno dei miliardari più miliardari di hollywood nessuno è più bravo di lui nell'accumulare quattrini perché ha un sistema che non fallisce mai spendere dollari e risparmiare centesimi egli è capace di sprecare cifre ciclopiche per procurarsi a gerusalemme le spine necessarie a fabbricare la corona di cristo ma non pagherà mai mezzo dollaro in più per i sandali di una comparsa sì che tutti conoscono la storia delle patate che de mille acquistò dal governo per nutrire i cervi del suo ranch paradiso le patate erano chiuse in sacchi buonissimi di ottima tela de mille mise da parte i sacchi li rivendette a 7 cents l'uno e non solo le patate gli vennero gratis ma ricavò un guadagno di 2 cents a ogni sacco è anche questa una prova di ingegno e l'ingegno in un uomo come de mille non esclude i peccati veniali gli piace ad esempio vestirsi da regista stivali di cuoio frustino nella destra e megafono nella sinistra gli piace farsi seguire da un assistente con la seggiola per riposarsi ogni volta che lo crede opportuno mitissimo nella vita privata gli piace fare il tiranno gli piace fare lo smemorato civeteria che ostenta per dimostrare che il suo cervello è sempre occupato in faccende importanti così non ricorda mai i nomi e tutti gli attori si chiamano per lui joe mcbrown o mary smith spesso sostiene di non ricordare nemmeno i nomi dei suoi familiari come quando non sapeva come chiamare il protagonista di un suo film anthony queen che è marito di sua figlia katherine quello là come si chiama quello là urlava de mille gli assistenti non capivano ma sì mio genero come si chiama mio genero anthony queen signore risposerò in coro grazie tenetelo bene a memoria però adora la famiglia che dirige con autorità patriarcale sposato da 55 anni con una ex attrice di teatro constance adams de mille è davvero uno dei pochi uomini a hollywood che non riconoscono il divorzio ha quattro figli di cui tre adottati 12 nipoti due bisnipoti e l'intera dinastia abita nella sua casa di loathen park sulle colline di hollywood in cima a una strada che porta il suo nome de mille drive la casa è circondata da un parco non ha la piscina né il campo da tennis e quando è lì il passatempo del re consiste nel coltivare pomodori e pregare il signore dorme con la bibbia in mano e la matita dietro l'orecchio per prendere appunti sopra un versetto nel caso che nel sonno gli venga l'ispirazione le spie di confidential si affaticherebbero in vano a cercare uno scandalo nella sua vita a parte i 77 anni è più casto di un certosino l'unico suo peccato è di andare qualche volta al cinema a vedere i dieci comandamenti capitolo secondo l'odiato super uomo era meno facile da accostare del re perché è più potente dovetti fissare con un mese e una settimana di anticipo l'appuntamento con lui e debbi fortuna a volte aspettano un anno per dirgli soltanto come va ma poi il gran giorno arrivò e la porta del suo ufficio si aprì e quasi spinto da una ventata irruppe con tutto il suo metro e novanta di altezza le sue 182 libri di muscoli senza un oncia di grasso dichiara le sue decine di milioni di dollari e la sua gloria di produttore più stimato e temuto di hollywood indossava un paio di pantaloni senza piega e una giacchetta che giurerei s'era messa un attimo prima imprecando di collera la camicia aperta sul collo taurino era senza cravatta i capelli biondo castani ispidi e corti sembravano tagliati con le forbici di un calzolaio non dimostrava i 44 anni che ha si muoveva a scatti con l'agilità di un professore di ginnastica al quale si potrebbe paragonare se l'espressione del volto non fosse quella di un capo di azienda oppresso da gravi responsabilità l'odiato super uomo ha infatti la fronte sempre aggrottata porta gli occhiali a stanghetta attraverso i quali lo sguardo azzurro filtra con inesorabile freddezza sorride di un sorriso che è piuttosto un modo di scostare le labbra quasi facesse esaminare da un dentista i canini e gli incisivi che ha larghi lunghi candidi come la tastiera di un pianoforte e giustificano la battuta che mi piace tanto se bart tenesse un candelabro in mano liberis potrebbe suonare su quei denti una canzone l'odiato super uomo è bart lancaster all'inferno hollywood esplose bart lancaster avanzando verso di me e istintivamente feci un salto all'indietro tutti dicono che è violento selvaggio e attacca brighe piglia cazzotti per un non nulla invece era il suo modo per scusarsi di avermi fatto aspettare tanto tempo costringendomi a rimandare una partenza agognata la sua intervista era l'ultima ne avevo di hollywood fin sopra i capelli ora possiamo finalmente discutere disse stringendomi conciliante la mano e la strinse con tanta effusione che ancora oggi a pensarci il braccio mi scricchiola ma aveva appena finito la frase che un segretario impaurito gli annunciò una chiamata da londra bart soffiò come un mantice poi all'inferno londra disse e con le dita nodose strappò il telefono dalle fragili mani del segretario hello hello razza di idiota perché mi chiami quest'ora vuole il 30 per cento carogna mi dica grazie in ginocchio se gli do la metà non riesce a trovarlo arrangiati fra una settimana lo voglio qui vivo o morto vivo o morto capisci i signori di washington hanno detto di no piccioncini vedremo chi riesce a spuntarla ma sì domani sono a madrid ci starò appena tre ore a chicago mi aspettano intanto informa parigi che organizzino il lancio no deficiente se scrivi un aggettivo come fantastico straordinario o colossale ti torco il collo come un cappone non voglio frasi pompose capito qualcosa di intelligente che sottolinei la nostra reputazione di solidità gettò il telefono rischiando di romperlo detto a un telegramma firmò venti lettere ordinò due tazze di caffellatte lei beve il caffellatte no io invece sì il whisky fa male si buttò a sedere sul divano di pelle pregiata l'ho comprato nel marocco accavallò le lunghissime gambe e cominciò a martellarmi di cifre mi fanno ridere quando parlano di crisi dell'industria cinematografica io ho fatto 13 film e non ne ho sbagliato uno solo prendiamo marty su su mi dia la matita il tacquino lo sa quanto mi è costato 330 mila dollari lo sa quanto ha fruttato 4 milioni e mezzo di dollari certo marty è un'eccezione quel che si dice una ciambella col buco ma prendiamo trapezio bart mi dico questo è un film che ci devi spendere su sì che parto e ci spendo 3 milioni di dollari bene lo sai quanto mi frutta 16 milioni di dollari ma prendiamo un esempio più vecchio apache mi costa un milione centomila dollari sai e dimmi quanto mi frutta 4 milioni di dollari ora prendiamo vera cruz bene lì i soldi non ce li metto tutti da me c'era gary cooper e altra gente nella faccenda ma ci metto poco più di un milione e lo sai quanto mi frutta 8 milioni di dollari insomma se faccio un calcolo degli ultimi film e non conto la ciambella col buco vedo che ho speso 8 milioni di dollari ho guadagnato 40 milioni di dollari e lo sai perché bella mia perché ecco i miei film sono buoni fatti da gente giovane che lavora sul serio non era il divo bart lancaster a fare quei calcoli né il magnifico brutto per cui una celebre attrice europea varcò speranzosa all'atlantico era il produttore indipendente bart lancaster padrone e fondatore della hatch hill lancaster company con sede a 202 di north cannon drive in beverly hills e succursali a new york londra parigi il robespierre di una rivoluzione che da qualche anno sta mutando il volto di hollywood ormai il cinema americano non appartiene più a personaggi come adolf zack or jesse lusky william fox sam goldwyn marcus love e nemmeno ai mitici vecchi come cecile de mille appartiene ai produttori indipendenti come bart lancaster che spavaldamente costruiscono la loro fortuna sulle rovine di un impero caduto l'epoca dei grandi studios è finita gli studios esistono ancora magari funzionano ma non hanno più l'esclusiva nella produzione dei film nei teatri di posa della metro goldwyn mayer che un tempo simbolizzava la potenza finanziaria di hollywood oggi girano soprattutto i documentari della televisione di rado un film i capannoni sono vuoti le parrucche i vestiti che un tempo non bastavano mai ora pensolano impolverati sugli scenari ammuffiti crescono le ragnatele gli attori lasciano insolentemente cadere i contratti la warner brothers che prima ne aveva alle dipendenze 70 oggi ne ha una trentina la paramount che ne aveva 55 oggi ne ha 8 la columbia che ne aveva 50 oggi ne ha 19 i gloriosi pionieri che un tempo governavano le sorti dei divi si mettono a uno a uno a riposo carichi di delusioni è di moda produrre film ribellandosi all'egemonia delle antiche case produttrici certo henry khan il padrone della columbia conta ancora moltissimo e tutti tremano a vederlo dietro la sua scrivania mentre con la grinta di un gangster si fa fare la barba mangia un panino e risponde a due telefonate tenendo un ricevitore a un orecchio e uno all'altro e da ordini secchi come fucilate certo howard hughes è ancora potente nella sua invisibile poltrona di padrone della 20 century fox e nessuno può avvicinarlo tanto è potente né chiamarlo al telefono è lui che chiama se vuole e solo attraverso il suo ufficio al numero 7000 di roman street dove in 16 anni non ha mai messo piede e dove lavorano solo mormoni che per la loro religione non bevono non fumano non dicono bugie aprono bocca solo se è indispensabile ma se dovessi dire chi è oggi l'uomo più autorevole e rappresentativo di hollywood non sceglierei cecile de mille né henry khan né howard hughes sceglierei bart lancaster l'ex acrobata dalla testa piena di numeri e di idee temerarie l'attore che non ha mai studiato recitazione il produttore che non ha mai sentito parlare di scienze economiche che in dieci anni ha costruito l'industria da cui è sfociata la rivolta delle star la sua storia è sconcertante prima di venire a hollywood l'unico contributo fornito da bart lancaster all'industria dello spettacolo fu quello di stare a capo all'ingiù su un trampolino sospeso a 25 metri da terra bart lavorava in un circo figlio di un postino di brooklyn di origine irlandese scolaro senza diligenza tutto quello che riuscì a conquistare dopo anni di inutile studio fu un diploma di maestro in ginnastica e una medaglia al campionato di basketball in seguito fu camionista e giocoliere gli piaceva fare il vagabondo e dare prova di audacia credette di toccare la luna quando in coppia con un trapezista alto 140 centimetri nick cravat cominciò a esibirsi a capo all'ingiù su quel trampolino a quel tempo nessuno sospettava che la testa gli servisse anche per ragionare credevano che gli servisse soltanto per tenerci in bilico le sue 182 libre di muscoli bart infatti parlava pochissimo tutto il suo vocabolario era ridotto alle espressioni alle e opla guadagnava tre dollari la settimana aveva una moglie trapezista june ernst da cui divorziò che parlava e guadagnava meno di lui nel 1941 bart si ruppe una mano facendo il triplice salto mortale allora cambiò mestiere e divenne commesso in un negozio di biancheria da signora chi lo conobbe commesso sostiene che si comportava con le clienti come un venditore ambulante in un harem smerciava mutandine e reggiseni imbarazzandole con una strizzatina dell'occhio sinistro poi fu richiamato alle armi fece la guerra come sergente in francia e in italia era un sergente arrogante e senza disciplina ogni tanto scappava per visitare luoghi più allegri delle caserme ma una volta scappò a monte catini entrò in un teatro e vi conobbe una donna per bene così la sposò si chiamava norma anderson era vedova americana graziosa e le nozze che avvennero a pisa rappresentarono una svolta decisiva nella vita di part finita la guerra egli seguì la moglie a new york lei lavorava nell'ufficio della paramount in times square e qui lo scoprì un agente teatrale successe in ascensore vado a trovare norma e vedo che un tale mi fissa sai uno di quei tali che bazzicano a broadway e lasciano la carta da visita promettendo montagne all'undicesimo piano si gratta la zucca e mi chiede se vorrei lavorare per lui in una commedia al ventesimo piano ci penso al trentesimo mi gratto la zucca anch'io e rispondo che è un modo come un altro per fare quattrini così divenni un attore la commedia era a sound of hunting bart vi recitava la parte di un sergente scontroso e violento se stesso rimase poco sul cartellone perché era una brutta commedia ma quando la truppo fu licenziata quelli di hollywood avevano notato lancaster io non volevo andare a hollywood dice lancaster recitare non fu mai il mio sogno ci andai perché non avevo quattrini e soffri come un cane perché la mia donna restava a new york ma dissi a me stesso bart caro hollywood non ti avrà mai infatti non lo ebbe mai bart girava per il sunset boulevard coi capelli ispidi e corti come le spine di un cactus gli abiti sudici la barba lunga litigava con tutti disse a importanti columnist che li considerava dei fessi a una celebre star che non sapeva leggere nemmeno una poesia a un produttore carico di sussiego che i suoi film erano porcherie a edda hopper che la risparmiava perché somigliava tanto a sua nonna la frase who is that bam chi è quel disgraziato lo seguiva dovunque non aveva davvero paura di hollywood l'unico col quale si trovasse a suo agio era harold hackt un press agent senza clienti hackt aveva capito che la crisi di hollywood era vicina la tv rubava milioni di spettatori e la gente andava al cinema sempre meno senti gli disse hackt non legarti a nessuno restiamo insieme fra cinque anni produrremo da noi i nostri film sanzionarono il patto stringendosi semplicemente la mano niente carta da bollo poco dopo mark hellinger offrì a lancaster di recitare nel film the killers tratto da un racconto di hemingway a fianco di una stellina che si chiamava ava garner la parte era quella di un boxer tonto e feroce e che gli rispondo chiese lancaster a harold hackt cerca di avere la parte a ogni costo devi sfondare come prima di fabbricare i tuoi film gli rispose harold hackt bart andò a colazione con mark hellinger e fece di tutto per convincerlo che la parte gli si adattava a misura per un'ora infatti il produttore parlò del film e per un'ora bart tacque senza espressione solo al caffè borbottò suppongo che sia un discreto soggetto chi è questo hemingway raccontava hellinger che ora è morto credevo che fosse proprio un cretino perciò lo scritturai bart lancaster divenne con the killers una star overnight dopo il debutto non fece mai un film dove non sostenesse la parte di protagonista hackt guidava bene il suo amico dopo due anni bart aveva già guadagnato un quarto di milione di dollari e fondava da indipendente la norma productions disse bart bevendo il suo caffè latte ora ti dico come sono andate le cose perché non si capisce il successo di bart lancaster se non si capisce il fenomeno che lo ha determinato finita la guerra il cinema americano era in crisi dire male del cinema era diventato uno chic venivano dall'europa i film neorealistici e la gente restava impressionata e il primo colpo di fucile fu sparato dalla tv gli studios non ne furono colpiti a morte ma la ferita fu grave porcheria per porcheria la gente preferiva restare in casa a vedere gli spettacoli gratis piuttosto che spendere in una sala di proiezione e poi sai alla tv lavoravano attori capaci gente come ida lupino loretta young lucille ball joseph cotton louis jordan jack parlance edmund o'brien david neven and sheridan dick powell così gli studios producevano sempre meno film e chiedevano sempre più quattrini alle banche e per ottenere i quattrini dalle banche lo sai come facevano i dannati si servivano dei nomi degli attori e dei registi che da soli fanno il successo di un film questo film lo fa bart lancaster potete essere certi signori della banca che riavrete i quattrini allora io e act si fece un discorso se gli altri adoperano i nostri nomi per avere un prestito perché non possiamo adoperare da noi i nostri nomi per avere il medesimo prestito noi avevamo idee nuove si voleva ad esempio girare in modo realistico anziché nei teatri di posa se devi girare una scena in una piantagione di canne da zucchero che bisogno hai di ricostruire in un teatro la piantagione di canna da zucchero vai in una piantagione di canna da zucchero no a questo modo si fece the flame and the arrow e andò bene si fece il costaro dell'isola verde e andò bene intendiamoci a quel tempo sera semi indipendenti una compagnia cinematografica mica si inventa da un giorno all'altro sai ma con vera cruz si era già indipendenti e potei levarmi la voglia di girare un film come regista the kentakian bella mia che rabbia si presero i padroncini di hollywood quando feci la domanda di ammissione al sindacato registi me la spedirono indietro dicendo di non provarci mai più e lo sai cosa feci lo diressi lo stesso senza la tessera del sindacato e poi act vide alla televisione quella commedia marty era un soggetto umano e in quel momento avevamo pochi soldi da spendere così io prendo caratteristi come betsy blair e borg nine e un regista della tv che è bravo ma nessuno lo conosce e faccio marty mentre i padroncini mi guardano col sopracciglio rialzato ma lo abbassarono sai marty fu il primo film americano che vinse il festival di kent dopo la guerra fu anche il film che consacrò la fama di lancaster come produttore presto la norma productions raddoppiò le azioni e si arricchì di un terzo uomo james hill ex soggettista della mgm e marito di rita hayworth si formò il triunvirato act hill lancaster ormai posso permettermi di scritturare gli ingegni migliori del mondo disse lancaster e non sono il solo ormai hollywood è una terra di indipendenti da quel momento hollywood prese a odiare l'ex acrobata e a chiamarlo he man che vuol dire pressa poco il super uomo hollywood poteva permettergli di essere ancora maleducato di non farsi fotografare in smoking perché si vergogna indossare lo smoking di non andare alla messa della domenica di non avere uno psicanalista di dire io non vado nei night club il mio divertimento preferito è fabbricare bambini infatti ne ha cinque gli sembrano pochi poteva sopportare perfino che abitasse con una tribù di parenti in una casa dove la stanza più importante è la cucina e lui ci riceve la gente ci fa i conti ci studia i copioni ma non poteva perdonargli di avere istigato i colleghi a seguire il suo esempio la rivolta delle star ha assunto dopo la vittoria del super uomo proporzioni insolenti trascinati dall'ansia di raddoppiare i loro miliardi liberi dai ceppi contrattuali che li legavano agli antichi dittatori molti divi hanno fondato la loro casa cinematografica e producono film in un certo senso non sono più divi sono uomini e donne di affari che passano la giornata fra avvocati agenti delle tasse esperti di pubblicità e recitano le loro scene migliori dinanzi ai banchieri che prestano senza battere ciglio i quattrini kirk douglas gary cooper frank sinatra marlon brando bing crosby william olden merlin morrow susan ayward doris day clark gable alan ledd john wayne sono tutti produttori indipendenti i più cauti come gregory peck che si è messo in società con sam goldwyn si appoggiano alle vecchie case altri producono con grande vantaggio i film finanziati dalle vecchie case due terzi della produzione della paramount della warner brothers della fox sono in mano di questi businessmen i nuovi signori delle scrivanie hollywoodiane sono una razza inflessibile senza pietà e non bastano i fiaschi a disincantarli né gli imprevisti che costano migliaia di dollari tre anni fa william olden produsse aquile nell'infinito un film su un aereo a reazione che arrivava ad altezze sconcertanti sembrava un film destinato a incassi ciclopici il ministero della guerra lo aveva citato e gli americani sono patriottici ma lo stesso giorno in cui si dava la prima a new york l'aereo che era servito alle riprese del film esplose nel cielo del nevada nel tentativo di raggiungere un nuovo record di altezza il film diventò un fallimento e olden ci rimise tutti i quattrini giurò in quella occasione di non produrre più film qualche mese dopo si era già rimangiato il giuramento e kirk douglas per niente impressionato si accingeva a girare i vichinghi il piano di lavorazione dei vichinghi prevedeva che la maggior parte del film fosse girata lungo il mar baltico kirk andò nel mar baltico e reclutò centinaia di comparsi appiccicando sulla faccia di ognuna una fluentissima barba povero kirk ignorava che sul mar baltico soffia un vento violento mentre l'operatore girava le scene all'aperto tutte le barbe volarono e nessuna colla o sostanza gommosa risultò abbastanza efficace per fissare le barbe alle guance delle comparse la lavorazione del film venne sospesa kirk fu costretto ad attendere che le comparse si lasciassero crescere un'autentica barba quei bulbi capillari erano pigri ci vollero due mesi perché le barbe delle comparse diventassero lunghe come kirk voleva un danno finanziario preoccupante strappandosi il pizzo vero che portava da un anno kirk gemette che non avrebbe più prodotto un film invece continua imperterrito che volete per quante barbe possano volare al vento del baltico per quanti aeree a reazione possano esplodere nel cielo del nevada questi rivoluzionari in cadillac non rischiano mai la rovina economica nei film prodotti dagli altri riprendono senza fatica i trini perduti non esigono soltanto favolosi stipendi esigono anche scandalose percentuali sui guadagni o addirittura sugli incassi dei film di cui sono protagonisti fare un film per 200 mila dollari circa 130 milioni di lire senza ricevere il supplemento della percentuale è una sciocchezza definita working for nothing lavorare per nulla se si esclude il precedente di mary pickford e douglas fairbank senior che 30 anni fa pretendevano percentuali da togliere il fiato mai sotto il sole della california si vide una corsa al denaro tanto famelica william olden prende il 50 per cento sui guadagni marlon brando prende il 75 per cento sui guadagni e il 10 per cento sugli incassi gary cooper e gregory peck inspiegabilmente modesti chiedono solo il 10 per cento sui guadagni frank sinatra con paul joe volle 125 mila dollari e il 25 per cento sui guadagni e gli studios che ancora non sono morti per fallimento accettano senza reagire il ricatto senza di loro non possono girare film e i loro nomi possono da soli fare il successo di un film ci consola pensare che ancora non sono arrivati ad esigere il 100 per cento degli incassi mi disse ericann ma un giorno o l'altro pretenderanno addirittura quel che voleva mary pickford 30 anni fa parlava con amara rassignazione come se l'indomani stesso dovesse arrendersi ai nuovi padroni ma mi parve di intendere qualcos'altro nella voce che accennava ai tempi di mary pickford le richieste di mary le somme pazzesche e all'improvviso impressioni vaghe frasi quasi perdute discorsi che sembravano dimenticati si ricollegarono tra loro se lancaster olden i produttori infaticabili d'oggi fossero esistiti durante il primo boom di hollywood si sarebbero chiamati de mille laschi la storia di hollywood è tutta qui vi hanno sempre dominato i più energici i più aggressivi più fortunati quelli che sono spinti da un'avidità molto forte di fare e di guadagnare e ciò impedisce a hollywood di finire a ogni crisi hollywood rinasce con una medicina qualsiasi la ragazza platino il sistema nuovo di produzione lo schermo gigante la medicina dei vincitori e costoro rimettendo in moto questa pazzesca macchina di illusioni e di quattrini non fanno che mantenere hollywood come è sempre stata coi suoi miti e i suoi peccati appena accenna a fermarsi trascinando nella corsa tutto quanto ne fa parte veramente persino i vecchi miti del divismo non si spengono mai ecco perché ci sono celebrità quasi ferme nel tempo ecco perché si respira l'aria macabra di un museo di statue di cera ma i veri morti sono soltanto la piccola cameriera fallita star l'attendente del gas station fallito d'ivo il tassista petulante fallito caratterista che non diventeranno mai qualcuno e che se ne andranno a invecchiare come tutti gli uomini normali in qualche altro luogo dove morranno a hollywood dove tutto ricorda un cimitero e si sente puzzo di fiori appassiti non si muore mai